conrad la linea d'ombra soltanto i giovani hanno momenti simili non sto parlando dei giovanissimi no i giovanissimi in effetti non hanno momenti è il privilegio della prima riovinezza di vivere in anticipo sui propri giorni in quella bella continuità di speranza che non conosce né pause né introspezione ci si chiude alle spalle il piccolo cancello della fanciullezza e si entra in un giardino incantato dove anche le ombre splendono di promesse e ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione non perché sia una terra inesplorata si sa bene che tutta l'umanità è passata per quella stessa strada è il fascino dell'esperienza universale da cui ci si aspetta una sensazione non comune o personale un pezzetto di se stessi riconoscendo le orme di chi ci ha preceduto si va avanti eccitati e divertiti accogliendo insieme la buona e la cattiva sorte le rose e le spine come si suol dire il variegato destino comune che ha in servo tante possibilità per chi la merita o forse per chi ha fortuna già si va avanti e il tempo anche lui va avanti dinanzi si scorge una linea d'ombra che ci avvisa che anche la regione della prima giovinezza deve essere lasciata indietro questo è il periodo della vita in cui è probabile che arrivino i momenti di cui ho parlato quali momenti momenti di noia ecco di stanchezza di insoddisfazione momenti precipitosi parlo di quei momenti in cui che ancora giovane è portato a compie ratti avventati come sposarsi all'improvviso o abbandonare un lavoro senza motivo alcuno questa non è la storia di un matrimonio non ero arrivato a tanto il mio atto per quanto avventato aveva più le caratteristiche del divorzio della diserzione quasi senza una ragione plausibile per una persona di buon senso mollai il mio lavoro lasciai il mio posto abbandonai la nave di cui la cosa peggiore che si potesse dire era che era una nave a vapore perciò forse non meritava quella cieca fedeltà che comunque non serve cercare di mettere delle pezze a quello che io stesso anche allora sospettai essere poco più di un capriccio accadde in un porto dell'oriente la nave era una nave dell'oriente nel senso che allora aveva quel porto di armamento trafficava fra i sole oscure e in un mare blu trapuntato di scogli con la bandiera rossa della marina mercantile britannica sul coronamento a pop e la bandiera armatoriale in testa d'albero rossa anch'essa ma con un bordo verde e una mezzaluna bianca il suo armatore era un arabo e per di più un seid ecco perché c'era un bordo verde sulla bandiera era a capo di un grande casato di arabi degli stretti ma un suddito tanto fedele al composito impero britannico come se ne potevano trovare a levante del canale di Suez non si curava affatto della politica mondiale ma godeva di un grande potere occulto presso la sua gente per noi era indifferente chi fosse l'armatore aveva bisogno di ingaggiare dei bianchi per la parte marittima dei suoi affari e molti di quelli che lui ingaggiava per questo lavoro non avevano mai posato gli occhi su di lui dal primo all'ultimo giorno io stesso non lo vidi che una volta per puro caso su un molo un vecchietto scuro cieco da un occhio con una peste nivea e delle pantofole gialle si lasciava baciare la mano da una folla reverente di pellegrini malesi ai quali aveva fatto del bene in termini di cibo e denaro la sua elamosina ho sentito dire era molto estesa copriva quasi l'intero arcipelago ma non si dice che l'uomo caritatevole è amico di Allah un armatore arabo eccellente e picaresco sul quale non c'era bisogno di scervellarsi una più che eccellente nave scozzese perché tale era dalla chiglia in su ottima per tenere il mare facile da pulire maneggevole in tutti i sensi e se non fosse stato per la sua propulsione interna degna dell'amore di qualsiasi marinaio ancora oggi per la sua memoria conservo un profondo rispetto per quel che riguarda il genere di traffici nel quale era impegnata e il carattere dei miei compagni di bordo non avrei potuto essere più soddisfatto nemmeno se vita ai uomini fossero stati fatti su mia ordinazione da un mago benigno e all'improvviso abbandonai tutto me ne andai in quel modo per noi ragionevoli in cui un uccello vola via da un comodo ramo fu come se a mia insaputa avesse udito un sussurro ho visto qualcosa beh, forse il giorno prima mi andava tutto benissimo e il giorno dopo era sparito tutto il fascino, il sapore, l'interesse la soddisfazione tutto era uno di quei momenti capite? mi aggredì la precoce malattia della tarda giovinezza e mi portò via via da quella nave voglio dire eravamo solo quattro bianchi a bordo con un numeroso equipaggio di calasici e due sotto ufficiali malesi il capitano mi guardò fisso come se si domandasse cosa mi tormentava ma era un marinaio e anche lui era stato giovane un tempo poi sotto i folti baffi grigioferro venne a nascondersi un sorriso e osservò che naturalmente se io sentivo di dovermene andare non mi poteva trattenere con la forza e ci si accordò che sarei stato liquidato l'indomani mattina mentre uscivo dalla sala nautica improvvisamente aggiunse con un tono strano pensieroso che mi augurava di trovare quello che ero così ansioso di andare a cercare un'espressione pacata e criptica che sembrava penetrare più a fondo di quanto avrebbe potuto fare qualsiasi arnese duro come il diamante credo che avesse proprio capito il mio caso ma il secondo di macchina mi affrontò diversamente era un giovane scozzese vigoroso con il viso liscio e gli occhi chiari dalla scaletta della sala macchina emerse prima la sua faccia rossa e onesta e poi tutto l'uomo robusto le maniche della camicia rimboccate si asciugava lentamente in massicci avambracci con una manciata di stracci gli occhi chiari esprimevano un amaro disgusto come se la nostra amicizia si fosse mutata in cenere disse gravemente ah certo ho sempre pensato che avresti finito per scappare a casa e sposarti qualche stupida nel porto era tacitamente risaputo che John Neven era un terribile misogino e l'assurdità della sua sortita mi convinse che aveva deliberatamente voluto essere sgradevole molto sgradevole che aveva voluto dire la cosa che riteneva più offensiva la mia risata suonò come una scusa solo un amico poteva essere tanto arrabbiato e abbassai un po' la clesta anche il direttore di macchina considerò la mia azione da un punto di vista tutto suo ma con spirito più benevolo era giovane anche lui ma molto esile con un'ombra di barba bruna lanuginosa intorno alla faccia smunta per tutto il giorno in mare o in porto lo si vedeva camminare in fretta su e giù per il ponte a poppa con un'intensa espressione spiritualmente rapita causata dalla continua percezione di sgradevoli sensazioni fisiche nella sua economia interna perché era un dispeptico cronico il mio caso per lui era molto semplice disse che non si trattava che di fegato in disordine ma senza dubbio mi consigliò di rimanere per un altro viaggio e nel frattempo prendere una certa specialità farmaceutica in cui lui credeva ciecamente ti dirò io quello che farò comprerò due bottiglie di tasca mia per te ecco più di così non posso fare ti pare? credo che il più piccolo segno di un mio cedimento avrebbe perpetrato quell'atto crudele o generoso ormai però io ero più insoddisfatto disgustato e intestardito che mai quegli ultimi 18 mesi così pieni di esperienze nuove e variate mi sembravano uno spreco desolato e prosaico di tempo sentivo come posso esprimerlo che non potevo trarne alcuna verità quale verità? avrei fatto molta fatica a spiegarlo probabilmente se mi avessero costretto sarei semplicemente scoppiato a piangere ero abbastanza giovane per farlo il giorno dopo col comandante regolammo la faccenda alla capitaneria di porto era una grande stanza spaziosa fresca e bianca in cui la luce schermata del giorno splendeva serena lì dentro tutti funzionari e pubblico erano vestiti di bianco lungo il passaggio centrale solo le massicce scrivanie levigate luccicavano scure e le carte sparse sopra erano azzurre dall'alto degli enormi ventilatori mandavano un'aria leggera attraverso quell'interno immacolato e sulle nostre teste sudate l'impiegato dietro la scrivania a cui ci avvicinammo mostrò tutti i denti in un sorriso amichevole che mantenne finché in risposta alla sua domanda fatta meccanicamente sbarco ora in barco il mio capitano rispose no sbarco e basta e allora il suo sorriso svanì lasciando il posto a un'improvvisa solennità non mi guardo più finché non mi porse i miei documenti con un'espressione addolorata come si fosse trattato del mio passaporto per l'Ade mentre li mettevo via fece sottovoce una domanda il capitano che gli rispose allegramente no ci lascia per andare a casa esclamò l'altro scuotendo con afflizione la testa per la mia triste condizione non l'avevo mai visto fuori dall'ufficio ma si sporse dalla scrivania per stringermi la mano con aria compassionevole come di fronte a un povero diavolo che sta per essere impiccato temo di aver sostenuto senza garbo la mia parte con i modi induriti di un impenitente criminale prima di tre o quattro giorni nessuna nave postale sarebbe partita per portarmi in Inghilterra essendo ormai un marinaio senza nave che aveva rotto per qualche tempo i rapporti con il mare divenuto quindi in potenza un semplice passeggero forse sarebbe stato più appropriato che andasse a stare in albergo e ce n'era anche uno a un tiro di schioppo dalla capitaneria non alto ma in qualche modo simile a un palazzo nell'esibizione dei suoi bianchi padiglioni adorni di colonne circondate da tappeti erbosi ben pareggiati la dentro mi sarei davvero sentito un passeggero gli gettai un'occhiata ostile e diressi i miei passi verso la casa del marinaio minavo al sole senza badarci e all'ombra dei grandi alberi delle esplanade senza godermela il calore dell'oriente tropicale scendeva fra i rami fronzuti avviluppando il mio corpo vestito di abiti leggeri e aderendo alla mia insoddisfazione ribelle come per derubarla della sua libertà la casa del marinaio era un grande bungalow con un'ampia veranda e un giardinetto dall'aspetto curiosamente suburbano di cespugli e qualche albero che lo separava dalla strada quell'istituzione aveva qualcosa in comune con un circolo residenziale privato ma con un sapore leggermente governativo in più infatti veniva amministrata dalla capitaneria e il suo direttore veniva ufficialmente designato come capo cambusiere era un ometto avvizzito e infelice che messo in divisa da fantino avrebbe fatto la sua parte alla perfezione ma era ovvio che in un momento o l'altro della sua vita in qualche veste aveva avuto un legame col mare probabilmente nella definitiva veste del fallimento avrei pensato che il suo fosse un impiego facilissimo se non avesse spesso affermato che quel lavoro per una ragione o per l'altra sarebbe stato prima o poi la causa della sua morte il che era piuttosto misterioso forse istintivamente tutto era un peso per lui quel che era certo è che sembrava detestare la vergente per casa al mio ingresso là dentro pensai che doveva essere contento c'era un silenzio di tomba non si vedeva nessuno nei soggiorni e anche la veranda era deserta tranne che all'altra estremità in cui un uomo sonnecchiava abbandonato su una sedia a sdraio al rumore dei miei passi aprì un orribile occhio da pesce stracco non lo conoscevo mi ritirai da lì e attraversata la sala da pranzo un luogo molto spoglio con un ventilatore immobile sospeso sopra la tavola posta al centro andai a bussare a una porta su cui una targa di lettere nere diceva capo cambusiere come risposta al mio bussare giunse un lamento pieno di irritazione e tristezza oddio oddio cos'è successo e io entrai senza esitare era strano che una stanza simile si trovasse ai tropici poca luce e aria stantia vi regnavano sovrane quel tale aveva appeso alle finestre che erano chiuse delle ampissime e polverose tende di pizzo da pochi soldi pile di scatole di cartone come quelle che usano le modiste e le sarte in Europa ingombravano gli angoli e chissà come si era procurato il tipo di arredamento che avrebbe potuto uscire da qualche rispettabile soggiorno dell'Eastend di Londra un divano di crine di cavallo con le poltrone uguali scorsi dei sozzi coprì schienale all'uncinetto gettati su quegli orribili mobili che ispiravano orrore e meraviglia perché non si riusciva a indovinare quale misterioso accidente o necessità o fantasia li avesse raccolti lì il loro proprietario si era tolto la giubba e in pantaloni bianchi e maglietta con le maniche corte stava acquattato dietro lo schienale della poltrona strofinandosi i magri gomiti e l'udire che ero venuto per restare gli sfuggì un'espressione di sgomento ma non potei negare che c'era un mucchio di stanze libere benissimo mi può dare quella che avevo l'altra volta e mise un debole lamento da dietro una pila di scatoloni sul tavolo che forse avevano contenuto guanti fazzoletti o cravate mi domando cosa ci tenesse lui c'era odore di corallo in potrefazione o di polvere d'oriente di esemplari zoologici in quel suo buco oltre alla barriera vedevo solo la cima della sua testa e due occhi infelici puntati su di me è solo per un paio di giorni dissi per rincuorarlo non potrebbe pagare in anticipo propose con ardore certo che no sbottai appena fui in grado di parlare non ho mai sentito una cosa simile che infernale sfacciataggine si prese la testa fra le mani un gesto di disperazione che calmò il mio sdegno oh povero me povero me non esploda in questo modo lo chiedo a tutti non ci credo dissi seccamente beh ho intenzione di farlo e se voi signori accettaste tutti di pagare in anticipo riuscirai a far pagare anche a Hamilton viene sempre a terra senza un soldo e persino quando ne ha non salda i conti non so più cosa fare con lui mi insulta e dice che non posso sbattere in strada un bianco qua così se lei accondiscendesse ero stupefatto e anche poco convinto sospettavo quel tale di impertinenza gratuita gli dissi con enfasi marcata che prima avrei visto lui e Hamilton impiccati e gli chiesi di accompagnarmi nella mia stanza senza aggiungere altre sciocchezze allora da non so dove tirò fuori una chiave e mi fece strada fuori dalla sua tana passandomi davanti mi lanciò in tralizze un'occhiata ostile c'è nessuno che conosco domandai prima che se ne andasse dalla mia stanza aveva ripreso il suo solito tono insofferente e afflitto e rispose che c'era il capitano Gills di ritorno da un viaggio nel mare di Sulu c'erano anche altri due ospiti fece una pausa e poi aggiunse che naturalmente c'era Hamilton già già ah già Hamilton dissi e la miserabile creatura se ne andò con un ultimo sospiro la sua impudenza mi rodeva ancora quando all'ora di colazione entrai nella sala da pranzo era là al suo posto a sorvegliare i servitori cinesi la colazione era apparecchiata a un solo capo della lunga tavola e il ventilatore muoveva pigramente l'aria torrida soprattutto su quella nuda distesa desolata di legno lucido eravamo in quattro intorno alla tovaglia uno era lo sconosciuto che pisolava sulla sedia entrambi gli occhi erano adesso parzialmente aperti ma sembravano non vedere niente era prostrato l'eminente persona accanto a lui con le basette corte e il mento rasato con cura naturalmente era Hamilton non ho mai visto nessuno così pieno di sussiego per la posizione che la provvidenza si era compiaciuta di assegnarli nella vita mi avevano detto che mi considerava un volgare dilettante al suono che emisi tirando indietro la mia sedia sollevò non solo gli occhi ma anche le sopracciglia a capotavola c'era il capitano Gills scambiai qualche parola di saluto con lui e mi sedetti alla sua sinistra corpulento e pallido con la grande cupola splendente della sua fronte calva occhi scuri e sporgenti poteva essere qualsiasi cosa tranne un marinaio non ci si sarebbe sorpresi di venire a sapere che era un architetto a me so quanto sia assurdo sembrava un fabbricere aveva l'aspetto di un uomo da cui ci si aspettano consigli giudiziosi pareri morali con forse un paio di luoghi comuni buttati lì per l'occasione non per un desiderio di abbagliare ma per convinzione sentita sebbene molto conosciuto e apprezzato nel mondo della marina mercantile non aveva un impiego regolare era lui che non lo voleva occupava un posto speciale tutto suo era un esperto un esperto in come definirla in navigazione intricata si pensava che conoscesse più di ogni uomo al mondo di posti più remoti e appena assegnati sulle carte dell'arcipelago nel suo cervello doveva essere un vero archivio di scogli posizioni rilevamenti sagome di punte di terra forme di coste oscure profili di innumerevoli isole deserte o no qualsiasi nave che dovesse andare a Palawan per esempio o da qualche parte di vicino avrebbe voluto il capitano Gils a bordo in comando temporaneo o per assistere il comandante si diceva che per tali servizi ricevesse in anticipo l'onorario da un'importante società di armatori cinesi oltre a ciò era sempre pronto a prendere il posto di chiunque desiderasse passare un periodo di riposo a terra non era mai accaduto che un armatore avesse da ridire su un simile accordo infatti nel porto era opinione comune che il capitano Gils fosse bravo quanto i più bravi se non un po' di più ma per Hamilton era un dilettante credo che per Hamilton la generalizzazione dilettante comprendesse tutti noi anche se suppongo che nella sua mente facesse qualche distinzione non cercai di attaccare il discorso con il capitano Gils che non avevo visto più di due volte in vita mia ma naturalmente lui sapeva chi ero dopo un po' chinando il suo testone lucido verso di me mi rivolse la parola per primo nel suo modo cordiale vedendomi lì disse si immaginava che fossi venuto a terra in licenza per un paio di giorni era un uomo che parlava a voce bassa io alzai un po' la mia voce per dire che no avevo definitivamente lasciato la nave libero cittadino per un po' fu il suo commento credo di potermi definire così dalle undici dissi sentendoci parlare Hamilton aveva smesso di mangiare posò delicatamente il coltello e la forchetta si alzò e borbottando qualcosa su questo caldo infernale che toglie l'appetito uscì dalla sala quasi immediatamente lo udimmo lasciare la casa giù per i gradini della veranda al che il capitano gills osservò tranquillamente che l'amico se n'era andato di sicuro per farsi dare il mio posto il capo campusiere che fino a quel momento era rimasto addossato al muro avvicinò il suo muso da capra infelice alla nostra tavola e si rivolse a noi mestamente con lo scopo di scaricarsi dalla sua eterna lagnanza contro Hamilton quel buomo lo teneva sui carboni ardenti con la capitaneria per via dei suoi conti non pagati si raccomandava a dio perché ottenesse il mio impiego anche se in realtà cosa c'era da aspettarsi tutt'al più un sollievo temporaneo non ha di che preoccuparsi dissi non otterrà il mio posto il mio sostituto è già a bordo rimase sorpreso e mi pare proprio che alla notizia gli si allungasse il muso al capitano Gilch sfuggì un risolino soffocato ci alzammo e uscimmo nella veranda lasciando che dello sconosciuto inerte se ne occupassero i cinesi l'ultima cosa che vidi fu che gli avevano messo un piatto davanti con dentro una fetta di ananas e restavano dietro di lui a guardare cosa sarebbe successo ma l'esperimento era fallito l'uomo restava insensibile a bassa voce il capitano Gilch mi confidò che si trattava di un ufficiale di uno yacht di un qualche rajà arrivato nel nostro porto per entrare in bacino di carenaggio doveva averne vista di vita la notte prima aggiunse arricciando il naso in un modo intimo e confidenziale che mi piacque immensamente perché il capitano Gilch godeva di grande prestigio gli venivano attribuite meravigliose avventure e una misteriosa tragedia nella sua vita e nessuno aveva niente da dire contro di lui proseguì me lo ricordo la prima volta che è sbarcato qui qualche anno fa sembra ieri era un bravo ragazzo questi bravi ragazzi non potei trattenermi dal ridere forte sembrò stupito poi si unì alla risata no no non intendevo questo esclamò ciò che intendevo è che alcuni di loro qui rammolliscono molto rapidamente scherzosamente suggerì che la prima causa era il caldo bestiale ma il capitano Gilch si rivelò in possesso di una più profonda filosofia le cose lì in oriente erano rese facili per i bianchi e fin qui tutto bene la difficoltà consisteva nel continuare a conservarsi bianchi e alcuni di questi bravi ragazzi non sapevano come fare mi diede un'occhiata indagatrice e con un tono benevolo da vecchio zio di punto in bianco mi chiese perché ha lasciato il suo posto mi venne subito una rabbia tremenda perché è facile immaginarsi quanto sia esasperante una domanda simile per uno che non lo sa dissi a me stesso che avrei dovuto mettere a tacere quel moralista e a lui ad alta voce con un tono di sfida cortese perché lo disapprova era troppo sconcertato per far altro se non mormorare confuso io in linea generale e poi mi lasciò perdere ma si ritirò in buon ordine coprendosi sotto un'osservazione goffamente spiritosa che anche lui stava rammollendosi e che quella quando era a terra era l'ora della sua piccola siesta pessima abitudine pessima abitudine il candore di quell'uomo avrebbe disarmato una suscettibilità ancora più giovanile della mia perciò quando il giorno dopo a colazione piegò la testa verso di me per dirmi che la sera prima aveva incontrato il mio ex capitano aggiungendo sottovoce gli dispiace molto che lei se ne sia andato non aveva mai avuto un secondo che gli andasse così bene gli risposi sinceramente senza affettazione che in tutti i giorni passati in mare non mi ero mai trovato così a mio agio su nessun'altra nave o con nessun altro comandante e allora mormorò non le hanno detto capitano Gills che voglio andare a casa sì disse benevolo una cosa simile l'ho già sentita dire spesso e con questo esclamai pensando che fosse l'uomo più ottuso e senza immaginazione che avessi mai incontrato non so cos'altro avrei detto ma proprio allora entrò Hamilton fortemente in ritardo e si sedette al suo solito posto perciò mi limitai a borbottare comunque questa volta la vedrà fare Hamilton magnificamente sbarbato fece un rapido cenno al capitano Gills ma non ebbe la compiacenza di alzare neanche le sopracciglia verso di me e quando aprì bocca fu solo per dire al capo cambusiere che quello che c'era nel suo piatto non era cibo da presentare a un gentiluomo l'individuo a cui si era rivolto sembrava troppo abbattuto anche solo per gemere alzò soltanto gli occhi al cielo sul ventilatore e fu tutto il capitano Gills e Dio c'è il zammo da tavola e lo sconosciuto vicino a Hamilton seguì il nostro esempio destreggiandosi con difficoltà per mettersi in piedi il poveretto aveva cercato di ficcarsi in bocca un po' di quel cibo indegno non perché avesse fame ma credo solamente per riacquistare il rispetto di se stesso ma dopo aver lasciato cadere la forchetta un paio di volte e non aver ottenuto alcun successo complessivo era rimasto seduto immobile con un'aria molto mortificata in aggiunta a uno sguardo orribilmente vitreo a tavola si è Gills che io avevamo evitato di guardare dalla sua parte sulla veranda si fermò di colpo con lo scopo di rivolgersi ansiosamente un lungo discorso che io non riuscì assolutamente a capire suonava come un'orribile lingua sconosciuta ma quando il capitano Gills dopo solo un attimo di riflessione gli rispose con cordiale familiarità sì certo su questo punto ha proprio ragione sembrò davvero molto gratificato e si allontanò camminando persino quasi dritto per cercare un astraio più lontana cos'è che cercava di dire chiese disgustato non lo so non bisogna mai infierire contro il prossimo di sicuro si sente già abbastanza disgraziato e domani si sentirà ancora peggio ma giudicare dal suo aspetto sembrava impossibile mi chiesi quale specie di complessi bagordi lo avesse ridotto in quello stato indicibile la benevolenza del capitano Gills era guastata da una curiosaria di compiacimento che non mi piacque dissi con un risolino beh ci sarà lei a occuparsi di lui fece un gesto come a rifiutare tale onore si sedette e prese un giornale feci lo stesso i giornali erano vecchi e poco interessanti riempiti soprattutto di deprimenti descrizioni stereotipate delle celebrazioni per il primo giubileo della regina vittoria probabilmente saremmo rapidamente scivolati in un pisolino poveridiano tropicale se dalla sala da pranzo non si fosse alzata la voce di Hamilton era ancora lì a finire di mangiare i due ampi battenti della porta erano sempre spalancati e non poteva rendersi conto di quanto le nostre sedie fossero vicine alla porta riusci di rispondere a voce alta e altezzosa a qualche affermazione azzardata del capo cambusiere non intendo subire pressioni saranno ben contenti di avere un gentiluomo immagino non c'è fretta seguì un concitato bisbiglio del cambusiere e poi si udì di nuovo Hamilton intervenire con disprezzo ancora accresciuto cosa quel giovane coglione che si crede chissà chi perché è stato per tanto tempo il primo ufficiale di Kent ridicolo Gills ed io ci guardammo dato che Kent era il nome del mio ex comandante il sussurro del capitano Gills è di lei che parla mi sembrò puro fiato sprecato il capo cambusiere doveva essere fermo sul suo punto quale che fosse perché si udì di nuovo Hamilton ancora più arrogante se possibile è anche molto accalorato sciocchezze buon uomo non ci si mette in competizione con un volgare dilettante come quello c'è tutto il tempo che si vuole poi ci fu uno spostarsi di seggiole passi nell'altra stanza e pianucolose suppliche del cambusiere che inseguiva Hamilton persino fuori di casa attraverso l'ingresso principale è un uomo estremamente insolente osservò oziosamente pensai io il capitano Gills molto insolente non è che lei lo abbia offeso in qualche modo vero? mai parlato con lui in vita mia risposi di cattivo umore non si riesce a capire cosa intenda con mettersi in competizione ha cercato di avere il mio posto dopo che l'avevo lasciato e non l'ha ottenuto ma questo non si chiama competere il capitano Gills pensosamente soppesò nella sua grossa testa benevola questa possibilità non l'ha ottenuto ripete molto lentamente no era anche improbabile con Kent a Kent dispiace moltissimo che lei lo abbia lasciato la ritiene anche un buon marinaio gettai via il giornale che avevo ancora in mano mi tirai su con la schiena sulla sedia e sbattei il palmo aperto della mano sul tavolo mi sarebbe piaciuto sapere perché continuava a battere su quel tasto che era affar mio assolutamente mio era davvero esasperante il capitano Gills mi ridusse al silenzio con l'assoluta equanimità del suo sguardo non c'è niente per cui si debba arrabbiare mormorò tollerante con l'evidente desiderio di spianare l'infantile irritazione che aveva sollevato ed era un uomo dall'aspetto così inoffensivo e cercai di spiegarmi quanto più mi era possibile e dissi che non volevo più sentir parlare di ciò che era morto e sepolto era stato molto bello finché era durato ma adesso che era finito preferivo non parlarne e neanche pensarci avevo deciso di tornare a casa ascoltò tutta la tirata nell'atteggiamento caratteristico di chi tende l'orecchio come per cogliere da qualche parte una nota falsa poi si raddrizzò e parve ponderare sagacemente la faccenda si me l'ha detto che intendeva andare a casa qualcosa in vista lì invece di rispondergli che non erano affatto affari suoi dissi risentito niente niente che io sappia in effetti avevo già considerato quel lato piuttosto oscuro della situazione che mi ero creato lasciando improvvisamente il mio impiego più che soddisfacente e non ne ero tanto entusiasta morivo dalla voglia di dire che il buonsenso non aveva niente a che vedere con il mio atto e che perciò non meritava l'interesse che il capitano Gills sembrava rivolgergli ma adesso stava fumando una corta pipa di legno e sembrava così innocente tonto e banale che non valeva la pena di sconcertarlo con la verità e con il sarcasmo soffiò una nuvola di fumo poi mi sorprese con un brusco già pagato il biglietto sopraffatto dalla spudorata pertinacia di un uomo con cui era piuttosto difficile essere villani risposi con esagerata amitezza che non lo avevo ancora fatto pensavo che ne avrei avuto tutto il tempo l'indomani e stavo per andar bene per sottrarre il mio intimo a quei fatui immotivati tentativi di provare di quale stoffa fosse fatto quando lui depose la pipa in una maniera molto significativa capite come se fosse giunto il momento critico e si appoggiò di traverso sopra la tavola che c'era in mezzo a noi ah non l'ha ancora pagato abbassò la voce con fare misterioso beh allora penso che lei debba sapere che qui sta succedendo qualcosa mai in vita mia mi ero sentito più distaccato dagli accadimenti terreni liberato dal mare per un po' il marinaio conservavo la mentalità di assoluta indipendenza da tutti gli affari di terra in che modo potevano riguardarmi osservavo l'animazione del capitano gills con più derisione che con curiosità alla sua domanda chiaramente introduttiva se il cambusiere quel giorno mi avesse parlato risposi di no nel resto anche se ci avesse provato non sarebbe stato per nulla incoraggiato non ci tenevo affatto che quel tale mi parlasse senza rilevare la mia petulanza con aria di grande sagaccia il capitano gills cominciò a raccontarmi minuziosamente una storia a proposito di un soldato indigeno della capitaneria una storia senza caponecoda quella mattina si era visto un soldato indigeno passare per la veranda con in mano una lettera dentro a una busta della capitaneria come abitudine di questi tizi l'aveva mostrata al primo bianco che aveva incontrato che era il nostro amico dell'astraio che come sapevo che come sapevo non era in condizione di interessarsi a nessuna faccenda sotto la luna era riuscito solo a fare un gesto per allontanare l'indigeno questi dopo aver vagato per la veranda sarà imbattuto nel capitano gills che per un caso straordinario si trovava lì a questo punto si fermò per lanciarmi un'occhiata penetrante la lettera proseguì era indirizzata al capo cambusiere ma il capitano ellis il capitano di porto cosa poteva voler comunicare al capo cambusiere che comunque andava ogni mattina a rapporto nel suo ufficio a prendere ordini o altro non era passata più di un'ora da quando era tornato e già un soldato indigeno della capitaneria lo cercava per dargli un biglietto ma di cosa si trattava e nezzò a fare delle ipotesi non poteva essere per questa cosa e neanche per quella quanto all'altra ancora era impensabile la fatuità di tutto ciò mi lasciava a bocca aperta se quel uomo non fosse stato in fin dei conti una persona simpatica l'avrei sentito come un insulto invece mi dispiaceva solo per lui qualcosa di più profondamente serio nel suo sguardo mi impedì di ridergli in faccia e anche di sbadigliargli in faccia lo fissavo solo stupito il suo tono si intensificò di mistero non appena ricevuto il biglietto il tizio intendeva il cambusier si era precipitato a prendere il cappello ed era schizzato fuori di casa ma non perché il biglietto lo chiamasse alla capitaneria non era andato lì non era rimasto fuori abbastanza in pochissimo tempo era tornato sempre a precipizio aveva gettato via il cappello e si era girato senza sosta per la sala da pranzo gemendo e colpendosi la fronte tutti questi fatti queste manifestazioni impressionanti erano state osservate dal capitano gils sembrava che da allora non avesse fatto che pensarci su cominciai a provare per lui una profonda compassione e in un tono che cercai di rendere il meno sarcastico possibile dissi che ero contento che avesse trovato qualcosa che gli tenesse occupate le ore del mattino con la sua disarmante semplicità mi fece osservare quasi fosse un affare rilevante com'era strano che lui si fosse trovato a trascorrere la mattinata in casa di solito era fuori prima di colazione in giro per vari uffici a incontrare i suoi amici al porto eccetera alzandosi non si era sentito tanto bene niente di particolare ma sufficiente per renderlo pigro tutto ciò con uno sguardo fisso sostenuto che unito alla generale inanità del discorso dava l'impressione di una lieve e tediosa follia e quando accostò un po' la sedia e abbassò la voce nella nota più bassa del mistero mi balenò l'idea che un'alta reputazione professionale non era necessariamente una garanzia di mente sana allora non sospettavo neppure di non sapere in cosa consistesse esattamente la salute mentale e quanto fosse una questione delicata e tutto sommato irrilevante con l'intenzione di non urtare i suoi sentimenti lo guardai ammiccando in maniera molto interessata ma quando ricominciò per chiedermi con aria misteriosa se mi ricordavo che cosa era appena accaduto fra il nostro cambuciere e quel Hamilton grugni solo un acido assenso e voltai la testa dall'altra parte sì ma si ricorda ogni parola insistette con molto tatto non lo so non sono affari miei sbottai mandando oltretutto a voce alta il cambuciere Hamilton all'inferno intendevo essere molto energico e drastico ma il capitano Gills continuava a fissarmi pensieroso niente lo poteva fermare proseguì per sottolineare che ero coinvolto in prima persona in quella conversazione e siccome io cercavo di mantenere un atteggiamento di disinteresse divenne decisamente implacabile avevo udito cosa aveva detto quel uomo sì e allora che cosa ne pensavo voleva saperlo siccome l'aspetto del capitano Gills faceva escludere il sospetto di subdola malizia arrivai alla conclusione che fosse semplicemente il più rozzo idiota sulla terra mi disprezzai quasi per la mia debolezza di cercare di illuminare il suo comune comprendonio e ne sei a dire che non pensavo niente di niente Hamilton non era degno neanche di un pensiero ciò che un simile insolente fa nullone sì è proprio così intervenne il capitano Gills pensava o diceva che era al di sotto del disprezzo di qualsiasi uomo rispettabile e io non intendevo prestarvi la minima attenzione questo atteggiamento mi sembrava talmente semplice e ovvio che fui davvero stupito nel vedere che Gills non faceva nessun segno di assenso una stupidità così totale era quasi interessante cosa vorrebbe che facessi chiesi ridendo non posso mica attaccar briga con lui per l'opinione che ha di me certo che ho sentito il modo sprezzante con cui allude a me ma il suo disprezzo non mi tocca non l'ha mai espresso davanti a me persino poco fa non sapeva che lo potevamo sentire mi renderai solo ridicolo l'inguaribile Gills continuò a tirare dalla sua pipa imbronciato tutt'antratto il suo volto si illuminò e lei non mi ha capito disse davvero sono molto contento di saperlo risposi con crescente animazione ribadì che non l'avevo capito assolutamente e con un tono in cui l'autocompiacimento aumentava mi disse che c'erano poche cose che sfuggivano alla sua attenzione e che era abituato a riflettersi sopra e di solito con la sua esperienza della vita e degli uomini arrivava alla conclusione giusta questo piccolo autoelogio calzava naturalmente a pennello con la laboriosa inanità di tutta la conversazione tutto l'insieme rafforzava in me quell'oscura sensazione che la vita non fosse che uno spreco di giorni sensazione che quasi inconsciamente mi aveva strappato da una comoda posizione lontano da uomini che mi piacevano per sfuggire alla minaccia del vuoto e trovare l'inanità alla prima svolta avevo di fronte un uomo di carattere e di riconosciute realizzazioni che si rivelava un assurdo terribile chiacchierone e probabilmente era così dappertutto da est a ovest da cima a fondo della scala sociale fui preso da un grande scoraggiamento un torpore spirituale la voce di Gills continuava compiaciuta la voce stessa della vuota presunzione universale e non ero più adirato per questo non c'era niente di originale niente di nuovo di sorprendente e di istruttivo da aspettarsi dal mondo nessuna opportunità di scoprire qualcosa su se stessi nessuna sagzezza da acquisire nessuna gioia da godere era tutto stupido sopravvalutato proprio come il capitano Gills e così sia il nome di Hamilton improvvisamente mi giunse all'orecchio e mi risvegliò pensavo che avessimo chiuso con lui dissi col più grande disgusto possibile sì ma considerando che cosa ci è appena capitato di udire penso che lei dovrebbe farlo dovrai farlo mi tirai su dalla sedia sballordito fare cosa il capitano Gills mi guardò sorpresissimo ma come quello che l'ho appena consigliato di tentare andare a chiedere al cambusiere cosa c'era in quella lettera della capitaneria chiedendoglielo fuori dai denti per un po' rimaci senza parole ecco qualcosa di inaspettato e abbastanza originale da essere tutto sommato incomprensibile mormorai sopraffatto dallo stupore ma pensavo che fosse Hamilton che lei esattamente non lasci fare a lui faccia quello che le dico affronti quel cambusiere lo farà saltare ci scommetto insistette il capitano Gills agitandomi davanti solennemente la pipa che bruciava senza fiamma poi fece tre rapide tirate la sua aria di trionfante acutezza era indescrivibile eppure l'uomo rimaneva una creatura stranamente simpatica la benevolenza emanava da lui in modo ridicolo indulgente solenne irritante anche ma con la freddezza di chi ha a che fare con l'incomprensibile gli feci notare che non vedevo una sola ragione per espormi a subire un'umiliazione da parte di quel tale era un campusiere molto insoddisfacente e anche un povero disgraziato ma piuttosto avrei preferito strozzarlo strozzarlo ripete il capitano Gills in tono scandalizzato le servirebbe a molto a un'osservazione così fuori luogo non si poteva certo rispondere ma il senso dell'assurdo stava infine iniziando a esercitare il suo ben noto fascino sentì che non dovevo più permettere a quell'uomo di parlarmi mi alzai osservando seccamente che lui la sapeva troppo lunga per me che non riuscivo proprio a capirlo prima che avessi il tempo di allontanarmi parlò di nuovo con tono mutato in ostentazione e tirando nervosamente la pipa beh lui comunque è un poveraccio che non conta niente lei glielo chieda soltanto tutto qui quel nuovo tono mi colpì o meglio mi fece fermare ma la salute mentale riafferrò il suo potere e lasciai immediatamente la veranda dopo avergli rivolto un sorriso senza gioia con quattro passi mi trovai nella sala da pranzo ora ripulita e vuota ma in quel breve lasso di tempo mi vennero vari pensieri del tipo che Gils si era voluto prendere gioco di me con lo scopo di divertirsi a spese mie che io probabilmente sembravo uno sciocco e un ingenuo che della vita sapevo molto poco con mia grande sorpresa la porta che mi stava in fronte sul lato opposto della sala da pranzo si spalancò era la porta contrassegnata dalla scritta capo cambusiere e proprio lui uscì di corsa dalla sua tana soffocante e meschina con quella sua aria assurda di animale braccato per dirigersi alla porta del giardino ancora oggi ancora oggi non so cosa mi indusse a gridargli ehi lei aspetti un momento forse fu l'occhiata di traverso che mi lanciò forse ero ancora sotto l'influenza della misteriosa serietà del capitano Gils insomma fu un impulso di qualche tipo un effetto di quella forza che è nascosta nelle nostre vite e le modella in un modo o nell'altro se quelle parole non mi fossero sfuggite dalle labbra la volontà non c'entrava per nulla la mia esistenza sarebbe stata sicuramente ancora quella di un uomo di mare ma avrebbe seguito un corso che oggi non so concepire no la mia volontà non c'entrava affatto infatti non appena ebbe emesso quelle fatali parole me ne pentii subito se quell'uomo si fosse fermato e mi avesse affrontato avrei dovuto battere in ritirata perché non avevo nessuna intenzione di continuare lo stupido gioco del capitano Gils né a specie mie né a quelle del cambusiere ma a questo punto si risvegliò l'antico istinto umano della caccia poiché lui aveva fatto finta di essere sordo io senza pensarci un attimo mi precipitai lungo il lato della tavola dalla mia parte e gli tagliai la strada proprio davanti alla porta perché non risponde quando le si rivolge la parola chiese aspramente si appoggiò contro lo stipide della porta sembrava molto abbattuto la natura umana temo non ha solo lati buoni né a molti di cattivi sentivo crescermi dentro la rabbia solo perché credo la mia preda sembrava così infelice e miserabile pezzente senza tanti complimenti lo aggredì so che stamane è giunta qui una comunicazione ufficiale da parte della capitaneria di porto non è forse vero invece di rispondere come avrebbe potuto che mi facessi gli affari miei incominciò a spiegare in un tono piagnucoloso ma sfacciato che non era riuscito a trovarmi da nessuna parte quella mattina non potevo mica pretendere che mi corresse dietro per tutta la città e che gliel'ha chiesto gridai ma proprio in quell'istante aprì gli occhi e capì il recondito significato delle cose e dei discorsi la cui vacuità mi aveva tanto sconcertato e infastidito dissi che volevo sapere cosa c'era in quella lettera la mia durezza nel tono e nel comportamento era solo a metà simulata la curiosità a volte può essere un sentimento molto violento si rifugiò in una ritrosia stupida e biascicata borbottò che la cosa non poteva interessarmi mi avevo detto che tornavo a casa e dato che tornavo a casa non capiva perché lui avrebbe dovuto era quella la direzione del suo argomentare tanto futile da essere quasi un insulto un insulto all'intelligenza voglio dire in quella regione crepuscolare fra la giovinezza e la maturità in cui mi trovavo allora si è particolarmente sensibili a questo genere di insulti temo di dover confessare che trattai molto rudemente quel cambusiere che non era in grado di affrontare niente e nessuno colpa forse dell'abitudine alle droghe o alle sbronze solitarie e quando persi il controllo al punto da insultarlo crollò e cominciò a strillare non voglio dire che la sua fosse una grossa rimostranza fu solo una sternazzante confessione cinica debole penosamente debole neanche tanto coerente ma a ogni modo in un primo momento riuscì ad ammutolirmi distolsi gli occhi da lui ingiustificabile indignazione e sul vano della porta della veranda scorsi il capitano Gills che sopraintendeva quietamente alla scena che se mi posso esprimere in questo modo era opera sua la nera pipa fumante risaltava sul suo grosso pugno paterno come pure il luccichio della pesante catena d'oro dell'orologio attraverso il petto della sua giubba bianca emanava un'aria di sagaccia virtuosa abbastanza intensa perché qualsiasi anima innocente corresse da lui fiduciosamente e io corsi da lui roba da non credere esclamai era l'avviso che cercano un capitano per una nave c'è sicuramente un comando vacante e questo qui si è messo la cosa in tasca il cambusiere gridò con accento di grande disperazione mi farà morire lei sarà la mia morte la potente sventola che diede alla sua fronte sciagurata fu anch'essa molto forte ma quando mi girai a guardarlo non c'era più era scappato via da qualche parte e questa improvvisa scomparsa mi fece ridere qui si concludeva l'incidente almeno per me il capitano gilse invece con gli occhi fissi sul luogo in cui prima c'era il cambusiere incominciò a tirare la sua smagliante catena d'oro finché dal profondo della tasca uscì finalmente l'orologio come la solida verità esce da un pozzo solennemente lo ripose e solo allora disse sono soltanto le tre farà a tempo se non ne perde si intende a tempo per cosa chiesi santo dio per la capitaneria bisogna indagare a rigore aveva ragione ma non ho mai provato gusto a indagare a smascherare la gente e a tutto il lavorio di quel genere senza dubbio eticamente meritorio e la mia opinione sull'episodio era puramente etica se qualcuno doveva essere la causa della morte del cambusiere non vedevo perché non avrebbe dovuto essere il capitano gils stesso uomo maturo e ragguardevole e residente fisso mentre io in confronto mi sentivo un semplice uccello di passo in quel porto infatti si poteva dire che avessi già rotto i ponti borbottai che non intendevo che non contava niente per me niente ripete il capitano gils dando qualche segno di quieta posata indignazione kent mi aveva avvertito che lei è un tipo strano fra poco mi dirà che un comando per lei non significa niente e dopo tutto il disturbo che mi sono preso il disturbo mormorai senza capire quale disturbo tutto quel che ricordavo era di essere stato disorientato e annoiato dalla sua conversazione per un'ora buona dopo colazione e lui lo chiamava prendersi un gran disturbo mi stavo guardando con un autocompiacimento che sarebbe stato insopportabile in qualsiasi altro uomo e all'improvviso come girando la pagina di un libro si rivela una parola che rende chiaro il senso di tutto quello che c'era prima capii che quella faccenda aveva anche un altro aspetto oltre a quello etico ma non mi mossi lo stesso il capitano geese perse un po' di pazienza con uno sbuffo eroso della sua pipa volto alle spalle alla mia esitazione ma non era esitazione da parte mia ero stato messo se così mi posso esprimere mentalmente in folle ma non appena mi accorsi che questo stantio infruttuoso mondo del mio scontento conteneva una cosa come la possibilità di un comando riacquistai la capacità di movimento c'era un bel tratto dalla casa del marinaio alla capitaneria ma con la parola magica comando in testa mi trovai improvvisamente sulla banchina come se fossi stato trasportato lì in un batter d'occhi davanti a un portale in pietra bianca lavorata in cima a una fuga bianca di gradini bassi tutto sembrava scorrere rapidamente verso di me la grande rada alla mia destra fu solo un guizzo di blu e il freddo atrio nella penombra mi inghiottì sottraendomi al caldo e allo splendore di fuori di cui non ero stato consapevole fino al momento in cui non entrai l'ampia scalinata interna si insinuò da sola in qualche modo sotto ai miei piedi il comando è una potente formula magica i primi esseri umani che notai distintamente da quando mi ero separato dalla schiena corrucciata del capitano gills furono i marinai della lancia a vapore del porto che ozziavano sullo spazioso pianerottolo su cui dava l'arcata coperta da una tenda dell'ufficio da ruolamento fu lì che la baldanza mi abbandonò l'atmosfera di ufficialità ucciderebbe qualsiasi cosa che respiri aria di slancio estinguerebbe la speranza e anche la paura nella supremazia della carta e dell'inchiostro passai con passo pesante sotto la tenda che il timoniare malese della lancia del porto alzò per me non c'era nessun ufficio a parte gli impiegati che scrivevano in due file industriose ma il commissario capo saltò giù dal suo posto elevato e percorse velocemente le spesse stuoie per venirmi incontro nell'ampio passaggio centrale aveva un nome scozzese ma la carnagione era intensamente olivastra la barba corta nera come l'ebano e gli occhi neri anch'essi avevano un'espressione languida mi chiese confidenzialmente vuole vederlo dato che tutta la leggerezza di spirito e di corpo mi aveva abbandonato al contatto con l'ufficialità guardai lo scriba senza brio e chiese a mia volta stancamente cosa ne dice serve a qualcosa caspita lui ha chiesto di lei due volte oggi questo enfatico lui era l'autorità suprema il sopraintendente di marina il comandante del porto una persona molto importante agli occhi di ogni imbrattacarte di quella stanza ma questo era niente in confronto all'opinione che lui aveva della sua grandezza il capitano Ellis si considerava una specie di pagana emanazione divina il sostituto di Nettuno per tutti i mari circostanti se non erano proprio le onde ad essere governate da lui aspirava a governare il destino dei mortali le cui vita ci giocavano sul mare aspirava a governare il destino dei mortali le cui vita si giocavano sul mare questa edificante illusione lo rendeva inquisitore e autoritario e siccome aveva un temperamento collerico c'era chi lo temeva veramente era temibile non in virtù del posto che occupava ma a causa delle sue presunzioni illegittime non avevo mai avuto a che fare con lui prima di allora dissi ah si ha chiesto di me due volte forse è meglio che vada da lui deve deve andarci il commissario capo mi fece strada con fare affrettato girando attorno a tutto il sistema di scrivanie fino a una porta alta e imponente che aprì con un gesto deferente del braccio entrò deciso ma senza lasciare andare la maniglia e dopo aver lanciato un fugace sguardo riverente attraverso la stanza mi invitò silenziosamente ad entrare con un cenno del capo scivolò fuori immediatamente e chiuse la porta dietro di me con estrema delicatezza tre ampie finestre davano sul porto non si vedeva che l'azzurro intenso del mare scintillante e l'azzurro più pallido del cielo luminoso nelle profondità e nelle distanze di quelle azzurre tonalità il mio occhio colse la macchia bianca di un grande bastimento appena arrivato e in procinto di ancorarsi nella rada esterna una nave dalla patria dopo forse novanta giorni di mare c'è qualcosa di commovente in una nave che arriva in porto dal mare e ripiega le sue bianche ali per riposare la cosa successiva che vidi fu il ciuffo dei capelli argenti che sormontava la rossa faccia liscia del capitano Ellis faccia da apoplettico se non avesse avuto un aspetto così fresco il nostro vice di Nettuno non aveva la barba sul mento e non si vedeva il tridente ergersi in qualche angolo al posto dell'ombrello ma in mano teneva una penna la penna ufficiale molto più potente della spada nel fare o disfare la fortuna di semplici uomini che si affannano con la testa girata sopra la spalla seguiva il mio procedere quando gli fui bene a tiro per tutto saluto mi apostrofò con un ma dove è stato fino adesso da far scuotere i nervi siccome questo non lo riguardava non feci il minimo caso alla sua sparata dissi semplicemente che avevo sentito dire che c'era bisogno di un capitano per una nave a vela ed essendo un marinaio di navigazione a vela pensavo di far domanda mi interruppe cosa al diavolo lei è l'uomo giusto per quel posto anche se ce ne fossero venti altri a volerlo ma non abbia timore hanno tutti paura a prenderlo ecco come stanno le cose era molto irritato con innocenza dissi davvero signore mi domando perché perché sbuffò paura delle vele paura di un equipaggio bianco troppe seccature troppo lavoro troppo tempo lontani da qui vita comoda e sedia a sdraio e il loro genere e io ho seduto qui con davanti il cablogramma del console generale mentre l'unico uomo adatto al posto non si trova da nessuna parte cominciavo a pensare che anche lei volesse tirarsi indietro non ci ho impiegato molto ad arrivare in ufficio obiettai con calma eppure lei qui ha una buona reputazione grugni selvaggiamente senza guardarmi sono molto contento di sentirlo dire da lei signore dissi sì ma quando c'è bisogno di lei non la si trova lo sapeva di non farsi trovare quel vostro cambusiere non oserebbe trascurare un messaggio che viene da questo ufficio dove diavolo si è cacciato per quasi tutto il giorno mi limitai a sorridergli gentilmente sembrò ricomporsi e mi invitò ad accomodarmi mi spiegò che siccome a Bangkok era morto il capitano di una nave britannica il console generale gli aveva telegrafato di mandargli un marinaio competente per prenderne il comando sembrava che nella sua mente io fossi l'uomo giusto fin dal primo momento anche se per salvare le apparenze anche se per salvare le apparenze la notificazione indirizzata alla casa del marinaio fosse in termini generali era già stato preparato un contratto me lo diede da leggere e quando glielo restituì dicendo che ne accettavo le condizioni il vice di Nettuno lo firmò lo timbrò con la sua augusta mano lo piegò in quattro era un foglio azzurro di carta protocollo e me lo porse un dono dal potere straordinario perché quando lo misi in tasca mi girava un po' la testa questa è la sua nomina al comando disse con una certa gravità una nomina ufficiale che impegna gli armatori alle condizioni che lei ha accettato dunque quando è pronto a partire? dissi che se era necessario sarei stato pronto quel giorno stesso mi prese in parola con grande prontezza il piroscafo Melita partiva per banco quella sera verso le 7 avrebbe chiesto ufficialmente al suo comandante di darmi un passaggio e di aspettarmi fino alle 10 poi si alzò dalla sua sedia ufficiale e anch'io mi alzai la testa mi girava non c'erano dubbi e sentivo una pesantezza nelle membra come se fossero diventate più grosse di quando mi ero seduto su quella sedia fece un inchino di commiato nei modi del capitano Ellis divenne visibile un sottile cambiamento come se avesse lasciato da parte il tridente da vice Nettuno in realtà era solo la sua penna ufficiale che aveva deposto nell'alzarsi mi strinse la mano dunque eccovi ufficialmente nominato comandante sotto la mia responsabilità stava accompagnandomi verso la porta come mi sembrava lontana mi muovevo come un uomo in ceppi ma finalmente la raggiungemmo l'aprii con la sensazione di aver per le mani la materia dei sogni e infine il cameratismo tra i naviganti si impose più forte delle differenze d'età e di grado sociale si impose con la voce del capitano Ellis arrivederci e buona fortuna disse con tanta cordialità che fui appena capace di rispondergli con uno sguardo di gratitudine poi gli volsi le spalle e uscii per non rivederlo mai più in vita mia non avevo ancora fatto tre passi nell'ufficio esterno quando vidi alle mie spalle una voce burbe alta autoritaria la voce del nostro vice Nettuno si stava rivolgendo al capo ufficio in barchi il quale quanto sembra dopo avermi fatto entrare era rimasto tutto il tempo a gironzolare nei dintorni signor R disponete che la motolanza dell'ufficio sia pronta alle nove e mezza per portare il capitano a bordo del melita rimasi meravigliato dallo stupefatto assenso di R signor sì che corse fuori innanzi a me verso l'imbarcatoio la mia nuova posizione mi pesava così poco che non mi rese conto di essere io il capitano oggetto di quest'ultimo atto di cortesia era come se da un tratto mi fossero cresciute le ali alle spalle non facevo che sfiorare quel pavimento ben lustro ma R era rimasto impressionato accipicchia esclamò quando fummo all'imbarcatoio mentre i marinai e malesi della motolanza scrutavano rigidi l'uomo per cui quella sera avrebbero dovuto trattenersi in servizio fino ad ora tarda invece di correre ai loro giochi d'azzardo alle loro ragazze o alle loro semplici gioie domestiche accipicchia la sua lanza ma cosa gli avete fatto mi fissava con occhi pieni di rispettosa curiosità rimasi confuso era per me non ne avevo la minima idea belbettai quello scosse più volte il capo sì e l'ultima persona a cui l'ha concessa prima di voi era un duca proprio così ritengo si aspettasse il mio immediato svenimento ma avevo troppa fretta per mettermi a dare spettacolo delle mie emozioni i miei sentimenti erano già presi in un tal turbina che quella notizia da capogiro faceva ben poca differenza cadde nel ribollente calderone del mio cervello e la portai via con me dopo un breve momento di cordialità nel concedarmi da R il favore dei grandi spande un'aureola intorno ai fortunati oggetti delle loro scelte il bravo uomo mi chiese se potesse fare qualcosa per me mi conosceva soltanto di vista e ben sapeva che non si saremmo mai più incontrati io come gli altri naviganti del porto ero soltanto un soggetto per registrazioni burocratiche per compilazioni di moduli solitamente da trattare con tutta l'artificiosa superiorità degli scritturali rispetto agli uomini che sbattono il naso nella realtà esterna alle sacrali mura degli uffici che razza di fantasmi dovevano essere ai suoi occhi puri simboli con cui giocherellare nei libri e nei grossi registri senza cervello né muscoli né problemi qualcosa di poco utile e senz'altro inferiore e costui terminato il suo orario d'ufficio mi chiedeva se potesse servirmi in alcun modo avrei dovuto per dirla esatta avrei dovuto commuovermi fino alle lacrime ma non ci pensai neppure questo era soltanto un altro meraviglioso evento di quella giornata di prodigi mi congedai come se fosse nient'altro che un simbolo fruttuai giù per le scale fruttuai fuori dall'imponente ufficialissimo portale continuai a fluttuare per la strada uso questa parola piuttosto del verbo volare perché ho la chiara sensazione che sebbene sollevato un palmo da terra per effetto della mia esaltazione giovanile i miei movimenti fossero abbastanza pacati a quella porzione di umanità in giro per le strade un miscuglio di bianchi bruni e gialli io presentavo l'aspetto di un uomo che cammina abbastanza tranquillo e nessuno avrebbe potuto essere tanto assorto in sé da eguagliare il mio profondo distacco da tutte le forme e i colori di questo mondo distacco che era per così dire assoluto e tuttavia ad un tratto riconobbi Hamilton lo riconobbi senza sforzo senza scosse o sobbalzi eccolo là che se ne andava l'emme l'emme verso l'ufficio portuale con quella sua aria tronfia impettito e presuntuoso il suo volto rosso si notava di lontano fiammeggiava sul lato in penombra della strada anche egli mi aveva scorto qualcosa forse un'inconsapevole esuberanza di umori mi spense a fargli un elaborato cenno di saluto con la mano tale mancanza di buon gusto insorse ancora prima che mi rendessi conto d'esserne capace lo scontro con la mia sfacciataggine lo bloccò di colpo né più né meno come avrebbe fatto un proiettile credo davvero che barcollasse benché non avrebbe modo di vederlo cadere al suolo in un attimo l'avevo oltrepassato e non mi voltai avevo dimenticato la sua esistenza per quel che ne ebbi coscienza i dieci minuti che seguirono avrebbero potuto essere dieci secondi o dieci secoli la gente avrebbe potuto cadere stecchita attorno a me le case crollare i cannoni tuonare e non vi avrai posto mente stavo pensando per giove ce l'ho quel l'ho lo comando io mi era arrivato in modo affatto imprevisto nelle mie povere fantasticherie ma accorsi che la mia immaginativa aveva sempre battuto strade convenzionali e che le mie speranze erano sempre state una merza in colore avevo pensato al comando come al risultato di una lenta carriera alle dipendenze di una qualche prestigiosa compagnia la ricompensa per un fedele servizio beh sul fedele servizio d'accordo è una cosa che si farebbe spontaneamente per amor proprio per la nave per amore della vita che si è scelta ma non per una ricompensa ve' alcunché disgradevole nell'idea di ricompensa ed ecco che avevo un comando in tasca letteralmente in modo innegabile anche se quanto mai inatteso al di là delle mie fantasie fuori da tutte le ragionevoli spiegazioni e anche a dispetto di una specie di intrigo per sottrarmelo è vero che si trattava di un intrigo con poca forza ma ciò aveva contribuito al mio stupore quasi che io fossi destinato a quella nave che non conoscevo da qualche potere più alto delle prosaiche agenzie del mondo dei commerci cominciai ad essere invaso da un bizzarro sentimento di sultanza se mai avessi lavorato a ottenere quel comando per dieci anni e più non avrei provato nulla del genere ne ero un po' atterrito stiamo calmi mi dissi fuori dalla porta della casa dell'ufficiale quel disgraziato cambusiere sembrava mi stesse aspettando vi era una larga rampa di pochi scalini insieme alla quale egli andava e veniva come se fosse incatenato un cane in stato di agitazione si sarebbe detto che avesse la gola troppo secca per abbaiare mi duole dire che prima di entrare mi arrestai nella mia natura morale si era verificato un rivolgimento rimase in attesa a bocca aperta senza fiato per un buon mezzo minuto mentre lo osservavo dunque credevate di potermi togliere di mezzo dissi con sarcasmo parlavate di tornarvene in patria guai pietosamente dicevate così voi l'avete detto chissà cosa dirà il capitano Ellis sentendo questa scusa enunciai lentamente con sinistro sottinteso per tutto il tempo la macella inferiore aveva continuato a tremolargli e la sua voce pareva il belare di una capra malata mi avete denunciato mi avete rovinato e la sua angustia nella pura assurdità di tutto questo valse a disarmarmi era la prima volta che qualcuno tentava di nuocermi o almeno la prima che me ne rendevo conto ed ero ancora abbastanza giovane ancora troppo su quel lato della linea d'ombra per non essere sorpreso e indignato di fronte a simili fatti gli tenni gli occhi addosso inesorabilmente che soffrisse quel pezzente si picchiò la fronte ed io entrai nella sala da pranzo inseguito dal suo strillo l'ho sempre detto che voi sareste stato la mia morte tale clamore non soltanto mi raggiunse ma mi precedette pur anco nella veranda se così posso dire traendo fuori il capitano gills egli mi rimase dinanzi sulla soglia con tutta la banale solidità della sua saggezza la catena d'oro gli brillava sul petto teneva ben stretta la pipa accesa calorosamente gli tesi la mano ed egli parve stupirsi ma infine rispose abbastanza cordialmente con un sorrisetto di superiore consapevolezza che tagliò corto sui miei ringraziamenti a modi coltello non credo mi sia uscita di bocca più di una parola e anche nel pronunciare quella giudicando dalla temperatura del mio viso dovetti arrossire come per una cattiva azione assumendo un fare disinvolto chiesi come diavolo aveva fatto ad accorgersi di quel tiro che stavano combinando sotto banco compiaciuto mormorò che ben poche cose avvenivano in città di cui egli non sapesse cogliere il retroscena quanto alla casa dell'ufficiale che frequentava a periodi alterni da circa dieci anni niente vi accadeva che potesse sfuggire alla sua grande esperienza quella scoperta non gli era costata alcuno sforzo nessuno sforzo davvero indi con quel suo tono calmo e greve volle sapere se avessi formalmente presentato l'agnanza per l'azione del cambusiere risposi di no sebbene in vero l'occasione non mi fosse mancata il capitano Ellis sarà messo con me a dare i numeri in modo ridicolo perché non mi aveva trovato quando mi cercava tipo strambo quello interlocchì il capitano Gills che cosa gli avete risposto semplicemente che ero venuto non appena avuto il suo messaggio niente di più non volevo mettere nei guai il cambusiere non mi abbasserei mai a fare del male a uno così no non ho presentato nessuna lagnanza anche se lui crede l'abbia fatto direi lasciamoglielo credere si è preso uno spavento che non dimenticherà tanto facilmente il capitano Ellis l'avrebbe spedito a calci in fondo all'Asia scusatemi un momento disse il capitano Gills lasciandomi improvvisamente io sedetti sentendomi molto stanco soprattutto nella testa prima che potessi ritrovare il filo dei miei pensieri mi riapparve dinanzi piegandomi a bassa voce che aveva dovuto andare a risollevare un po' quel tale alzai gli occhi stupito ma in realtà la cosa mi lasciò indifferente mi spiegò che aveva trovato il cambusiere steso bocconi sul divano imbottito adesso stava meglio non sarebbe morto di spavento penso dissi con fare sprezzante no ma avrebbe potuto prendere una dose di troppo di una di quelle bottigliette che tiene in camera replicò il capitano Gills in tutta serietà quell'imbecille ha già tentato una volta di avvelenarsi un paio d'anni or sono senti senti dissi senza emozione in ogni caso non mi sembra molto adatto a stare al mondo e per questo si potrebbe dire lo stesso di un bel po' di gente non esageriamo protestai con una risatina di risentimento ma mi chiedo cosa succederebbe in questa parte del mondo se voi cessaste di prendervene cura eh capitano Gills ecco qua nello spazio di un pomeriggio avete procurato a me un posto di comando e salvato la vita del cambusiere anche se mi sfugge perché abbiate dovuto prendervi tanto a cuore la nostra sorte il capitano Gills rimase silenzioso per un minuto indi gravemente in realtà non è un cattivo cambusiere in ogni caso sa sempre dove trovare un buon cuoco e per di più sa tenerlo dopo averlo trovato mi ricordo certi cuochi che abbiamo avuto prima del suo arrivo dopo aver avuto un moto di impazienza debbo aver avuto un moto di impazienza perché si interruppe scusandomi di avermi trattenuto con le sue charle mentre io senza dubbio avevo bisogno di essere lasciato ai miei preparativi ciò di cui avevo davvero bisogno era di restare solo per un po' colsi l'occasione al volo la mia camera era un tranquillo rifugio in un'ala dell'edificio che sembrava disabitata non avendo assolutamente nulla da fare poiché non avevo disfatto i miei bagagli mi sedetti sul letto e mi abbandonai alle suggestioni del momento suggestioni inattese e da prima mi stupì per il mio stato mentale perché non ero più sorpreso perché eccomi qua investito di un comando in due e due e quattro non secondo il solito corso delle umane vicende ma piuttosto come per incanto avrei dovuto essere confuso dallo sbalordimento invece non lo ero ero proprio come i personaggi delle fiabe che nulla riesce a sbalordire quando da una zucca viene fatta sortire una carrozza di lusso equipaggiata di tutto punto per portarlo al ballo cenerentola non batte ciglio vi entra tranquillamente e parte verso la fortuna che l'attende il capitano ellis fatta un tantino selvatica aveva fatto sortire un comando dal cassetto in modo quasi inatteso come in una fiaba ma un comando è un'idea astratta che aveva l'aria di un miracolo minore fin quando non mi balenò in mente che esso implicava la concreta esistenza di una nave una nave la mia nave era mia più assolutamente mia per possesso e cura di qualsiasi altra cosa al mondo un oggetto di responsabilità e devozione era là che mi aspettava in preda a una malia incapace di muoversi e vivere e uscire per il mondo finché non fossi arrivato io come una principessa incantata il suo richiamo era giunto a me dalle nubi non avevo mai sospettato la sua esistenza non sapevo che aspetto avesse avevo soltanto udito di sfuggita il suo nome e tuttavia noi eravamo indissolubilmente uniti per una certa parte del nostro futuro si trattasse di affondare o di stare a galla assieme un'improvvisa febbre di ansiosa impazienza mi corse nelle vene e mi diede un tal sentimento di intensità dell'esistenza quale non ho mai provato né prima né poi scoprivo quanto di me fosse tempra di marinaio nel cuore nella mente e se posso dirlo nel fisico un uomo consacrato al mare e alle navi il mare come l'unico mondo che contasse e le navi come prova di virilità di carattere di coraggio e fedeltà ed amore vissi un momento delizioso e unico balzando in piedi mi diedi a camminare avanti e indietro per la stanza ma quando giunsi nella sala da pranzo mi comportai con sufficiente compostezza soltanto che per cena non riuscì a ingoiare un solo boccone poiché avevo dichiarato di voler raggiungere la darsena a piedi e non in vettura devo rendere giustizia a quel disgraziato cambusiere che si procurò di trovarmi alcuni culis che portassero i miei bagagli questi partirono portando ogni mio possedimento mondano eccetto un po' di denaro che avevo in tasca appeso a una lunga pertica il capitano Gills soffersa di fare quattro passi con me fino al porto seguimmo il viale buio e ombroso che traversa la grande piazza là sotto gli alberi si godeva di una discreta frescura che un tratto il capitano Gills fece un'osservazione ridendo conosco qualcuno che ringrazia il cielo di non dover più vedervi intuì che si riferiva al campusiere fino all'ultimo momento quel tale aveva tenuto con me un contegno da uomo imbronciato e spaventato espressi la mia meraviglia che gli avesse tentato di combinarmi quel brutto tiro senza alcun motivo al mondo non capite che cercava di sbarazzarsi del nostro amico Hamilton facendovelo passare davanti per ottenere quel posto il che l'avrebbe tolto di mezzo per sempre capite tanto cielo esclamai sentendomi alquanto umiliato come può essere deve essere proprio un idiota quel presuntuoso sfacciato fannullone ebbene non era possibile e invece quasi ci riusciva credo perché l'ufficio portuale doveva mandare qualcuno già un idiota come il nostro campusiere a volte può essere pericoloso dichiarò il capitano Gils con un fare sentenzioso proprio perché è un idiota aggiunse producendo ulteriori ragguagli con tono basso e compiaciuto perché continuò come se enunciasse una dimostrazione da manuale nessuna persona sensata rischierebbe di essere cacciata a calci fuori dall'unico buco in cui riesce a non morire di fame solo per sbarazzarsi di una semplice seccatura un piccolo fastidio vi pare? sì certo gli concessi trattenendo il desiderio di ridere per quel misterioso fervore con cui diffondeva le conclusioni della sua saggezza quasi che fossero il risultato di operazioni fuori della norma ma quel tale non mi sembra del tutto sano nella testa anzi deve essere proprio matto per quello io credo che in questo mondo lo siamo tutti un pochino annunciò tranquillamente non fate alcuna eccezione chiesi tanto per sentire la sua risposta egli rimase zitto per un poco Andy riprese il filo con una stoccata beh Kent dice che lo siete anche voi disse così replicai sentendomi di colpo assai amarezzato nei confronti del mio ex capitano però non ha scritto niente del genere nelle note personali che ho qui in tasca vi ha fatto qualche esempio il capitano Gills spiegò con fare conciliante che era stata soltanto un'osservazione amichevole in relazione al mio improvviso abbandono della nave senza plausibili ragioni borbottai di malumore ah perché ho lasciato la nave e allungai il passo egli si tenne al mio fianco nel buio profondo del viale come se fosse suo dovere scortarmi alla partenza della colonia in quanto tipo indesiderabile ansimava un poco il che era piuttosto patetico sotto un certo aspetto ma non ero commosso al contrario il suo disagio mi dava una sorta di maligno piacere subito dopo mi placai rallentai il passo e dissi quel che volevo in realtà era trovare qualcosa di diverso a cui aggrapparmi ho sentito che era ora di farlo cosa c'è di matto in questo non diede risposta stavamo lasciando il viale al ponte sopra il canale una figura scura e indecisa sembrava aspettare qualcuno o qualcosa era un poliziotto malese scalzo nell'azzurra uniforme il gallone argentato del suo rotondo berrettino brillava opaco alla luce del lampione scrutò dalla nostra parte timidamente prima che potessimo raggiungerlo egli fece dietro front e camminò inanzianò in direzione del molo dopo qualche centinaio di metri trovai i miei cools che stavano accucciati sui talloni si tenevano la pertica sulle spalle e tutti i miei beni mondani ancora legati alla pertica erano appoggiati al suolo tra di loro finché dove l'occhio giungeva sulla darsena non vi era anima viva a parte il poliziotto indigeno che ci rivolse un saluto a quanto pare aveva trattenuto i culi sin quanto sospetti vietando loro l'accesso al molo a un mio cenno tuttavia si affrettò a lasciar cadere il divieto i due pazienti portatori levandosi in piedi assieme con un fioco grugnito trotterellarono inanzi sul tavolato del molo mentre io mi accengevo a prendere congedo dal capitano gils e quale se ne stava lì con l'aria di aver quasi portato a termine la sua missione non si poteva negare che fosse tutta opera sua e mentre indugiavo cercando una frase adatta risuonò la sua voce prevedo che dovrete far fronte a un bel po' di problemi gli chiesi cosa glielo faceva pensare rispose che era la sua esperienza del mondo in generale una nave da tempo lontana dal suo porto di armatori irraggiungibili telegraficamente e l'unico uomo che avrebbe potuto spiegare come stavano le cose morto e sepolto e per voi che siete nuovo del mestiere in certo qual senso concluse con un tono che non ammetteva repliche non insistete dissi lo so fin troppo bene prima di partire vorrei che poteste darmi una piccola parte della vostra esperienza ma siccome la cosa è impossibile in dieci minuti è meglio che non cominci neppure a chiedervelo e poi c'è la lancia che mi aspetta ma non mi sentirò tranquillo fino a quando non sarò con la mia nave nell'oceano indiano di sfuggita fece notare che da Bangkok all'oceano indiano c'era un bel pezzo di strada e quel suo mormorio come il tenue chiarore di una lanterna cieca per un attimo mi fece apparire la larga fascia d'isole e scogli che si frapponeva tra quella sconosciuta nave la mia e la libertà delle grandi acque del globo non mi sentivo alcuna apprensione ormai conoscevo abbastanza bene l'arcipelago un'estrema pazienza e un'estrema attenzione mi avrebbero guidato attraverso quella regione di terre frammentate di deboli venti di acque morte dove finalmente avrei sentito la nave al mio comando rollare in armonia con i grandi marosi e in accordo col grande soffio dai venti regolari che le avrebbero infuso il sentimento di una vita più vasta e più intensa certo la strada era lunga sono lunghe tutte le strade che menano dove il cuore comanda ma con questa strada riuscivo a vederla con gli occhi della mente su una carta professionalmente con tutte le sue complicazioni e difficoltà e tuttavia in certo quel senso abbastanza semplice c'è chi è marinaio e chi non lo è e io sentivo di esserlo senza il minimo dubbio l'unica zona che non conoscevo era il golfo del Siam lo feci presente al capitano Gills non che fossi poi tanto preoccupato faceva parte di una regione la cui natura mi sembrava di conoscere bene e che mi sembrava di aver studiato a fondo durante gli ultimi mesi di quell'esistenza che avevo interrotto all'improvviso così come ci si separa da una compagnia magliatrice il golfo ah sì un tratto d'acqua bizzarro quello disse il capitano Gills bizzarro in quel senso bizzarro in quel caso era una parola vaga tutta la frase suonava come un'opinione pronunciata da una persona cauta che evitava lo spargimento di calunnie non entrai nel merito di quella bizzarria non vera il tempo ma all'ultimo istante egli mi offrì un avvertimento qualunque cosa facciate tenetevi a levante apponente e pericoloso in questa stagione non lasciatevi tentare da nulla da quella parte trovereste solo guai benché non riuscisse a immaginare cosa avrebbe potuto tentarmi a mettere la mia nave fra le correnti e scogliere della costa malese lo ringraziai per il consiglio afferrò calorosamente il mio braccio teso e il nostro incontro si concluse d'un tratto con le parole buonanotte era tutto quel che disse buonanotte null'altro non so cosa stessi per dire ma la sorpresa mi respinse le parole in gola quali che fossero rimasi un po' senza fiato indi esclamai con una certa qual fretta nervosa buonanotte buonanotte capitano gills le sue mosse erano sempre ponderate ma ora la sua schiena era già lontana sulla darsena deserta prima che io raccogliessi le forze per imitare il suo esempio facendo dietro front in direzione del molo ma i miei movimenti non erano ponderati mi precipitai per gli scalini e saltai nella motolancia prima ancora che fossi convenientemente atterrato a poppetta lo snello scafo sfrezzo via dal molo con un improvviso turbinare dell'elica e lo sbuffare a scatti rapidi e bruschi del fumaiolo d'ottone che vagamente brillava a mezza via il bolloso ribollire dell'acqua a poppa era l'unico suono che esistesse al mondo la terraferma era là immersa nel silenzio e nel più profondo sonno osservai la città allontanarsi laggiù immobile e muta nella calda notte fino a che una chiamata repentina ehi motolancia mi fece volgere il capo in avanti eravamo accanto a un bianco e spettrale piroscafo le cui luci splendevano sopra coperte e negli oblò e la stessa voce gridò dalla nave è quello il nostro passezzero sì gridai a mia volta evidentemente l'equipaggio era pronto a salpare udivo gli uomini correre di qua e di là lo spirito della moderna fretta si esprimeva sonoramente negli ordini alzare il cavo o via la scala di barcarizzo nonché nel pressante invito che mi venne rivolto presto signor mio abbiamo tre ore di ritardo per causa vostra dovevamo partire alle sette lo sapete sì o no mi si piede sulla tolda dissi no non lo so lo spirito della moderna fretta sarà incarnato in un uomo ossuto con lunghe brazza e lunghe gambe e una barba grigia tagliata corta la sua magra mano era calda e asciutta costrui dichiarò febbrilmente che mi impicchino se aspettavo altri cinque minuti alla faccia di tutti i comandanti del porto sono fatti vostri dissi non sono io che vi ho chiesto di aspettarmi spero che adesso non pretendiate la cena svottò questo non è mica un pensionato galleggiante voi siete il primo passeggero che prendo a bordo in vita mia e prego il dio che siate anche l'ultimo a tali accoglienti dichiarazioni non concessi risposta ma in vero quello non l'aspettò neppure filando via sul ponte di comando per mettere la sua nave in rotta per i quattro giorni in cui rimasi a bordo non mutò mai un tale atteggiamento di semiostilità dato che la sua nave aveva subito un ritardo di tre ore per causa mia non riusciva a perdonarmi il fatto che non fossi una persona di più alto rango non lo dichiarò mai apertamente ma quel sentimento di meraviglia delusa rispuntava sempre dai suoi discorsi era un individuo assurdo era anche un uomo di grande esperienza cosa che gli piaceva esibire ma non si potrebbe immaginare un più vistoso contrasto con il capitano Gills quest'uomo avrebbe potuto divertirmi se fossi stato in vena di divertimenti ma non lo ero ero come un innamorato che si prepara a un incontro l'ostilità degli uomini non mi toccava né punto né poco pensavo solo alla mia nave sconosciuta ciò di per sé era già un sufficiente divertimento e tormento e occupazione accordosi del mio stato d'animo perché non mancava di perspicacia quell'uomo cominciò a prendersi gioco con malizia delle mie preoccupazioni al modo in cui certi vecchi cinici e cattivi deridono i sogni e le illusioni della gioventù da parte mia mi trattenni dal fargli domande sull'aspetto della mia nave benché sapessi che doveva conoscerla di vista dal momento che sbarcava a Bangkok ogni mese o all'incirca ma non volevo esporre quella nave la mia nave a qualche sprezzante commento costui era il primo individuo affatto privo di comprensione che avesse incontrato in vita mia la mia educazione era ben lungi dall'essere completa benché io non lo sapessi no non lo sapevo sapevo soltanto che gli ero sgradito e che gli nutriva un certo disprezzo per la mia persona per quel motivo a quanto pare perché la sua nave aveva subito un ritardo di tre ore per causa mia chi ero mai io per meritare una simile concessione a lui nessuno aveva mai concesso altrettanto la sua era una specie di indignazione invidiosa in pazienza dell'attesa mista al timore si sviluppò al massimo grado lenti erano stati i giorni di viaggio e rapida venne la loro conclusione una mattina presto superammo la barra e mentre un sole splendido si levava sopra gli spazi piatti della terraferma seguimmo gli innumerevoli meandri e passammo all'ombra della grande pagoda dorata e raggiungemmo i soborghi della città era là estesamente sparsa su ambe le rive la capitale d'oriente che mai aveva conosciuto conquistatori bianchi una distesa di scure case di bambù di stuoia e di foglie e con uno stile d'architettura vegetale sorta dall'oscuro suolo delle sponde del fiume fangoso era stupefacente pensare che in tutte quelle migliaia d'abitazioni umane probabilmente non verranno neppure sei libra di chiodi alcune di quelle case fatte d'erba e palette con nidi di una specie di animali acquatici erano abbarbicate sulla bassa sponda altre parevano spuntare dall'acqua altre ancora galleggiavano ancorate proprio nel bel mezzo della corrente qua e là in lontananza sopra l'affollata distesa delle basse creste dei tetti torreggiavano grandi edifici in muratura il palazzo del re templi splendidi e decrepiti crollanti sotto il sole a picco tremendo e opprimente quasi palpabile cosa che sembrava entrarvi nel petto attraverso il respiro e impregnarvi le membra attraverso ogni polo della pelle per una ragione o per l'altra quel ridicolo succube della propria invidia dovette arrestare qui le macchine della nave il piroscofo scivolò lentamente alla deriva con l'alta marea dimentico del nuovo paesaggio in cui mi trovavo usci sulla tolda assorto nei miei ansiosi e smorti pensieri un miscuglio di romantici sogni a occhi aperti e di praticissimi ripassi delle mie capacità da che si avvicinava il momento in cui avrei rimirato la mia nave e affrontata la suprema prova della mia professione in un tratto udì quell'imbecilla che mi chiamava mi faceva segno di salire sul ponte di comando non avevo alcuna voglia ma poiché sembrava avesse alcunché di speciale da dirmi mi avviai per la scaletta ponendomi la mano sulla spalla mi fece voltare un poco mentre con l'altro braccio indicava eccola quella è la vostra nave capitano disse sentì un tuffo al cuore fu un colpo solo come se il cuore dovesse cessare di battere erano dieci navi e forse più ormeggiate lungo la riva e quella che gli indicava era in parte coperta ai miei occhi dalla poppa della sua vicina disse la fiancheremo in un attimo qual era il suo tono derisorio minaccioso o soltanto indifferente non riuscii a capirlo sospettai qualche malizia in quell'inattesa manifestazione di interesse tolsi la mano e io mi appoggiai alla battagliola del ponte guardando sul fianco non osavo alzare gli occhi eppure bisognava farlo e a dir la verità non avrei potuto farne a meno credo che stessi tremando ma non appena gli occhi si posarono sulla mia nave ogni timore svanì sparì fulminamente come un cattivo sogno con l'unica differenza che un sogno non lascia dietro di sé un senso di vergogna mentre io provai una momentanea vergogna per i miei indegni sospetti sì era là il suo scafo le sue attrezzature mi riempivano gli occhi di gioia quel sentimento di vuotezza della vita che mi aveva reso tanto inquieto negli ultimi mesi perse la sua amara plausibilità la sua mala influenza dissolto in un influsso di liete emozioni al primo colpo d'occhio vidi che era un vascello d'alta classe una creatura armoniosa nelle linee del corpo ben fatto nell'altezza proporzionata delle sue alberature quale che fosse la sua età o la sua storia essa aveva conservato l'impronta delle sue origini era una di quelle imbarcazioni che in virtù del loro disegno e della perfetta rifinitura non sembreranno mai vecchie tra le sue compagne ormeggiate a sponda tutte più grandi di lei sembrava una creatura di nobile stirpe un destriero arabo in una squadra di cavalli da tiro alle mie spalle una voce dal tono perfido equivoco disse spero che ne sarete soddisfatto capitano non voltai la testa era il comandante del piroscafo e qualsiasi cosa intendesse dire qualsiasi cosa pensasse di lei sapevo che la mia nave al pari di certe donne rare era una di quelle creature la cui semplice esistenza è sufficiente a ispirare un disinteressato piacere si sente che è bello essere nel mondo dove c'è lei si irradiava da lei quell'illusione di vita e di carattere che si attrae come un incantesimo nei migliori prodotti dell'uomo un enorme carico di legno tec stava oscillando sul suo boccaporto materia inerte che pareva più grande di qualsiasi altra cosa a bordo quando presero ad abbazzarlo mollando il paranco un fremito la percorse tutta dalle linee d'acqua fino alla cima delle gallette sugli alberi lungo i nervi sottili delle sue sartie come se fossero brividita al tanto peso pareva una crudeltà caricarla tanto mezz'ora dopo ponendo piede per la prima volta sulla sua coperta ebbe un senso di piena soddisfazione fisica nulla potrebbe eguagliare la pienezza di quel momento la completezza ideale di quell'esperienza emotiva che era giunta a me senza il travaglio e il disincanto di un'oscura carriera il mio rapido sguardo la percorse l'avvolse si appropriò di quella forma che rendeva concreto l'astratto sentimento del mio comando in quel momento fui vivamente colpito da una quantità di dettagli che spiccano all'occhio dell'uomo di mare quanto al resto la vidi sciolta dalle condizioni materiali della sua esistenza la riva a cui era ormeggiata era come se non esistesse che cos'erano per me tutti i paesi del globo in qualsiasi parte del mondo bagnata da acque navigabili i nostri reciproci vincoli sarebbero stati i medesimi i più intimi di quanto le parole di una lingua potrebbero esprimere a parte ciò ogni scena e ogni episodio sarebbe stato soltanto uno spettacolo passeggero quella stessa congrega di culis gialli e indaffarati attorno al boccaporto principale era meno concreta della materia di cui sono fatti i sogni e in effetti a chi mai verrebbe in mente di sognare un cinese seria poppa montai sul cassero dove sotto un tendone brillavano gli accessori d'ottone come su uno yacht le superfici lustre e polite della battagliola il vetro dell'osteriggio a poppa via due marinai occupati a lustrare l'ingranaggio del timone mentre le increspature di luce riflesse sulle loro schiene scorrevano gioiosamente continuarono il loro lavoro senza accorgersi di me e dell'occhiata quasi d'affetto che gettai loro nel passare diretto al tambuccio della cabina le porte erano spalancate il gomito della scala impediva la veduta del corridoio da basso saliva un sommesso canterellare ma si interruppe bruscamente al suono dei miei passi che scendevano capitolo terzo per prima cosa laggiù vidi la parte superiore di un corpo maschile che si faceva all'indietro diciamo così spuntando da una delle porte ai piedi della scala i suoi occhi mi fissarono spalancati a immobili in una mano teneva un piatto nell'altra un tovagliolo sono il nuovo capitano spiegai in tono pacato in un attimo in un batter d'occhi liberatosi di piatto e tovagliolo quello si precipitò ad aprire la porta della cabina come entrai nella saletta e gli scomparve ma solo per riapparire all'istante abbottonandosi una giacca che aveva indossato con la rapidità di un trasformista dove è il mio primo ufficiale chiesi nella stiva credo signore l'ho visto scendere dal boccaporto dieci minuti fa ditegli che sono a bordo il tavolo di mogano sotto lo sterizio brillava nella penombra come una nera pozza d'acqua la credenza sormontata da una grande specchiera con cornice in similoro aveva un ripiano di marmo ivi un paio di lampade argentate e alcuni altri oggetti erano stati posti si capiva a far bella mostra di sé durante la sosta nel porto quanto alla saletta era rivestita da due tipi di assicelle con quel gusto semplice e solido in voga ai tempi in cui la nave era stata costruita sedetti nella poltroncina a capo della tavola la sedia del capitano su cui pendeva una piccola bussola rivelatrice silenzioso momento di una vigilanza continua una sequela di uomini si era seduta su quella sedia tale pensiero mi giunse d'un tratto come se ciascuno di loro avesse lasciato un poco di sé tra le quattro pareti di quella addobbata cabina e quasi che una sorta d'anima composita l'anima del comando ma avesse sussurrato alcunché a proposito di lunghe giornate sul mare e momenti d'angustia anche tu pareva dicesse anche tu proverai il gusto di quella pace e irrequietezza nella vigila intimità con te stessa oscuro come noi fummo oscuri ma sovrano di fronte a tutti i venti e tutti i mari in un'immensità che non trattiene tracce non persevera memorie e non fa conto delle nostre vite in fondo all'offuscata cornice in similoro nella calda mezza luce filtrante attraverso il tendone vidi il mio volto tenuto tra le mani e risposi al mio sguardo col perfetto distacco della distanza con curiosità più che con altro sentimento salvo forse una certa simpatia per quest'ultimo rappresentante di ciò che a tutti gli effetti era una dinastia non per continuità di sangue certo bensì per esperienza addestramento concezione del dovere e benedetta semplicità del suo tradizionale concetto della vita mi colpì che quel buomo intento a fissarmi tranquillamente e che osservavo come se fosse un tempo me stesso un'altra persona non apparisse precisamente come una figura solitaria egli aveva posto in una schiera di uomini che non conosceva dei quali non aveva mai udito parlare eppur plasmati dagli stessi infussi e le cui anime e le cui anime quanto al lavoro svolto nelle loro umili vite non avevano per lui segreti l'improvviso mi accorse che un altro uomo era nella saletta un po' con gli sparte e all'impiedi in atto di guardarmi in tento il primo ufficiale lunghi baffi rossicci caratterizzavano la sua fisionomia che mi colpì per un piedi bellicoso ma strano a dirsi in modo spettrale da quanto tempo era là a scrutarmi valutarmi nel mio stato indifeso trassognato sarei rimasto ben più sgomento se essendo l'orologio sopra la cornice della specchiera proprio innanzi ai miei occhi non avessi notato che la lancetta dei minuti non si era quasi mossa non dovevo essere in quella cabina da più di due minuti diciamo tre perciò fortunatamente egli doveva avermi osservato per la frazione di un minuto al massimo non di meno mi rammaricai del fatto ma non lasciai trapelare nulla di ciò quando mi alzai con calma era necessario farlo in tutta calma e lo salutai con massima cordialità il suo atteggiamento vera alcunché discontroso e riguardoso a un tempo si chiamava Bums lasciamo la cabina e insieme visitammo la nave nella piena luce del giorno il suo volto mi apparve molto sciupato magro perfino macilento mi sembrò cosa indelicata posare su di lui troppo spesso il mio sguardo laddove i suoi occhi al contrario rimanevano pressoché incollati al mio viso erano verdastri e rivelavano un'espressione d'attesa rispose con sufficiente prontezza alle mie domande sebbene al mio orecchio sembra di cogliere una traccia di riduttanza il secondo ufficiale era occupato a prua insieme a tre o quattro uomini dell'equipaggio il primo ufficiale citò il suo nome e passando gli fece un cenno col capo era molto giovane mi fece l'impressione di un pivello tornati da basso mi sedetti a un'estremità del divano semicircolare o meglio semiovale tappezzato in felpa rossa questo occupava tutto il lato di poppa nella cabina e signor Barnes al mio cenno di sedersi si lasciò cadere in una di quelle sedie girevoli attorno al tavolo continuando a tenermi gli occhi addosso con più insistenza che mai e con un'aria strana come se tutto ciò fosse una messa in scena ed egli si aspettasse di vedermi alzare scoppiare a ridere e svanire dalla cabina dopo avergli battuto una mano sulla spalla c'era una strana tensione nella circostanza che cominciava a mettermi a disagio tentai di reagire contro questa sensazione vaga è soltanto la mia inesperienza pensai di fronte a quell'uomo che giudicai avesse molti più anni di me divenne conscio di ciò che avevo già lasciato alle spalle la gioventù e ciò mi fu in vero un ben scarso conforto la gioventù è una bella cosa un grande potere fin tanto che non ci si pensa sentivo che cominciavo a provarne disagio quasi mio malgrado assunsi un'aria di gravità burbera lì si vedo che avete tenuto tutto in buon ordine signor Barnes non appena pronunciate quelle parole mi chiesi rabbiosamente perché diavolo avessi avuto bisogno di dirle in risposta il signor Barnes aveva solo sbattuto le palpebre cosa diavolo voleva dire ripiegai su una domanda che era stata nei miei pensieri a lungo la domanda più naturale sulle labbra di un qualsiasi marinaio al momento di imbarcarsi su una nave la pronunciai maledetto disagio con me stesso in tono allegro e dégagé suppongo che vada forte ma quanto ora ho una domanda del genere naturalmente si può rispondere con rattristati toni di difesa oppure d'orgoglio visibilmente trattenuto del genere non faccio per vantare ma vedrete voi stesso qui sono anche i marinai che sarebbero sbottati di malagrazia pigra la bestia o apertamente deliziati va come il vento due atteggiamenti e differenti risposte ma il signor Burns trovò un altro modo ancora un modo tutto suo che se non altro aveva il merito di fargli risparmiare fiato di nuovo non rispose soltanto aggrottò la fronte era un aggrottamento toiroso attesi nient'altro cosa c'è siete a bordo da due anni e dovete pur saperlo gli disse bruscamente per un attimo ebbe l'aria sconcertata quasi che avesse scoperto solo allora la mia presenza ma subito buttò espressione assunse un'aria di indifferenza a un certo punto tuttavia credo che ritenne opportuno dire qualcosa disse che una nave aveva bisogno proprio come un uomo di occasioni per mostrarsi al suo meglio e che quella nave non aveva avuto simili occasioni da che egli era a bordo almeno per quel che ricordava l'ultimo capitano fece una pausa davvero ha avuto tanta scalogna chiesi con sincera incredulità il signor Barnes distolse gli occhi da me no il defunto capitano non era un uomo scalognato non si poteva dire che lo fosse però era uno che sembrava non saper farsene della sua buona sorte il signor Barnes uomo dai modi enigmatici fece questa dichiarazione con volto inanimato e fissando ostinatamente la timoniera la dichiarazione in sé aveva oscuri sottintesi tranquillamente mi informai dove è morto? in questa sala proprio dove siete seduto ora rispose il signor Barnes trattenne uno stupido impulso di balzare all'impiedi ma nel complesso fui sollevato apprendendo che non era morto nel letto che ora doveva essere il mio feci notare al primo ufficiale che in realtà ciò che volevo sapere era dove avesse sepolto il defunto capitano il signor Barnes rispose che era all'ingresso del golfo una tomba spaziosa una risposta sufficiente ma il primo ufficiale tentando visibilmente di reprimere qualcosa dentro di sé qualcosa come una sua bizzarra riluttanza a credere davvero al mio avvento come fatto comunque irrevocabile non si fermò qui sebbene in vero può darsi desiderasse farlo a modi compromesso con i propri sentimenti credo continuò a tenere gli occhi fissi sulla timoniera tanto da apparire ai miei occhi come un uomo che parli tra sé anche un po' inconsultamente però il suo racconto diceva che al suono delle sette campanelle per il turno di guardia del mattino egli aveva riunito tutti gli uomini dell'equipaggio sul cassero e detto loro che avrebbero fatto bene a scendere da basso per congedarsi dal loro capitano tali parole che sembravano pronunciate a malincuore per un intruso furono sufficienti a evocare vividamente quella strana cerimonia i marinai scalzi a capo scoperto ammassati con aria timida nella cabina una piccola folla che premeva contro quella credenza a disagio più che commossa le camicie aperte sui petti abbronzati i volti segnati dalle intemperie e tutti intenti a fissare l'uomo morente con la stessa grave espressione sospesa era ancora in sé chiesi non ha parlato ma ha mosso gli occhi per guardarli rispose il primo ufficiale dopo un attimo il signor Barnes aveva fatto uscire l'equipaggio dalla cabina ordinando però ai due marinai più anziani di rimanere col capitano mentre egli saliva sopra coperta a fare il punto col sestante il mezzogiorno si avvicinava e gli premeva fare un buon rilevamento della latitudine quando tornò da basso a riporre il sestante si accorse che i due uomini si erano ritirati nell'ingresso attraverso la porta aperta poteva vedere il capitano tranquillamente disteso sui cuscini era trapassato mentre il signor Barnes stava compiendo il rilevamento quasi a mezzogiorno in punto non aveva quasi cambiato posizione il signor Barnes sospirò mi cittò un'occhiata interrogativa come dire sei ancora qui indi stornò i propri pensieri dal nuovo capitano per ricondurli al vecchio il quale essendo morto non aveva più alcuna autorità non intralciava nessuno ed era persona con cui risultava più facile trattare il signor Barnes trattò di lui per qualche tempo era un uomo strano sui 65 anni faccia dura di un color grigio ferro ostinato e poco comunicativo aveva l'abitudine di lasciar vagare la nave in mare aperto per ragioni imperscrutabili a volte saliva sopra coperta a notte fonda e faceva serrare le vele io solo sa perché o a che scopo quindi tornava di sotto si chiudeva a chiave nella cabina e suonava il violino per ore e ore fino all'alba magari di fatto trascorreva la più parte del tempo sia di notte che di giorno suonando il violino lo faceva quando gli prendeva il ghiribizzo suonava molto forte per giunta avvenne dunque che un bel giorno il signor Barnes si fece coraggio e protestò vivamente col capitano e lui nel secondo ufficiale riuscivano a chiudere occhio durante i turni di guardia a causa di quel rumore e come si poteva pretendere che stessero sempre svegli durante le ore di servizio aveva perorato Barnes la risposta di quel severissimo uomo fu che e lui e il secondo ufficiale non gradivano il rumore non avevano che far fagotto e prendere la passerella quando era stata offerta loro una tale alternativa si dà il caso che la nave fosse a 600 miglia dalla più vicina terraferma a questo punto il signor Barnes saltò lo sguardo su di me con aria di curiosità io cominciavo a pensare che il mio predecessore fosse stato un individuo alquanto singolare mi toccò udire tuttavia cose ancora più strane e ne fuori che quell'arcigno sinistro taciturno individuo bruciato dal vento e conciato dall'acqua salmastra sui 65 anni non era soltanto un artista ma anche un amatore ad Ai Fong quando erano sbarcati in quel porto dopo una serie di inutilissime peregrinazioni durante le quali rischiarono di perdere la nave due volte secondo le parole del signor Barnes egli era andato a impegolarsi con una donna non che il signor Barnes avesse conoscenza diretta della faccenda ma di ciò esisteva una prova positiva in forma di una fotografia scattata dai Fong il signor Barnes l'aveva scoperta in un cassetto nella stanza del capitano a un certo punto venne anche il mio turno di porre gli occhi su quello stupefacente documento umano in seguito lo gettai puranco in mare l'uomo sedeva là le mani sulle ginocchia calvo tozzo grigio ispido selvatico come un cinghiale e al suo fianco torreggiava una femmina bianca matura volgare terribile con avide narici e con uno sguardo pieno di cattivi presagi che brillavano in fondo a occhi vastissimi era vestita con un costume vistoso di cattivo gusto in stile mezzo orientale somigliava a una chiaroveggente di infimo rango o a una di quelle donne che per mezza corona vi predicano il futuro attraverso le carte eppure aveva un suo strano fascino una fattucchiera dei bassi fondi la cosa era incomprensibile però anche di orrendo nell'idea che lei avesse incarnato l'ultimo riflesso del mondo delle passioni per quell'anima ardente che sembrava fissarvi in modo sardonico nel volto selvatico di quel vecchio uomo di mare notai tuttavia che teneva per le mani un qualche strumento musicale chitarra o mandolino forse quello era il segreto ultimo della sua malia secondo il signor Bans quella fotografia spiegava perché la nave priva d'alcun carico fosse stata tenuta all'ancora per tre settimane a soffocare in un porto mefitico torrido e senza aria erano rimasti là a boccheggiare il capitano comparendo di tanto in tanto per brevi visite biaficava al signor Bans improbabili racconti a proposito di lettere che stava aspettando improvvisamente dopo essere scomparso per una settimana era tornato a bordo nel cuore della notte e aveva portato la nave a largo coi primi berlumi dell'alba nella prima luce del giorno si vedeva che era furibondo e malato erano corsi due giorni solo per allontanarsi dalla costa e non si sa come avevano lievemente urtato contro uno scoglio tuttavia non si era prodotto alcuna falla e il capitano brontolando niente pericolo aveva comunicato al signor Bans la sua decisione di portare la nave ad Hong Kong per farla entrare in un bacino di carenaggio al che il signor Bans era stato preso dalla disperazione da che l'idea di bordeggiare su Hong Kong andando incontro a un terribile monzone con una nave non abbastanza zavorrata e con una riserva d'acqua incompleta era davvero un progetto da pazzo ma il capitano aveva grugnito in modo perentorio mettersi in rotta e il signor Bans costernato e fuori di sé sarà messo in rotta e l'aveva mantenuta strappando per strada le vele sforzando l'erberatura sfiancando l'equipaggio quasi impazzendo per l'assoluta convinzione che il tentativo fosse impossibile e dovesse concludersi in una catastrofe nel frattempo il capitano chiuso nella sua cabina e rincantucciato in un angolo del divano resisteva al folle sobbalzare della nave suonando il violino o quantomeno producendo con esso un continuo rumore quando compariva sopra coperta non parlava e non sempre rispondeva a chi gli parlasse si fetteva bene che qualche misterioso male era in lui e che gli cominciava a crollare i suoni del violino erano divenuti sempre più deboli sinché alla fine soltanto un fievole stridio giungeva all'orecchio del signor Barnes quando ne stava in ascolto alla porta della cabina del capitano un pomeriggio completamente invaso dalla disperazione si era precipitato nella cabina e aveva fatto una tale scena strappandosi i capelli e urlando orribili imprecazioni da intimidire lo spirito sprezzante di quel uomo malato le riserve d'acqua erano scarse non avevano fatto cinquanta miglia in quindici giorni non sarebbero mai arrivati a Hong Kong era come battersi disperatamente per la distruzione della nave e dell'equipaggio questo era evidente senza discussioni abbandonando ogni ritegno il signor Barnes aveva accostato il volto a quello del capitano e gli aveva urlato quasi a squarciagola signore voi state per andarvene all'altro mondo ma non posso aspettare che siate morto per mettere la barra sotto vento dovete farlo voi dovete farlo adesso l'uomo disteso aveva ringhiato con disprezzo ah io starei per andarmene all'altro mondo eh sì signore non vi rimangono molti giorni ancora aveva detto il signor Barnes calmandosi ve lo silenzio in faccia in faccia eh beh mettete quel timone sotto vento e andate all'inferno Barnes era volato sul ponte aveva posto la nave sotto vento tornando in di da basso composto ma risoluto l'ho messa in rotta per pulo condor signore aveva detto quando ci saremo se siete ancora vivo mi direte in quale porto desiderate che guidi la nave e lo farò il vecchio gli aveva lanciato un'occhiata piena di selvaggio rancore proferendo poi atroci parole in tono lento e funebre se il mio desiderio si avverasse né voi né la nave raggiungereste mai nessun porto spero che non ci riusciate a ciò il signor Barnes era rimasto profondamente scosso credo che al momento ne fosse spaventato tuttavia sembra sia riuscito a scoppiare in una tale risata ad effetto che toccò al vecchio di rimanere sgomento si rannicchiò in sé volgendogli le spalle e la testa l'aveva ancora a posto nel sicuro Barnes piuttosto eccitato voleva proprio dire quello che ha detto quello era stato praticamente l'ultimo discorso del capitano in seguito le sue labbra pronunciarono solo frasi sconnesse durante la notte riunì le sue ultime forze per gettare il violino fuori bordo in realtà nessuno lo vide farlo ma dopo la sua morte il signor Barnes non era riuscito a ritrovare lo strumento l'astuccio vuoto era in bella vista ma il violino chiaramente non c'era più a bordo e dove altro poteva essere andato a finire se non in mare gettare il suo violino in mare esclamai sicuro gridò il signor Barnes molto eccitato e sono convinto che avrebbe tentato di portare anche la nave in fondo al mare se fosse stato umanamente possibile non voleva che tornasse più a casa non scriveva mai agli armatori e non scriveva neanche a sua moglie non gli passava neanche per la testa aveva deciso di dare un taglionetto con tutto ecco com'era non gli importava niente degli affari delle spedizioni della traversata niente la sua idea era di andare in giro per il mondo fino a quando non sarebbe affondato con tutto l'equipaggio il signor Barnes aveva l'aria di un uomo sfuggito a un grave pericolo ci mancò poco che non esclamasse se non fosse stato per me e la limpida innocenza dei suoi occhi indignati era sottolineata da un aggressivo paio di baffi che gli prese a toccare e a tirare di lato vera di che ridere non fosse che ero assorto nelle mie sensazioni le quali non combaciavano con quelle di Barnes ormai ero io l'uomo al comando e le mie sensazioni non potevano essere quelle di un qualsiasi altro a bordo in quella comunità io appartenevo a una categoria a sé stante come il re d'una nazione voglio dire un re ereditario non un capo di stato semplicemente eletto ciò che mi aveva qui inviato a governare era un potere remoto remoto da questa popolazione e per lei imprescrutabile quasi quanto la grazia divina e come il membro d'una dinastia sentendo un legame quasi mistico con i morti ero profondamente scosso dalla sorte del mio immediato predecessore quel uomo era stato in tutte le questioni essenziali salvo per l'età uno come me ma la conclusione della sua vita era un vero e proprio atto di tradimento il tradimento ad una tradizione che a me pareva più perentoria di qualsiasi altra regola del mondo ne risultava che perfino sul mare un uomo poteva cadere in preda agli spiriti del male mi sentia alitare sul volto il soffio di ignoti poteri che plasmano i nostri destini affinché il silenzio non si prolungasse troppo chiese al signor Barnes se avesse scritto alla moglie del capitano scosse il capo non aveva scritto a nessuno subito dopo divenne cupo non gli era mai venuto in mente di scrivere tutto il suo tempo senza manco un minuto libero aveva dovuto dedicarlo alla sorveglianza ad un gaglioffo di stivatore cinese durante il caricamento della nave col che per la prima volta il signor Barnes mi lasciò intravedere i tratti della sua anima di primo ufficiale che abitava a disagio nel suo corpo rimase a rimuginare poi si affrettò a dire con cupa foga sì il capitano è morto proprio verso mezzogiorno nel pomeriggio ho guardato tra le sue carte al tramonto ho letto il servizio funebre e poi ho messo la nave in rotta verso nord e l'ho portata qui io l'ho portata qui ed è un pugno sul tavolo è difficile che potesse arrivarci da sola osservai ma perché invece non siete andato a singapore i suoi occhi divennero titubanti il porto più vicino mormorò corrucciato avevo formulato la domanda in perfetta innocenza ma la sua risposta la differenza in fatto di distanza era insignificante e il suo comportamento mi posero sulla via della semplice verità aveva portato la nave in un porto dove sperava ad essere confermato nel suo comando temporaneo in mancanza ad un comandante qualificato da anteporgli laddove Singapore aveva giustamente calcolato era pieno di uomini qualificati ma il suo genimo ragionamento aveva trascurato il cavo telegrafico che giaceva sul fondo di quello stesso golfo verso cui aveva rivolto la nave che gli pensava ad aver salvato dalla distruzione di qui l'amaro sapore del nostro abboccamento lo percepivo sempre più distintamente ed era sempre meno di mio gusto sentite signor Burns cominciai con tono assai fermo la cosa che dovete capire è che non sono corso dietro a questo comando mi è stato proposto e l'ho accettato sono qui per riportare la nave a casa innanzitutto e potete star certo che farò di tutto affinché ognuno di voi a bordo compia il proprio dovere a tal fine questo è tutto quanto ho da dire per il momento a questo punto egli era già all'impiedi ma invece di congedarsi rimase lì a guardarmi con le labbra che gli tremavano per l'indignazione come se davvero a tal cospetto non mi restasse null'altro di decente da fare se non scomparire dalla sua vista offesa come tutti gli stati emotivi sono molto semplici anche questo era commovente provai di spiacere per lui quasi simpatia quando vedendo che non scomparivo egli si espresse con sforzato contegno se non avessi una moglie o un figlio a casa potete star certo signore che vi avrei chiesto di lasciarmi andar via nello stesso minuto in cui siete salito a bordo gli risposi con la calma che si usa nelle faccende d'ordinaria amministrazione quasi che si trattasse di una terza persona assai lontana e io signor Barnes non vi avrei lasciato andare avete sottoscritto gli articoli che vi impegnano con la nave in qualità di prima ufficiale e finché essi non decadano nell'ultimo porto di scarico confido che farete il vostro dovere e mi presterete l'aiuto della vostra esperienza al meglio delle vostre capacità nei suoi occhi indugiava la fissità di chi rimane incredulo ma questa si sciolse innanzi al mio atteggiamento cordiale con un lieve movimento delle braccia verso l'alto in seguito avrei imparato a conoscere bene quel gesto si precipitò fuori dalla cabina avremmo anche potuto risparmiarci questo piccolo scontro senza conseguenze infatti non molti giorni dopo sarebbe stato Barnes a implorarmi di non lasciarlo per strada da dove io avrei potuto offrirgli soltanto risposte poco rassicuranti tutta la faccenda avrebbe poi preso una piega in qualche modo tragica e questa seccatura era solo un episodio secondario una semplice complicazione nel più generale problema di come portare la nave che era mia con tutto il suo equivaggiamento e i suoi uomini con il suo corpo e il suo spirito ora addormentato in quel fiume pestilenziale di come portare la nave in alto mare mentre faceva le funzioni di capitano il signor Barnes si era affrettato a firmare un contratto di noleggio che in un ideale mondo senza inganni sarebbe stato una cosa ottima non appena lo scorsi vidi i guai in prospettiva a meno che gli altri firmatari non fossero eccezionalmente onesti e aperti alla discussione il signor Barnes cui rivelai i miei timori decise di sentirsi molto offeso mi guardò con quel suo solito sguardo fisso di incredulità e disse amaramente immagino signore che vogliate dimostrarmi che ho agito da stupido gli risposi con quella sistematica gentilezza che ogni volta pareva aumentare la sua sorpresa che non volevo dimostrare un bel nulla avrei lasciato che la cosa fosse decisa dai fatti e senza meno i fatti ci portarono una quantità di guai verono giorni in cui pensavo al capitano Gills quasi con ripugnanza quella sua maledetta perspicacia mi aveva instradato a questo lavoro mentre la sua profezia che avrei dovuto far fronte a un bel po' di problemi avverandosi dava a tutto ciò l'aspetto di un brutto tiro giocato di proposito alla mia innocenza giovanile già dovevo far fronte a un bel po' di problemi che erano preziosissimi come esperienze tutti tengono in grande considerazione i vantaggi dell'esperienza ma a tal riguardo bisogna dire che l'esperienza significa sempre qualcosa di sgradevole che soppone all'incanto e all'innocenza delle illusioni le mie illusioni devo dire stavo perdendo la infretta ma non mi dilungherò su tutti gli istruttivi problemi a cui mi trovai di fronte se non per dire che potrebbero riassumersi in una sola parola ritardo un'umanità che ha inventato il detto il tempo è denaro potrà ben capire la mia irritazione la parola ritardo si infilò nella camera segreta del mio cervello ivi e che giò come una campana a morto che ossessioni l'orecchio e fece brezza nei miei sensi assunse una coloritura nerastra un sapore amaro un significato mortale davvero mi dispiace di vedervi così preoccupato per la verità io questo fu l'unico discorso umano che mi capitò d'udire in quel frangente e veniva da un dottore ben si intende un dottore è umano per definizione ma quell'uomo lo era in realtà non parlava in modo professionale io non ero malato ma altre persone lo erano e questo fu il motivo della sua visita a bordo egli era il dottore della nostra legazione e naturalmente anche del consolato si occupava della salute sulla nave che in generale era scarsa e traballante per così dire sull'orlo dell'abisso già gli uomini non stavano bene e così il tempo non era solo denaro ma anche vita in gioco non ho mai visto un equipaggio tanto disciplinato come mi fece osservare il dottore si direbbe che abbiate un gruppo di marinai davvero coi fiocchi non erano soltanto moderati nel bere tutti ma neppure desideravano andare a terra si fece in modo di esporli al sole il meno possibile erano impiegati in lavori leggeri sotto i tendoni e quel dottore umano mi elogiò le disposizioni che avete dato mi sembrano molto giudiziose caro il mio capitano è difficile dire quanto quella dichiarazione mi confortò la faccia piena e rotonda del dottore incorniciata da favoriti biondastri era il perfetto ritratto di una dignitosa affabilità era l'unico essere umano al mondo che sembrasse nutrire un qualche interesse per me di solito rimaneva seduto nella cabina per circa mezz'ora a ogni visita un giorno gli dissi suppongo che vi sia altro da fare che continuare a curarli come state facendo sinché non potremo mettere la nave per mare chinò il capo chiudendo gli occhi dietro i grandi occhiali e mormorò il mare indubbiamente il primo membro dell'equipaggio a soccombere fu il cambusiere il primo uomo con cui avevo parlato a bordo venne portato a terra con i sintomi del colera e i vi morì dopo una settimana poi mentre ero ancora sconvolto da questa prima offensiva del clima locale il signor Barnes cedette e si misi a letto con un violento febbrone senza dir nulla a nessuno ritengo che lo stato di irritazione in cui si trovava abbia in parte favorito la malattia il clima fece il resto con la rapidità di un mostro invisibile in agguato nell'aria nell'acqua nel fango delle sponde di quel fiume il signor Barnes era una vittima predestinata lo trovai che giaceva a supino con lo sguardo torvo di corruccio ed emanante calore come una piccola fornace rispondeva appena alle mie domande e brontolava solo questo se uno aveva un gran mal di testa poteva fare a meno di lavorare per un pomeriggio una volta tanto no quella sera stessa mentre sedevo dopo cena nella sala lo udì borbottare senza sosta nella sua stanza Ransom che stava sparecchiando la tavola mi disse temo proprio signore che non potrò badare al primo ufficiale secondo le sue necessità dovrò stare all'avanti a occuparmi della cambusa per gran parte del tempo Ransom era il cuoco il primo ufficiale me l'aveva indicato il primo giorno in piedi sulla tolda con le braccia incrociate sul largo petto intento a osservare il fiume la sua figura era ben proporzionata anche di completamente marinaresco nel portamento bene equilibrato si faceva notare anche da lontano da vicino gli occhi tranquilli e intelligenti l'espressione educata del volto la disciplinata indipendenza dei modi lo rendevano una personalità attraente quando il signor Bams mi aveva detto che era il miglior marinaio a bordo io avevo espresso la mia sorpresa che un uomo ancora giovane e con tale aspetto si imbarcasse in qualità di cuoco è il cuore aveva detto Bams ha qualcosa che non va non deve fare troppi sforzi altrimenti potrebbe anche cadere secco da un momento all'altro ed era l'unico che il clima avesse risparmiato forse perché portandosi un nemico mortale in petto egli sarà educato a un controllo sistematico di gesti e sentimenti conoscendo il suo segreto ciò risultava palese nei suoi modi dopo la morte del povero cambusiere e siccome in quel porto d'oriente non era possibile rimpiazzarlo con un altro uomo bianco Ransom sarà offerto di fare il doppio lavoro posso farlo benissimo signore purché mi muova senza fretta mi aveva assicurato ma ovviamente non ci si poteva aspettare che si occupasse anche dei malati tanto più che il dottore mi aveva ordinato perentoriamente di sbarcare il signor Bans a terra con due marinai ai lati che lo reggevano per le ascelle il primo ufficiale si avviò sulla passerella più immusonito che mai sistemammo dei cuscini in una di quelle carrozzelle chiamate a Garry ed egli fece uno sforzo per dirmi queste frasi rotte avete quel che volevate di scaricarmi dalla nave vi sbagliate come non mai signor Bans disse in tono tranquillo offrendogli un sorriso di circostanza poi quel laggezzo lo portò in una specie di sanatorio un padiglione in muratura che il dottore aveva approntato accanto alla sua residenza andai regolarmente a fargli visita dopo i primi giorni durante i quali non riconosceva nessuno prese ad accogliermi come se andassi a godermi la vista di un nemico annientato oppure a ingraziarmi una persona che avevo profondamente offeso da allora era l'una e da allora l'altra cosa secondo le sue bie di malato quale che fosse riusciva a farmene sentire il peso anche nel periodo in cui appariva troppo debole per poter parlare io lo trattavo invariabilmente con la stessa cortesia fino a quando un giorno da tutto quel farnetico proruppe una vera crisi di panico se l'abbandonavo in quel luogo pestifero sarebbe morto lo sentiva ne era certo ma io non avrei avuto cuore ad abbandonarlo a terra egli aveva una moglie e un figlio a Sydney estrasse gli avambracci scheletrici da sotto il lenzuolo che lo copriva e si torse coi suoi due artigli scarnificati sarebbe morto sarebbe morto qui a tutti i costi volle rizzarsi nel letto ma resistette solo un momento e allorché calde diverso davvero pensai che sarebbe morto lì seduta stante chiamai l'infermiare bengalese e mi affrettai ad abbandonare la stanza e domani poi mi sconvolse del tutto rinnovandomi le sue suppliche gli offri una risposta evasiva e lo lasciai che sembrava il ritratto della più nera disperazione e di seguente entrai a visitarlo con riluttanza ed egli subito mi aggredì con voce più acuta e con una pletora di argomentazioni affatto stupefacenti perorò la propria causa con una specie di bagliosa foglia per chiedermi infine se volessi avere la vita di un uomo sulla coscienza pretendeva che gli promettessi di non alzare le vele senza di lui gli risposi che di fatto dovevo prima consultare il dottore al che si diede a urlare il dottore mai quella sarebbe stata la sua condanna a morte fu preso dallo sfinimento per lo sforzo chiuse gli occhi ma continuò a vaneggiare sottovoce io lo avevo odiato sin dal primo momento anche il precedente capitano lo aveva odiato l'avrebbe voluto morto avrebbe voluto morto tutto l'equipaggio perché volete mettervi in combutta con quella malvasa carcassa signore ve la farà anche a voi concluse sbattendo gli occhi vitri e inespressivi signor Barnes urlai a questo punto perdendo le staffe di cosa diavolo state parlando parve tornare in sé sebbene in vero fosse troppo debole per reagire non lo so disse languidamente ma non chiedete al dottore voi e io signore siamo marinai non chiediamoglielo signore un giorno forse anche voi avrete moglie e figlio e nuovamente mi supplicò di non abbandonarlo ebbi la fermezza di non cedergli più tardi tanta durezza mi parve efferata e ciò perché m'ero deciso quel uomo prostrato che aveva assieno la forza di respirare e annientato da un frenetico timore era irresistibile inoltre gli era andato fatto di toccarmi in un punto sensibile io e lui eravamo marinai questo sì che era un appello visto che non avevo famiglia quanto all'argomento moglie e figlio un giorno non aveva per me alcuna forza suonava solo in consulto non riescivo a immaginare un appello più imperioso e più coinvolgente di quello relativo alla mia nave e a quegli uomini bloccati sul fiume da stupidi pasticci commerciali come in una trappola velenosa tuttavia mi ero già quasi aperto una via d'uscita verso il mare il mare che era puro sicuro e amico ancora tre giorni tale pensiero mi sostenne e mi diede slancio mentre tornavo alla nave la voce del dottore mi salutò dalla saletta e alla voce seguì la sua larga forma corporea che emerse dalla cabina di rispetto a dritta qui stava tenuta al sicuro e incatenata al postoletto la cassa di medicinali della nave vedendo che non ero a bordo disse il dottore era entrato a ispezionare la riserva di medicinali band e così via tutto era in ordine al completo lo ringraziai avevo appunto pensato di chiedergli un controllo dal momento che entrò un paio di giorni come sapeva saremmo partiti verso il mare aperto dove tutti i nostri guai sarebbero infine terminati e gli ascoltò con gravità e non rispose ma quando mi confidai con lui a proposito di Banos seduto accanto a me e appoggiandomi la mano amichevolmente sul ginocchio mi chiese di riflettere su ciò a cui andavo incontro l'uomo aveva sienole forze per sopportare uno spostamento ma nulla di più e non avrebbe potuto resistere a un ritorno della febbre mi aspettavo una traversata di 60 giorni forse con all'inizio una rotta difficile e alla fine probabilmente molto cattivo tempo potevo correre il rischio di attraversare tutto ciò da solo senza un primo ufficiale e con un secondo ufficiale che era appena un ragazzo avrebbe potuto anche aggiungere che era il mio primo comando probabilmente ci pensò ma si trattenne dal dirlo la cosa era molto presente nei miei pensieri mi consigliò vivamente di telefonare a Singapore per avere un primo ufficiale anche se ciò avrebbe ritardato la partenza ad una settimana neanche un giorno dissi anche soltanto a pensarsi mi venivano i brividi gli uomini dell'equipaggio parevano in salute tutti quanti e quello era il momento di portarli via una volta sul mare non vera nulla che temessi il mare era adesso l'unico rimedio per tutti i miei guai gli occhiali del dottore erano puntati su di me come due lampade che esplorassero la sincerità delle mie risoluzioni aprì le labbra come se volessi discutere ancora ma le richiuse senza dirmi nulla ebbe una visione così vivida di quel povero Barnes piombato nella prostrazione nell'abbandono e nell'angoscia che mi commosse più della realtà che avevo lasciato alle mie spalle soltanto un'ora prima quella visione era depurata di tutti gli inconvenienti della persona reale e io non seppi resistervi sentite dissi salvo che voi dichiariate ufficialmente che quel uomo non deve essere rimosso darò disposizioni affinché venga portato a bordo domani e il mattino dopo porterò la nave fuori dal fiume a costo di stare all'ancora oltre la barra un paio di giorni per prepararmi al viaggio darò disposizioni io stesso disse subito il dottore parlavo così in via amichevole per il vostro bene e cose del genere salzò in piedi con la sua compunta semplicità e mi diede una calorosa stretta di mano piuttosto solennemente pensai ma di lui mi potevo fidare quando il signor Banos apparve sulla passarella portato in una lettiga il dottore gli camminava a fianco l'unico mutamento di programma fu che quel trasporto venne lasciato all'ultimo momento l'unico mutamento di programma fu che quel trasporto venne lasciato all'ultimo momento per il mattino stesso della partenza era appena un'ora dopo l'alba il dottore agitò verso di me il suo lungo brazzo dalla riva e subito si avviò verso il calesse che l'aveva seguito vuoto sul lungo fiume il signor Barnes trasportato sul cassero aveva l'aria ad essere assolutamente esanime Ransom scese a sistemarlo nella sua cabina io dovette rimanere sopra coperta per badare alla nave da che il rimorchiatore sarà già agganciato al nostro cavo di traino il tonfo delle gomene d'ormeggio nell'acqua produsse in me un completo cambiamento d'umore era ancora come l'incerto sollievo dopo essersi svegliati da un incubo ma quando la prua della nave si volse giù per il fiume allontanandosi da quella squallida città orientale non provai l'ebbrezza che mi attendevo da quel momento tanto sospirato fu piuttosto senza dubbio un allentamento della tensione che si tradusse in un senso di stanchezza come dopo un'ingloriosa lotta verso mezzodì c'ancorammo a un miglio ford alla barra nel pomeriggio vi fu molto da fare per tutti i membri dell'equipaggio sorvegliando il lavoro da poppa dove rimasi ininterrottamente notai ancora una certa spossatezza che le sei settimane trascorse nell'umida calura del fiume avevano diffuso a bordo la prima brezza l'avrebbe spazzata via ora la calma era assoluta mi parvi di capire che il secondo ufficiale un giovinotto in plume con una faccia che prometteva poco per dirla senza offesa non possedesse la stoffa impagabile che ci vuole al braccio destro di un comandante fui contento tuttavia di notare sul ponte principale qualche sorriso sui volti dei marinai che non avevo ancora avuto modo di osservare come si deve essendomi sciolto dalle spire mortali degli affari di terraferma mi sentivo vicino a loro e tuttavia anche un poco estraneo quale un viaggiatore che ritorni tra i suoi dopo lunga assenza Ransom andava avanti e indietro senza sosta tra la cambusa e la cabina era un piacere guardarlo quel uomo davvero possedeva una grazia innata era l'unico di tutto l'equipaggio a non essersi ammalato durante la sosta neppure per un giorno ma essendo al corrente di quel cuore scomodo che portava nel petto riuscivo a vedere le cautele con cui frenava l'agilità naturale dei suoi movimenti da marinaio era come se avesse da portare in sé qualcosa di molto fragile o esplosivo avendo di ciò coscienza momento per momento ebbi occasione di rivolgergli la parola un paio di volte mi rispose con voce pacata e gradevole nonché con un sorriso appena accennato riavemente assorto a quanto pare il signor Barnes stava riposando sembrava del tutto tranquillo dopo il tramonto tornai sopra coperta per trovarsi solo un immobile vuoto la sottile indistinta linea costiera non era discernibile intorno alla nave era sorta l'oscurità come una misteriosa emanazione di quelle acque mute e solitarie mi appoggiai al parapetto e porsi l'orecchio alle ombre della notte neppure un suono la mia nave avrebbe potuto essere un pianeta lanciato nel suo vertiginoso volo lungo l'orbita prefissata in uno spazio di infinito silenzio mi afferrai alla battagliola come se stessi per perdere il senso dell'equilibrio che cosa assurda nervosamente diede una voce hai là sul ponte l'immediata risposta sì signore ruppe la malia l'uomo di guardia si affrettò agilmente su per la scala gli dissi di segnalarmi subito il benché minimo segno di brezza mentre scendevo da basso gettai un'occhiata al signor Barnes in realtà non potevo fare a meno di vederlo poiché la sua porta era aperta nella bianca cabina sotto il bianco lenzuolo col capo impicciolito e sprofondato nel bianco cuscino quel uomo era così consunto che solo i suoi rossi baffi attiravano l'attenzione come alcunché d'artificiale un paio di baffi da vetrina messi in bella mostra là sotto la luce cruda e senza ombre della lampada della paratia mentre lo osservavo in una specie di stupore egli dia dei segni di vita aprendo gli occhi e persino muovendoli nella mia direzione un movimento impercettibile buonazza assoluta signor Barnes disse in tono d'assegnato con voce sorprendentemente chiara il signor Barnes iniziò a vaneggiare il suo tono era stanco non perché affetto dal suo male ma perché sortiva da tutt'altra natura pareva sovrannaturale quanto a ciò che diceva mi parve di capire che incolpasse il vecchio il defunto capitano inagguato laggiù sotto il mare con qualche intenzione malvagia era una storia che metteva i brividi ascoltai sino in fondo indi entrando nella cabina posi la mano sulla fronte del primo ufficiale era fresca il vaneggiamento era dovuto soltanto all'estrema debolezza d'un tratto egli parve divenire cosciente della mia presenza e con la sua voce consueta molto fievole si capisce mi chiese con rincrescimento non c'è proprio speranza di mettersi in marza signore a che scopo lasciare la fonda per poi andare alla deriva signor Barnes risposi sospirò e lo lasciai alla sua immobilità la sua vitalità era incerta quanto la sua salute mentale e per quello che mi riguarda ero oppresso dalle responsabilità che dovevo affrontare da solo andai nella mia cabina a cercare il sollievo di qualche ora di sonno e avevo sieno chiuso gli occhi quando l'uomo sopra coperta scese a informarmi di una leggera brezza sufficiente per far vela disse in realtà era sieno sufficiente ordinai di mettere in opera i verricelli di mollare le vele e di bordare le gabbie ma quando ebbi orientata la prora non riuscivo più a sentire alcun soffio di vento nonostante ciò feci bracciare i pennoni e misi fuori tutta la velatura non volevo rinunciare a quel tentativo con l'ancora a pelo d'acqua e invelata fino alle cime degli alberi la mia nave sembrava immobile come un modellino d'imbarcazione sopra un levigato marmo pieno d'ombre e riflessi nell'enigmatica stasi delle immense forze del mondo non vera modo di distinguere la terra dall'acqua fui colto da un'improvvisa impazienza non risponde al timone dissi con irritazione all'uomo che impugnava le caviglie della ruota con le forti mani scure che emergevano dal buio quale simbolo dell'umana pretesa di governare il proprio destino mi rispose sì signore viene ad agio metti la prova a sud sì signore a lenti passi misuravo il cassero di poppa non si diva alcun suono oltre a quello dei miei passi fino a quando l'uomo non mi parlò nuovamente ora verso sud signore provai una lieve stretta al cuore prima di annunciare la prima rotta del mio primo comando alla notte silenziosa pregna di rugiada e sfavillante di stelle quel lato che nel mio compito solitario mi impegnava o non interrotta veglia aveva un chè di definitivo alla via disse infine rotta sud sud signore fecei col uomo mandai da basso il secondo ufficiale e la guardia e rimase al posto loro a passeggiare sul ponte nelle fresche e sonnolente ore che precedono l'alba refoli di brezza arrivavano e sparivano e quando abbastanza forti da agitare l'acqua scura il mormorio sul fianco della nave mi scorreva nel cuore in un delicato crescendo di gioia per poi smorire via via rapidamente ero tremendamente stanco persino le stelle parevano stremate nell'attesa dell'alba questa venne infine con un lucore di madreperla allo zenit come non ne avevo mai visto ai tropici opaca quasi grigia con una strana reminiscenza di alte latitudini la voce dell'uomo di vedetta risuonò da prua terra prora signore molto bene appoggiato al parapetto non avevo neppure alzato gli occhi il moto della nave era impercettibile in quel momento Ransom mi portò la tazza di caffè mattutino dopo che l'ebbi bevuto guardai innanzi e nell'immota stria di vivissima luce arancione chiaro vidi la terra che si profilava piatta come se ritagliata da un foglio di carta nero con l'aria di galleggiare sull'acqua leggera quanto un sughero ma il sole nascente la tramutò in un semplice vapore scuro un'ombra inserta e compatta tremolante nell'acceso riverbero l'uomo di servizio terminò i ponti sesi sotto e mi fermai sulla porta del signor Burns non sopportava che venisse chiusa ma esitai a parlargli fin quando non mosse gli occhi gli comunicai le ultime notizie avvistato capo liant all'alba circa 15 miglia allora gli mosse le labbra ma non udì alcun suono finché non gli avvicinai l'orecchio per cogliere quello stizzoso commento come le lumache una scalogna meglio che stare fermi comunque feci notare rassegnato e lo lasciai ai pensieri o fantasie che l'ossessionavano nella sua disperata prostrazione quali che fossero più tardi quel mattino quando il secondo ufficiale venne a darmi il cambio mi gettai sulla cuccietta e per circa tre ore riuscii a dimenticare veramente tutto l'oblio fu così perfetto che al risveglio mi chiedevo dove fossi indi venne l'immenso sollievo del pensiero a bordo della mia nave in mare in mare attraverso l'oblò vidi un orizzonte completamente liscio battuto dal sole l'orizzonte di un giorno privo di venti ma la sua spaziosità era sufficiente a darmi un senso di fortunosa fuga un momentaneo esaltante senso di libertà passai nel salottino con una leggerezza in cuore quale non sentivo da molti giorni ranson era alla credenza si apprestava ad apparecchiare la tavola per il primo pranzo in mare di questa traversata volse il capo e qualcosa nei suoi occhi fece svanire la mia modesta esaltazione l'impulso chiesi cosa c'è ancora senza attendermi in alcun modo la risposta che ebbi con quella specie di contenuta serenità che era caratteristica in quel uomo mi venne comunicato temo proprio che non abbiamo lasciato tutti i malanni a terra signore no cos'è accaduto allora mi spiegò che due dei nostri uomini durante la notte erano stati colti da un febbrone uno scottava e l'altro aveva i brividi ma a suo giudizio doveva trattarsi della stessa cosa lo pensai anch'io la notizia mi scosse uno scotta e l'altro ha i brividi di te no ce li siamo lasciati indietro hanno l'aria ad essere molto malati piuttosto signore e gli occhi di Ransom fissarono intenti i miei ci scambiamo un sorriso quello di Ransom un po' assorto come al solito il mio abbastanza fosco da corrispondere alla segreta esasperazione che mi rodeva chiesi non c'era vento per niente questa mattina difficile dirlo signore però ci siamo mossi sempre un pochino la terra là davanti sembra un po' più vicina così era un po' più vicina laddove se avessimo avuto soltanto un poco più di vento avremmo potuto dovuto essere all'altezza di Lian e aumentata la distanza che ci separava da quella riva infetta ma non era solo una questione di distanza mi pareva che una forte brezza avrebbe avuto l'effetto di spazzar via l'infezione che la nave si portava dietro era chiaro che se la portava dietro due uomini uno che scottava e uno con i brividi provai una netta riluttanza all'idea di andarli a vedere a che serviva? il veleno è veleno le febbre tropicale è febbre tropicale ma che essa avesse proteso i suoi tentacoli su di noi fino al mare aperto mi pareva un abuso insolito e sleale stentavo a credere potesse essere qualcosa di più di un'ultima funesta unghiata del male che stavamo fuggendo verso il soffio incontaminato del mare se solo quel soffio fosse stato un poco più forte tuttavia contro la febbre c'era il chinino andai nella cabina di rispetto dove era tenuta la cassetta dei medicinali per prepararne due dosi le aprì con la fede del uomo che apre un reliquiario miracoloso nella parte superiore era disposta una collezione di bottiglie tutte squadrate e tutte identiche l'una all'altra come gocce d'acqua sotto quell'ordinario assembramento verono due cassetti ricolmi da ogni ben di dio vende scatole di cartone con etichette regolamentari il cassetto inferiore in uno dei due scomparti conteneva la nostra provvista di chinino verono cinque bottiglie tutte rotonde e della stessa misura una ad esse era piena per circa un terzo le altre quattro erano ancora incartate e sigillate non mi aspettavo però di trovare una busta appoggiata in cima a loro una busta quadrata che senza meno proveniva dalla cancelleria della nave dal modo in cui era appoggiata potei vedere che non era chiusa e prendendola in mano e voltandola mi accorsi che era indirizzata a me conteneva mezzo foglietto di un calepino e spiegai con lo strano sentimento di avere a che fare col sovrannaturale senza alcuna eccitazione tuttavia come quando vediamo e facciamo cose straordinarie in un sogno mio caro capitano iniziava ma io corsi alla firma chi mi scriveva era il dottore recava la data del giorno in cui tornando dalla mia visita al signor Barnes all'ospedale avevo trovato quell'eccellente medico che mi aspettava nella cabina quando mi disse che per ingannare il tempo aveva ispezionato la cassetta dei medicinali strano mentre attendeva il mio ritorno da un momento all'altro si era preso il gusto di scrivermi una lettera e poi al mio arrivo si era affrettato a ficcarla nella cassetta dei medicinali un comportamento poco credibile meravigliato mi diede a scorrere il testo con calligrafia larga frettolosa ma leggibile quel simpatico bravuomo per qualche motivo vuoi per gentilezza o più probabilmente perché spinto da un irresistibile desiderio di pronunciarsi senza tuttavia deprimere troppo presto le mie speranze ma avvertiva di non riporre eccessiva fiducia nei benefici effetti del cambiamento d'aria tra terra e mare non ho voluto procurarvi un'altra preoccupazione scoraggiando le vostre speranze scriveva temo che in termini medici non siete ancora venuto a capo dei vostri guai in breve riteneva che con tutta probabilità avrei dovuto affrontare un ritorno della febbre tropicale fortunatamente avevo una buona provvista di chinino dovevo confidare in quello e somministrarlo regolarmente agli uomini qualche le condizioni di salute della nave sarebbero senz'altro migliorate accartocciai la lettera e me la ficcai in tasca ramson portavia due grosse dosi per gli uomini di prua quanto a me non salì ancora in coperta mi diressi invece alla porta della stanza del signor barnes e non misi a parte della notizia fu impossibile capire che effetto avesse su di lui da prima pensai che fosse rimasto senza parole col capo sprofondato nel cuscino mosse tuttavia le labbra a sufficienza per assicurarmi che stava recuperando le forze dichiarazione violentamente smentita dal suo aspetto nel pomeriggio feci il mio turno di guardia in coperta come cosa convenuta una grande calma torrida avvolgeva la nave e pariva trattenerla immobile in un'atmosfera infuocata composta da due tonalità d'azzurro deboli refoli d'aria calda si smorzavano sulle vele eppure la nave si muoveva doveva essersi mossa infatti al calar del sole mi accorsi che ci eravamo trascinati oltre capoliant e l'avevamo lasciato alle spalle un'ombra sinistra di presagi che si allontanavano con gli ultimi bagliori del crepuscolo a sera sotto la cruda luce della lampada il signor Barnes pareva riemerso un poco dalle profondità del letto era come se una mano che l'opprimeva si fosse sollevata rispose alle mie domande con discorso relativamente lungo e coerente si mostrò sicuro di sé se gli riusciva di non soffocare in quel caldo stagnante disse contavo di poter salire entro pochi giorni sopra coperta ad aiutarmi mentre gli parlava tremavo al pensiero che quegli sforzi potessero farlo stramazzare esanime sotto i miei occhi ma non posso negare che la sua buona volontà mi desse qualche conforto gli risposi di conseguenza pur facendogli notare che l'unica cosa che avrebbe potuto orientarsi era il vento un bel vento agitò la testa sul cuscino con moto di impazienza e non mi diede alcun conforto sentirlo riattaccare il borbottio mattoide sul defunto capitano su quel vecchio sepolto a 8 gradi e 20 primi di latitudine proprio sulla nostra rotta in agguato all'ingresso del golfo state ancora pensando al vostro ex capitano signor Barnes disse io suppongo che i morti non abbiano alcuna animogità verso i vivi quello che fanno non li tocca più voi non conoscete quello là sospirò debolmente no non lo conoscevo e lui non conosceva me e perciò non può avere alcun risentimento verso di me comunque sì ma a bordo c'è tutto il resto di noi insistette accorsi che quel tetro pazzesco delirio stava insidiosamente minacciando la forza del senso comune e dissi non dovreste parlare tanto mi stancherete e c'è anche la nave insistette con un sussurro adesso basta non una parola di più dissi entrando a posargli la mano sulla fronte fresca ciò mi dimostrò che quella troce assurdità aveva le sue radici nell'uomo stesso e non nella malattia la quale evidentemente l'aveva svuotato ad ogni potere mentale e fisico lasciandogli solo quell'idea fissa nei giorni seguenti evitai di offrire al signor Burns alcuno spunto di conversazione mi limitavo a lanciargli una parola frettolosa e allegra quando passavo innanzi alla sua porta credo che se ne avessi avuto la forza mi avrebbe più volte richiamato indietro ma non ne aveva la forza Ransom tuttavia parlando con me un pomeriggio osservò che il primo ufficiale sembrava riprendersi a meraviglia va fatto discorsi insensati negli ultimi tempi chiesi casualmente no signore rispose Ransom sorpreso dalla mia domanda diretta ma dopo una pausa aggiunse con voce uniforme stamattina mi ha detto che gli dispiaceva d'aver seppellito il nostro ex capitano proprio sulla rotta della nave e per così dire fuori dal golfo non vi sembra una cosa abbastanza insensata chiesi guardando con fiducia il suo volto calmo e intelligente sul quale la segreta angustia che portava in petto aveva gettato un velo d'affanno Ransom Ransom non si pronunciò non aveva posto mente alla questione fece un debole sorriso e scivolò verso le sue interminabili incombenze con quel sorvegliato zelo che gli era consueto trascorsero altri due giorni avevamo fatto qualche passo in avanti passi minuscoli nel più vasto spazio del golfo del Siam benché fervidamente sorretto dall'entusiasmo per il primo comando caduto a mitra le braccia grazie ai buoni uffici del capitano Gills provavo tuttavia la disagevole impressione che vi fosse un prezzo da pagare per quel colpo di fortuna con spirito professionale avevo passato in rassegno alle mie possibilità la competenza per quel lavoro non mi mancava almeno così pensavo io avevo la consapevolezza complessiva della mia preparazione che conosce soltanto chi segue una vocazione che ama quel sentimento mi pareva il più naturale del mondo naturale quanto il respiro senza di esso pensavo non avrei potuto vivere cosa mi aspettassi non so null'altro che una particolare intensità dell'esistenza forse ciò che è il succo delle aspirazioni giovanili quali che fossero le mie attese non mi aspettavo certo ad essere sconvolto dai cicloni fino a lì non avevo dubbi nel golfo del Siam non vi sono cicloni ma non mi sarei neppure aspettato di trovarmi legato mani e piedi a una tale situazione di impotenza quale mi si rivelava col passare dei giorni non che quel maligno incanto ci tenesse sempre fermi in un punto misteriose correnti si spostavano in qua e in là con spinte furtive che si palesavano col mutar di veduta su quelle isole in cui termina la costa orientale del golfo espiravano inoltre dai venti volubili e ingannevoli questi suscitavano speranze solo per annientarle nella più amara delusione compromesse di spostamenti che si concludevano in perdite di tragitto esaurendosi nei sospiri smorendo in muta immobilità dove le correnti a noi nemiche erano sovrane l'isola di corring grande nera e sopraelevata cresta tra una miriade di isolotti distesa nell'acqua vitrea come un gigante tra i pigmei distesa nell'acqua vitrea come un gigante tra i pigmei pareva stare al centro di quel cerchio fatale era come se fosse impossibile uscirne giorno dopo giorno rimaneva là in vista più di una volta con brezza favorevole mi dia di accompiere il suo rilevamento nel breve spazio del crepuscolo sperando fosse per l'ultima volta vana speranza inquieti movimenti d'aria nella notte annullavano i nostri momentanei progressi e il sole levandosi scopriva il nero rilievo di corring che pareva più nudo più in ospitale più tetro che mai parola mia è come se ci avessero stregato disse una volta al signor Burns disse una volta al signor Burns sostando come al solito sulla porta egli sedeva nel letto in posizione eretta e stava marciando a gran passi verso il mondo dei vivi sebbene non si potesse dire che avesse ripreso con esso un contatto effettivo muovendo il cranio sudo e fragile mi fece un segno d'assenso con aria di misteriosa saggezza oh certo so cosa volete dire risposi ma non aspettatevi che io creda che un morto sia capace di scombinare la meteorologia di quest'angolo del mondo anche se in effetti si direbbe proprio che sia andata a rotoli le brezze di terra e di mare sono tutte spezzettate non possiamo contare su di loro ne manco per cinque minuti di seguito tra poco sarò in grado di salire sul ponte borbottò Burns e vedremo se con ciò intendesse promettermi che avrebbe dato battaglia alle maligne potenze sovrannaturali non avrei potuto dire ad ogni modo non di questo genere di aiuto avevo bisogno d'altra parte ero rimasto sopra coperta praticamente notte e giorno nel tentativo di portare la nave un poco a sud il mio primo ufficiale lo vedevo era ancora debolissimo e non del tutto sciolto da quel delirio che ai miei occhi si spiegava solo come un sintomo della sua malattia a ogni buon conto le speranzose aspettative di un malato non andavano scoraggiate e dissi sarete senz'altro il benvenuto signor Burns e se continuate a migliorare di questo passo ben presto sarete una delle persone più in salute a bordo se ne compiacque ma quella sua estrema magrezza tramutò il sorriso soddisfatto e non aspettrà l'esibizione di lunghi denti sotto i baffi rossi gli uomini non stanno meglio signore che asentano sobrio con espressione d'ansia più che mai assennata in volto mi risposi con un gesto vago e me ne andai il fatto era che la malattia si prendeva gioco di noi non meno capricciosamente dei venti passava da un uomo all'altro con effetti più o meno pesanti che lasciavano sempre delle tracce rendendo l'uno vacillante l'altro incapace di reggersi per qualche tempo e abbandonando l'uno per volgersi a un altro così che tutti ora avevano un'aria malatizia e uno sguardo smarrito apprensivo mentre io ransom gli unici rimasti completamente indenni passavamo tra di loro distribuendo in continuazione del chinino era una duplice lotta il tempo avverso ci occupava frontalmente mentre la malattia ci incalzava alle spalle devo dire che gli uomini si comportavano molto bene sopportavano di buon grado la continua fatica per bracciare i pennoni ma non c'era scatto delle loro membra e osservandoli da poppa non potevo sottrarmi alla tremenda impressione che si muovessero in un'atmosfera avvelenata sotto coperta nella sua cabina il signor Bans sarà migliorato al punto da poter non solo sedere eretto ma anche rialzare le gambe afferrandosene con le sue ossuta braccia come uno scheletro animato metteva profondi sospiri di impazienza la cosa importante signore mi diceva ogni volta che gliene dava occasione la cosa importante è di portare la nave oltre gli 8 gradi 20 primi di latitudine una volta passato quel punto siamo a cavallo da prima sorridevo alle sue parole benché lo sai Dio quanta poca voglia ne avessi ma alla fine persi la pazienza ah certo 8 gradi 20 primi di latitudine quello è il posto dove avete sepolto il vostro ex capitano se non sbaglio quindi con severità non credete signor Bones che sarebbe ora di farla finita con queste sciocchezze vuotò verso di me gli occhi profondamente incavati con un sguardo di indomabile ostinazione ma a parte questo si limitò a borbottare con voce appena udibile qualcosa come non c'è da stupirsi vedrete ci giocherà qualche altro tiro birbone scambi del genere non erano precisamente quello che ci voleva per mantenere saldi i miei nervi il peso delle avversità cominciava a farsi sentire su di me nello stesso tempo detestavo quell'oscura debolezza del mio animo sdegnato mi dissi che ci sarebbe voluto ben altro per intaccare minimamente la mia fermezza non prevedevo allora quanto presto sarebbe stata attaccata né su quale inatteso fronte accadde l'indomani stesso il sole era salito e illuminava il contrafforte meridionale del Koring che era sempre lì fermo a babordo come una malefica sentinella la sua vista mi era profondamente odiosa durante la notte avevamo battuto tutti gli angoli della bussola bracciando senza pose e pennoni verso ciò che temo fossero soprattutto refoli di brezze immaginarie di poi proprio sul far del giorno ci trovammo per un'ora con una brezza continua e inesplicabile che ci veniva in faccia quella brezza era un controsenso non si accordava con la stagione né con la secolare esperienza degli uomini registrata nei libri e ne manco con l'aspetto del cielo poteva spiegarsi solo come una intenzionale malevolenza essa ci mandò a viaggiare a tutta spinta lontano dalla nostra rotta e se fossimo stati in una crociera di piacere sarebbe stata una brezza deliziosa tra i risorti riflessi del mare con una sensazione di moto ed insolita freschezza poi ad un tratto quasi sdegnando di protrarre ancora il triste gioco cadde del tutto e sparì in meno di cinque minuti la prora accostò sul lato di sbandamento il mare di nuovo immobile in bonaccia divenne lucido come una piastra d'acciaio scesi sotto coperta non perché volessi prendermi un poco di riposo ma semplicemente perché a tal punto non sopportavo più quella vista l'infaticabile Ransom era affaccendato nella saletta era divenuta consuetudine che egli al mattino mi ragguagliasse sommariamente sulla situazione sanitaria si volse dalla credenza verso di me col suo solito sguardo tranquillo gradevole nessuna ombra indugiava sulla sua fronte intelligente stamattina ce ne sono parecchi che vanno piuttosto male disse con calma come? tutti a letto? beh solo un paio stanno in cucetta però signore è stata la notte scorsa non abbiamo fatto altro che hissare e alare per tutto il santo tempo sì me l'hanno detto signore avevo voglia di venire a dare una mano però voi sapete signore neppure per sogno non dovete i uomini poi di notte dormono in coperta neanche quello gli fa bene Ransom assentì però non si poteva neanche star loro dietro come fossero bambini e neppure poi li si poteva abiasimare se cercavano quel poco di frescura e di aria che si poteva trovare in coperta quanto a lui si intende era troppo esperto per fare alcunché di simile e davvero egli era un uomo di buon senso ma sarebbe parso troppo severo dire che non lo fossero gli altri gli ultimi giorni erano stati per noi come la prova del fuoco non era in alcun modo possibile stupirsi se la loro ordinaria imprudente natura di uomini cercava di godere al meglio i momenti di sollievo quando la notte recava un'illusione di frescura e le stelle scintillavano nell'aria pesante greve di rugiada e poi non erano forse quasi tutti loro indeboliti al punto che nulla si poteva fare senza l'aiuto di chiunque potesse ancora reggersi sulle gambe no a nulla valeva protestare con loro ma io fermamente credevo che il chinino fosse di grande utilità credevo nel chinino vi riponevo tutta la mia fiducia avrebbe salvato gli uomini la nave infranto l'incantesimo con la sua potenza medicinale avrebbe privato il tempo della sua importanza avrebbe fatto del clima una mera preoccupazione passeggera e simile a una polvere magica che sconfigge misteriosi malefici avrebbe protetto il primo viaggio del mio primo comando contro le potenze malefiche della bonaccia e della pestilenza ai miei occhi il chinino era prezioso più dell'oro e sulla nave come non accade con l'oro del quale sembra non ve ne sia mai ovunque a sufficienza sulla nave venera una scorta bastevole scesi a prenderlo per misurare le dosi tesi la mano come un uomo che la stende ad afferrare un'infallibile panacea prese una bottiglietta nuova e ne svolsi la carta che la avvolgeva e mi avvidi nel farlo che il sigillo in alto e in basso era stato infranto ma perché annotare tutti i rapidi passi di quella scoperta sconvolgente già avete indovinato la verità la carta era là e la bottiglia e nella bottiglia la polvere bianca una qualche polvere bianca ma non era chinino un solo sguardo valeva a dirlo ricordo che nell'istante stesso in cui presi la bottiglia prima di iniziare a svolgere la carta il peso dell'oggetto che avevo in mano mi diede come una premonizione il peso dell'oggetto che avevo in mano mi diede come una premonizione il chinino è leggero come una piuma e in me i nervi dovevano essere stati esasperati fino a raggiungere una sensibilità affatto fuori del comune lasciai che la bottiglia si infranzesse a terra la polvere di qualsiasi polvere si trattasse scricchiolava sotto la suola della mia scarpa afferrai un'altra bottiglia e poi un'altra ancora il peso altro non era necessario per svelarmi la verità una dopo l'altra caldero spaccandosi ai miei piedi non perché io sgomento le scagliassi a terra ma perché mi scivolavano tra le dita come se la scoperta fosse troppo pesante per le mie forze è un fatto che quanto più forte è la scossa che attraversa la mente tanto più ci aiuta a sostenerla provocando una specie di temporanea insensibilità uscii stordito dalla sala di comando come se mi fosse caduto sulla testa un grave dall'altro capo della saletta ransom restò a fissarmi a bocca aperta con uno straccio in mano non credo che paresse infuriato è probabile che avessi l'aria di andare di fretta perché istintivamente mi stavo precipitando sopra coperta esempio questo di come l'addestramento diviene istinto le difficoltà i pericoli i problemi di una nave si affrontano sopra coperta a questo fatto quasi direi naturale io rispondevo distinto ciò che potrebbe essere visto come la prova che per un attimo io dovetti essere senza il lume della ragione certamente era un istatto di squilibrio in preda agli impulsi perché ai piedi della scala feci dietro front e mi lanciai verso la porta della cabina di Banus la sua aria scarruffata placò il disordine mentale in cui mi trovavo egli sedeva là eretto nella sua cucetta col corpo che pareva immensamente lungo la testa che gli crollava un po' alato con affettato compiacimento nella mano tremante all'estremità di un avambraccio non più grosso di un solido bastone da passeggio brandiva un luccicante paio di forbici che ai miei occhi tentava di ficcarsi nella gola rimasi abbastanza inorridito ma questo fu più che altro un effetto secondario non abbastanza forte da spingermi a urlargli parole come fermo santo cielo cosa state facendo in realtà egli stava semplicemente mettendo a dura prova le forze rinate del suo corpo con un tremolante tentativo di spuntare il fitto cespuglio della sua barba rossa nel suo grembo era steso un lungo tovagliolo e una pioggia di peli duri come filo di rame scendeva ad ogni trinciata di forbici volse a me una faccia più grottesca di qualsiasi folle fantasia onirica con una guancia tutta cespugliosa e avvampata come di fiamma e l'altra ripulita e incavata mentre i lunghi baffi intatti su quel lato asserivano la loro fiera e solitaria presenza e quando mi fissò folgorato con le forbici aperte tra le dita gli gridai la mia scoperta con diabolica cattiveria in sei parole senza commenti colsi il rumore metallico delle forbici sfuggitegli di mano osservai il pericoloso sforzo con cui sollevava tutta la persona per seguire la loro caduta oltre il bordo della cuccetta indi tornando al mio primo proposito prosegui la mia corsa verso il ponte lo spaviglio del mare mi riempì gli occhi era splendente e deserto monotono e senza speranze sotto la vuota conca del cielo le vele pendevano allascate e immobili perfino le pieghe nelle parti afflosciate erano immote come scolpite nel granito l'impetuosità con cui mi presentai fece trassalire un po' l'uomo al timone il bozzello delle sartie lassù in alto scricchiolò inspiegabilmente per qual diavolo di motivo non ho idea era una nota sibilante come quella ad un uccello a lungo molto a lungo rimasi là a contemplare il mondo vuoto sprofondato in un silenzio senza fine dove per qualche misterioso motivo si riversava e spandeva la luce del giorno indiudì la voce di Ransom al mio fianco ho rimesso a letto il signor Burns signore ah sì sì signore il fatto è che sarà alzato di botto e quando ha mollato l'orlo della cucetta è cascato giù però non è fuori di testa secondo me no rispose in modo opaco senza guardare Ransom egli restò in attesa per un attimo poi contatto come a non offendere nessuno secondo me quella roba non bisogna buttarla via signore disse posso raccoglierla fino all'ultimo granello e setacciare il vetro ci vado subito la colazione sarà puntuale dieci minuti di ritardo al massimo sì certamente dissi con amarezza la colazione può aspettare raccogliete tutto e poi buttate quella maledetta roba fuori bordo tornò ad esservi un profondo silenzio e girandomi vidi che Ransom l'intelligente il sreno Ransom non era più al mio fianco l'intensa solitudine del mare agiva come un veleno nel mio cervello quando volsi lo sguardo sulla nave ebbi di lei una visione malata come di una tomba galleggiante chi non ha sentito parlare di navi andate alla deriva senza meta con tutto l'equipaggio morto gli ha di un'occhiata al marinaio che stava al timone ebbe l'impulso di parlargli e infatti il suo avviso assunse un'espressione d'attesa come se avesse intuito la mia intenzione ma alla fine scesi da basso desiderando rimanere da solo per un poco con tutto il peso dei miei fastidi però attraverso la porta aperta il signor Burns mi vide scendere e mi apostrofò corrucciato come vanno le cose signore entrando dissi le cose non vanno per niente rimesso a letto il signor Burns nascondeva ora la guancia ersuta nel palmo della mano quell'idiota mi ha portato via le forbici furono poi le prime parole che gli uscirono la tensione che mi affliggeva era tale che forse fui sollevato quando il signor Burns gli ha da inizio alle sue lagnanze sembrava davvero offeso e borbottò cosa crede quello là che si è impazzito non penso signor Burns dissi in quel momento egli mi pareva un modello di padronanza di sé a tal proposito mi insorse anche una specie di ammirazione per quel uomo che a parte il tratto intensamente materiale di quanto restava della sua barba era giunto così vicino alla condizione di uno spirito incorporeo come nessun altro individuo vivente osservai la linea del suo naso affilata in modo preternaturale la profonda concavità delle tempie e lo invidiai era tanto smagrito che probabilmente sarebbe morto assai presto invidiabile uomo tanto prossimo alla morte mentre io dovevo sopportare in me il tumulto ad una sofferente vitalità di dubbi e confusioni pentimenti e un'indefinita riluttanza ad affrontare l'orribile logica della situazione non potei trattenermi dal borbottare sono io quello che sta impazzendo ho idea il signor Bons mi fissò torvo e spettrale ma peraltro meravigliosamente composto ho sempre pensato che lui ci avrebbe combinato qualche brutto tiro disse con bizzarra enfasi sul lui ciò mi scosse il pensiero e tuttavia non avevo animo cuore spirito per controbattere le sue parole il genere di malattia che avevo si chiamava indifferenza la strisciante paralisi di un orizzonte senza speranza così mi limitai a guardarlo mentre il signor Bons erompeva in ulteriori dichiarazioni no non ci volete credere beh allora come ve lo spiegate voi come pensate possa essere successo successo ripetei ottusamente beh sì per tutti i diavoli dell'inferno come può succedere una cosa del genere in vero a pensarci bene mi sembrava incomprensibile che le cose potessero andare così le bottiglie svuotate riempite di nuovo riavvolte nell'involucro e rimesse al loro posto una specie di complotto un sinistro raggiro qualcosa che somigliava a una scaltra vendetta ma per cosa oppure a uno scherzo infernale il signor bones però disponeva di una teoria in proposito era semplice ed egli la enunciò con voce cavernosa immagino gli abbiano dato all'incirca quindici sterline ad iPhone per quella piccola riserva signor bones esclamai annui grottescamente col capo sopra le gambe sollevate che parevano due manici di scopa dentro il pigiama con enormi piedi nudi all'estremità perché no quella roba costa dei bei quattrini in questa parte del mondo e nel tonchino scarseggia parecchio e a lui cosa gliene importava voi non l'avete conosciuto io sì ne l'ho anche sfidato quello là non aveva paura né di dio né del diavolo né dai venti o del mare e neanche della sua coscienza e secondo me odiava tutto e tutti però credo avesse paura della morte io credo di essere stato l'unico a tenergli testa l'ho affrontato nella cabina dove siete voi adesso quando era malato e gli ho messo addosso un bello spavento ha avuto paura che gli torcessi il collo se lo lasciavo fare si avrebbe portato in bocca al monzone di nord-est fin tanto che viveva e anche dopo per secoli e secoli diventava l'olandese volante del mar della Cina ma perché rimettere a posto le bottiglie in quel modo cominciai e perché non avrebbe dovuto farlo perché avrebbe dovuto buttare via le bottiglie stanno bene lì nel cassetto fanno parte della cassetta dei medicinali no erano incartate le scremai beh la carta per avvolgere era lì pronta l'ha fatto per abitudine secondo me quanto a riempirle c'è sempre una quantità di roba spedita in sacchette di carta che a un certo punto si rompono e poi chi può dirlo voi non l'avete assaggiata vero signore ma naturalmente siete sicuro che no disse non l'ho assaggiata adesso è tutta in mare dietro di me una voce sommessa ed educata disse io l'ho assaggiata sembrava un miscuglio di tutto dolciastra salata proprio disgustosa uscendo dalla cambusa Ransom mi aveva ascoltato per qualche tempo cosa ha fatto scusabile nella circostanza un brutto scherzo disse signor Burns l'ho sempre detto che ce l'avrebbe combinato la mia indignazione si espandeva ora senza limiti e quel dottore così gentile partecipe anche lui l'unica persona veramente partecipe che abbia conosciuto invece di scrivere quella lettera di avvertimento la crema del senso di partecipazione perché quell'uomo non aveva fatto un'ispezione come si deve in realtà prendersela con il dottore non era poi tanto giusto gli accessori erano in ordine e la cassetta dei medicinali e una faccenda sistemata d'ufficio non vera davvero nulla che potesse suscitare il minimo sospetto l'unico che non si sarebbe potuto scusare ero io nulla dovrebbe mai essere dato per scontato il seme di un insanabile rimorso aveva attecchito nel mio petto sento che è tutta colpa mia esclamai mia e di nessun altro è questo che sento non potrò mai perdonarmi quello che dite è molto sciocco signore rispose il signor bonus con cipiglio e dopo tale sforzo ricadde esausto sul letto chiuse gli occhi ansimò quella storia quell'orrenda sorpresa aveva scosso anche lui mentre mi voltavo per andarmene scorsi ransom che mi guardava con occhi inespressivi capiva la portata di tutto ciò ma riusciva ugualmente a mostrare quel suo sorriso gradevole e assorto indi rientrò nella cambusa e io nuovamente mi precipitai sopra coperta per vedere se vi fosse un po' di vento qualche soffio sotto il cielo qualche refolo nell'aria un segno di speranza nulla era cambiato tranne l'uomo al timone costui appariva male in arnese pencolava con tutta la figura e pareva aggrapparsi ai raggi del timone piuttosto che tenerli sotto il controllo della sua presa gli dissi voi non siete in condizioni di stare qui posso farcela signore rispose fievolmente per la verità non aveva nulla da fare la nave non aveva il minimo abbrivio rimaneva là con la prua occidente l'eterno coring visibile oltre la poppa con alcuni isolotti che navigavano innanzi ai miei occhi confusi senza chiazze nere nel grande riverbero della luce e tranne per quei pezzetti di terra non verono macchie in cielo né macchie sull'acqua alcuna traccia di vapore alcuno sbuffo di fumo alcuna vela alcuna vela imbarcazione alcun segno di vita nulla la prima domanda era che fare cosa era possibile fare la prima cosa naturalmente avvertire l'equipaggio lo feci il giorno stesso non volevo che la notizia semplicemente passasse di bocca in bocca volevo affrontarli faccia a faccia perciò li feci radunare sul cassero e immediatamente prima di uscire a parlare ma accorsi che la vita può riservarci momenti terribili nessun reo confesso si sentì mai tanto schiacciato dal senso di colpa per questo motivo forse il mio viso era fisso e irrigidito e la mia voce secca e priva di emozione mentre dichiaravo di non poter più soccorrere i malati per mancanza di medicinali quanto alle altre cure che potevamo dar loro sapevano di averle già avute penso che se mi avessero fatto a pezzi li avrei giustificati il silenzio che seguì le mie parole fu ancora più duro da sopportare del più furibondo frastuono mi sentivo annientato dall'abissale profondità di tale rimprovero ma in realtà mi sbagliavo con voce che al stento riuscivo a tenere ferme proseguì suppongo abbiate compreso cosa ho detto e sappiate che vuol dire si udì una voce o due sì signore capiamo erano rimasti in silenzio semplicemente perché non pensavano ad essere chiamati a pronunciarsi e quando dissi loro che intendevo far rotta per Singapore e che la miglior risorsa per salvare la nave e l'equipaggio stava nello sforzo che tutti i sani e malati avrebbero dovuto fare per trascinarla fuori da questa situazione ottenne l'incorazzamento di un basso mormorio d'assenso ed una voce più alta che esclamò di sicuro c'è un modo per cavarsi fuori da questo maledetto buco ecco qui un estratto delle annotazioni che scrissi a quel tempo finalmente abbiamo perso l'effetto di ciò è stranamente meccanico il sole sorge e tramonta la notte scivola sulle nostre teste come se qualcuno sotto l'orizzonte girasse una manovella è tutto terribilmente insignificante senza scopo e in mezzo a questo misero spettacolo io vado avanti scalpicciando e scalpicciando sopra coperta quante miglia ho mai camminato sulla poppa di questa nave un testardo pellegrinaggio di pura e semplice irrequietezza variato da brevi puntate sotto coperta per vedere come sta il signor Bones non so se sia un'illusione ma egli sembra ogni giorno più solido non dice molto perché davvero la situazione non si presta a oziosi commenti ciò noto anche negli uomini osservandoli quando si muovono o stanno seduti sopra coperta non si parlano mi colpisce l'idea che se esiste un invisibile orecchio che coglie i sussurri del mondo troverà in questa nave il punto più silenzioso no il signor Bones non ha molto da dirmi rimane là seduto nella cucetta senza più barba con i suoi mustacchi fiammezzanti con un'aria di silenziosa determinazione nella terrea fisionomia Ransom mi dice che divora tutto quanto gli viene dato fino all'ultimo boccone ma quanto sembra non riesce a dormire che molto poco anche di notte quando scendo da basso per riempirmi la pipa noto che sebbene stia lì a sonnecchiave sdraiato sul dorso ha sempre un aspetto molto risoluto dall'occhiata di sbieco che mi lancia quando si sveglia si direbbe seccato come se fosse stato interrotto in qualche difficile operazione della mente e quando torno sopra coperta i miei occhi si trovano di fronte all'ordinata disposizione delle stelle senza nubi infinitamente soffocante eccola stelle sole mare luce oscurità spazio vaste acque l'opera formidabile della creazione nella quale sembra che l'umanità sia capitata per sbaglio non desiderata oppure caduta in trappola proprio come sono caduto in trappola io con questo tremendo funereo comando di notte l'unico punto di luce della nave era la lampada della bussola illuminante il volto degli uomini che si succedevano al timone per il resto eravamo persi nelle tenebre io camminavo avanti e indietro a poppa e gli uomini giacevano sparsi sui ponti erano tutti così debilitati dalla malattia che non si potevano tenere turni di guardia quelli in grado di camminare rimanevano continuamente in servizio distesi nell'ombra sul ponte di coperta quando alzavo la voce per dare un ordine si drizzavano sulle gambe infiacchite un traballante gruppetto che pazientemente si muoveva per la nave quasi senza un mormorio un sussurro scambiato e ogni volta che dovevo alzare la voce era una stretta al cuore di rimorso e di compassione poi verso le quattro del mattino balluginava una luce a prora della cambusa l'immancabile Ransom con la sua disfunzione al cuore ma immune da tutto sereno e attivo preparava il primo caffè per l'equipaggio poco dopo me ne portava una tazza a pop ed era allora che mi concedevo di crollare sulla sedia a sdraio per un paio d'ore di vero e proprio sonno senza dubbio dovevo schiacciare di quando in quando un breve sonnellino appoggiandomi alla battagliola nei momenti di assoluta spossatezza ma francamente non me ne rendevo conto se non per la penosa impressione di convulsi sobbanzi che sembravano invadermi anche quando camminavo verso le cinque tuttavia fino alle sette passate dormivo in modo evidente sotto le stelle che sparivano dicevo al timoniere chiamatemi se c'è bisogno e crollavo nella sedia a sdraio chiudendo gli occhi con la sensazione che per me non potesse più esistere sonno sulla terra poi non avevo coscienza di nulla finché tra le sette e le otto sentivo un tocco sulla spalla e vedevo sopra di me il volto di ransom con quel suo fievole assorto sorriso con i suoi grigi occhi amichevoli che si sarebbero detti teneramente divertiti al mio sonno certe volte il secondo ufficiale saliva a darmi il cambio per la prima colazione ma di fatto ciò non era necessario di solito vera quella calma mortale oppure le aviariette così mutevoli e fuggenti che in realtà non valeva nemmeno la pena di fissare e far scorrere le cime se la brezza fosse divenuta costante il marinaio al timone mi avrebbe dato una voce vele a collo comandante che come uno squiglio di tromba mi faceva balzare a pie pari sul ponte mi sembravano coteste parole capaci di farmi risorgere dalla tomba ma non accadeva troppo frequentemente non ho mai più visto albe con aria tanto ferma e se mi capitava di vedere il secondo ufficiale naturalmente aveva la febbre un giorno su tre lo trovavo seduto sull'osteriggio più morto che vivo diciamo pure con uno sguardo ebete puntato su qualche oggetto vicino una cima una caviglia della nave una galloccia oppure una redancia quel giovanotto era più che altro un peso morto restava là con l'aria da cucciolotto ferito sembrava completamente intronato e quando un nuovo attacco di febbre lo rispediva in cabina dopo accadeva che non lo trovassimo più la prima volta io e Ransom ci allarmammo non poco cominciammo una silenziosa ricerca e infine Ransom lo trovò raggomitolato nel magazzino delle vele che dava nel corridoio attraverso una porta scorrevole sentendosi rimproverare borbottò imbronciato ma qui fa fresco il che non era vero c'era soltanto buio la dentro i difetti essenziali del suo volto non miglioravano con il colore bluastro e livido che aveva assunto ciò che non accadeva per gli altri uomini il logorio protratto della malattia pareva idealizzare i lineamenti di ciascuno ponendo in luce l'insospettata nobiltà di alcuni la forza di altri e solo in un caso rivelando un aspetto essenzialmente comico era costruito un tipo basso rossizzo con un naso e un mento da pulcinella che gli altri dell'equipaggio chiamavano il francesino non so perché forse era francese non l'ho mai sentito pronunciare una parola in tale lingua vederlo giungere a poppa presso la ruota del timone era confortante i calzoni di tela blu arrotolate al polpaccio più lunghi su una gamba che nell'altra la pulita camicia a scacchi il berretto in telaccia bianca evidentemente confezionato da lui stesso gli conferivano nel complesso un'area distinta e bizzarra che assieme all'andatura semplice allegra anche quando il poverazzo riusciva solo a barcollare rivelavano uno spirito indomito verrà anche un uomo chiamato gambril l'unico brizzolato in tutto l'equipaggio costui aveva un volto austero ma anche se rammento tutti i loro volti che drammaticamente deperivano sotto i miei occhi mi rendo conto che i loro nomi sono svaniti nella memoria le parole che ci scambiavamo erano poche e affatto puerili rispetto alla situazione dovevo costringermi a guardarli in faccia mi aspettavo di trovare occhiate di rimbrotto non ve ne erano mai in vero era già abbastanza difficile sopportare le espressioni di sofferenza nei loro occhi ma queste non potevano nasconderle quanto al resto mi chiedo ancora se fosse la tempra della loro anima o la partecipazione della loro immaginativa a renderli così meravigliosi così degni del mio imperituro ricordo per ciò che mi concerne non avevo né animo ben temprato né un'immaginativa adeguatamente tenuta sotto controllo in certi momenti non soltanto avevo l'impressione di impazzire benché d'essere già pazzo tanto che non osavo aprir bocca nel timore di tradirmi con qualche strillo da matto per mia fortuna dovevo soltanto dare ordini è un ordine alla virtù di placare chi lo pronuncia inoltre in me il navigante di professione l'ufficiale di guardia godevano di sufficiente salute mentale ero come un falegname pazzo che costruisca una cassa posso anche costui convinto ad essere il re di gerusalemme la cassa che costruisce sarebbe comunque sana ciò che temevo era mi sfuggisse una nota stridula mandando a monte il mio equilibrio per fortuna ancora non avevo alcun bisogno di alzare la voce quella cupa immobilità del mondo pareva reagire al minimo suono come una galleria acustica bastava un tono da conversazione e le parole sarebbero giunte all'altro capo della nave la cosa terribile era che l'unica voce che udivo fosse la mia specialmente di notte riverberava del tutto sola in mezzo a quelle pianure di immobili velazzi il signor Barnes sempre steso nel letto con quell'aria di intima risolutezza trovava da brontolare su molte cose i nostri colloqui non duravano più di cinque minuti ma erano piuttosto frequenti in continuazione mi accadeva di precipitarmi da basso in cerca di un fiammifero sebbene a quell'epoca non consumassi granché di tabacco la pipa mi si spegneva sempre perché a dirla esatta non ero in uno stato mentale abbastanza tranquillo per farmi una fumata come si deve in vero nel corso delle 24 ore avrei potuto anche sfregar solfanelli in coperta fino a farmeli bruciare tra le dita invece correvo sotto coperta lo facevo per distrarmi era l'unico modo per sopportare una tensione continua e ben si intende attraverso la porta aperta il signor Barnes mi vedeva ogni volta andare e venire con le ginocchia ritratte sotto il mento gli occhi verdastri che mi scrutavano per di sopra era una torva figura fatidica niente affatto gradevole ai miei occhi dato che io sapevo quale pazza idea avesse in mente nonostante ciò di quando in quando dovevo parlargli e un giorno che gli prese a lamentarsi perché la nave era molto silenziosa per ore e ore disse stava lì disteso senza udire un solo suono finché non sapeva più che fare con se stesso quando capita che Ransom è a prua nella cambusa tutto è così calmo che si potrebbe pensare che siamo tutti morti su questa nave brontolò l'unica voce che sento ogni tanto è la vostra signore che però non basta a tirarmi su di morale cosa gli è successo agli uomini possibile che non ce ne sia neanche uno che canta al posto di manovra neppure uno signor Barnes dissi su questa nave non resta manco il fiato per far quello vi rendete conto che certe volte non riesco a radunare più di tre uomini se devo fare qualcosa con tono affrettato ma timoroso chiese nessun morto ancora signore no sarebbe un guaio dichiarò con forza il signor Barnes bisogna impedirglielo se se ne prende uno se li prende tutti al che urlai di rabbia credo di avere anche imprecato per l'effetto conturbante di quelle parole e se intaccavano quel poco di padronanza di me stesso che mi era rimasta già stando ininterrottamente di fazione innanzi al nemico avevo avuto la mia dosi di fantasie raccapriccianti avevo avuto la visione di una nave che va alla deriva nella bonaccia dondolando tra riette leggere mentre tutto il suo equipaggio lentamente muore sparso sopra coperta cose del genere si sa sono anche accadute il signor Burns accolse il mio scoppio dire con un misterioso silenzio sentitemi bene dissi voi stesso non credete a quello che dite non potete crederci non è possibile non sono cose che io possa aspettarmi da voi ne ho già abbastanza di guai nella mia posizione per dover anche badare alle vostre sciocche e fantastiche lie non batte ciglio dato il modo in cui la luce scendeva sulla sua testa rimase incerto se avesse abbozzato un sorriso oppure no cambiai tono ascoltatemi dissi la situazione sta diventando così disperata che mi è venuto da pensare a un certo punto visto che non riusciamo a far rotta verso sud se non fosse possibile virare a ovest e tentare di raggiungere la rotta del battello postale quantomeno potremmo farci dare un po' di chinino che ne dite si diede a gridare no 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 non fatelo signore non dovete dargliela vinta a quel vecchio farabutto se lo fate lui avrà la meglio su di noi lo lasciai era un uomo impossibile gli sarebbe detto indemoniato ma la sua protesta era molto sensata in effetti la mia idea di dirisermi a ovest con la speranza di avvistare quel problematico battello a vapore a un più attento esame non reggeva affatto dalla parte dove eravamo c'era vento sufficiente almeno di quando in quando per trascinarci faticosamente a sud vento sufficiente almeno per tenere viva la speranza ma supponendo che avessi messo all'opera quelle ventate capricciose per veleggiare fuori rotta verso ovest in qualche braccio di mare dove per giorni e giorni non vi fosse un alito di vento cosa sarebbe accaduto quella mia spaventosa visione di una nave alla deriva con equipaggio di morti forse sarebbe divenuta la realtà di una macabra scoperta per qualche navigante di lì a poche settimane nel pomeriggio Ransom mi portò una tazza di tè e mentre mi serviva col vassoio in mano osservò con un tono di comprensione di cui avevo bisogno state tenendo botta molto bene signore sì risposi io e voi siamo stati dimenticati dimenticati signore sì dal demonio che ha portato la febbre su questa nave Ransom mi lanciò una delle sue occhiate rapide intelligenti e simpatiche quindi si allontanò col vassoio mi venne da pensare che avevo parlato più o meno alla maniera del signor Burns la cosa mi diede fastidio eppure spesso nei momenti più bui mi lasciavo andare ad atteggiamenti verso le nostre disgrazie che sarebbero stati più adatti in una guerra contro un nemico vero e proprio già quel demonio che aveva portato la febbre a bordo aveva risparmiato me Ransom ma avrebbe sempre potuto colpirsi era uno di quei pensieri che dovevo scacciare tener lontani da me ad ogni costo prendere in considerazione la possibilità che si ammalasse Ransom la massaia della nave era al di là delle mie forze e cosa sarebbe toccato al mio comando se fossi stato io ad ammalarmi con Burns troppo debole per stare in piedi senza aggrapparsi alla sua cuccetta il secondo ufficiale ridotto a uno stato di instupidimento permanente era impossibile immaginarlo ovvero era fin troppo facile mi trovavo a poppa da solo siccome non vera alcun abbrivio da governare avevo mandato il timoniare a sedersi o stendersi in qualche dove all'ombra gli uomini erano così indeboliti che conveniva evitare ogni inutile dispendio delle loro forze si trattava ora dell'austero Gambril con la barba brizzolata ci allontanò con discreta prontezza ma era tanto infiacchito dai ripetuti attacchi di febbre poveretto che per scendere dalla scala di poppa dovette volgersi sul fianco e tenersi aggrappato con ambe le mani alla ringhiera d'ottone guardarlo né più né meno dava una stretta al cuore eppure non stava molto peggio né molto meglio dei più in quella mezza dozzina di povere vittime che riuscivo a radunare sopra coperta era un pomeriggio terribilmente inanimato da vari giorni apparivano basse nubi in lontananza masse bianche con scure volute che restavano immobili sull'acqua quasi solide eppur mutando impercettibilmente d'aspetto senza sosta verso sera di solito scomparivano ma quel giorno avevano atteso il calar del sole che brillò e si spense imbronciato dietro di loro prima di tramontare le stelle riapparvero sulle nostre teste puntuali e tediose ma l'aria rimase stagnante e oppressiva l'immancabile Ransom accese la lampada nella chiesuola della bussola e scivolò ombra tra le ombre accanto a me non vi andrebbe di scendere da basso per mandar giù un boccone signore mi chiese la sua voce bassa mi fece sobbalzare ero rimasto là in piedi a fissare oltre la battagliola senza dir nulla senza provar nulla neppure spossatezza nel corpo sopraffatto da quel diabolico incanto Ransom chiese di un tratto da quanto tempo sono sopra coperta sto perdendo il senso del tempo quattordici giorni signore rispose lunedì scorso ha fatto due settimane da quando abbiamo levato l'ancora la sua voce pacata aveva un tono d'afflizione attese per un momento indi aggiunse è la prima volta che ha l'aria di voler piovere notai che la vasta ombra all'orizzonte stava spegnendo del tutto le stelle basse mentre quelle sopra il nostro capo quando alzai gli occhi a guardare sembravano brillare su di noi attraverso un velo di fumo come vi fosse giunto come fosse scivolato tanto in alto non avrai potuto dire aveva un aspetto nefasto l'aria non si muoveva a un nuovo invito di Ransom scesi da basso in cabina per parole sue tentare di mandar giù un boccone non so quanto il tentativo sia riuscito penso che in quel periodo la mia sussistenza fosse dovuta al cibo come al solito ma nel ricordo ora in quei dì la mia vita si sosteneva con un'inguaribile ansia quasi una specie di stimolo infernale che al tempo stesso eccita e consuma è l'unico periodo della mia vita in cui abbia tentato di tenere un diario no non l'unico anni dopo in condizioni di isolamento spirituale misi sulla carta i pensieri e gli eventi di una ventina di giorni ma quella fu la prima volta non ricordo come accadde e come il calepino e la penna mi vennero per le mani mi sembra inconcepibile che io sia andato a cercarli di proposito credo mi abbiano salvato da quella trappola pazzesca che è il parlare da soli fatto alquanto strano in entrambi i casi mi diedi a quelle attività in circostanze dalle quali non speravo come suol dirsi di cavarmela né potevo sperare che le mie annotazioni mi sopravvivessero ciò dimostra che si trattava di puro bisogno di sfogo intimo e non di un sussulto ad egotismo debbo fornirne qui un altro esempio qualche riga sparsa che sembra ora ai miei occhi molto irreale tratta da ciò che scarabocchiai quella sera stessa v'è qualcosa che si svolge nel cielo come una decomposizione una corruzione dell'aria che rimane più ferma che mai in fondo sono soltanto nubi che possono o no portare il vento oppure pioggia strano che debbano conturbarmi così ho l'impressione che tutti i miei peccati mi abbiano raggiunto ma forse il problema è solo che la nave non si muove non risponde ai comandi e che io non so cosa fare per evitare che la mia fantasia si lanci pazzamente su tutte le più disastrosi immagini del peggio che ci può capitare cosa succederà forse nulla o qualsiasi cosa potrebbe essere una burrasca in cui andiamo a capofitto e in coperta ci sono cinque uomini con la vitalità diciamo di due potremmo ritrovarci con tutte le vele spazzate via tutte le vele sono abbordate da quando salpammo alla foce del Menam quindici giorni o sono o quindici secoli mi sembra che tutta la mia vita prima di quel fatidico giorno sia infinitamente remota memoria che sbiadisce della mia gioventù spensierata qualcosa al di là di un'ombra sì le vele potrebbero benissimo essere spazzate via e sarebbe per gli uomini come una condanna a morte non vi sono a bordo forze sufficienti a tesarne di nuove pensiero che pare assurdo ma è la pura verità oppure potremmo rimanere disalberati molte navi sono state disalberate soltanto perché non erano manovrate con sufficiente prontezza e noi non siamo in condizioni di brazzare i pennoni è come essere legati mani e piedi pronti perché qualcuno ti tagli la gola e ciò che mi atterrisce è che io evito di andare sul ponte e far fronte alla realtà è un dovere verso la nave verso gli altri uomini che stanno sul ponte alcuni di loro pronti a radunare i residui di forza o mio ordine e io evito di farlo rifuggo dalla semplice vista il mio primo comando adesso comprendo quello strano senso di incertezza nel mio passato ho sempre pensato che avrei potuto non farcela ed ecco la prova sicura sto eludendola non riesco a farcela in quel momento o forse poco dopo mi resi conto che Ransom era nella cabina qualcosa della sua espressione mi diede un sussulto aveva un significato che non riuscivo a decifrare esclamai è morto qualcuno e gli ebbe a sua volta un sussulto morto? no che io sappia signore sono stato nell'alloggio di prua dieci minuti fa e non c'era nessun morto mi avete fatto venire lo spavento dissi era molto confortante ascoltare la sua voce mi spiegò di essere sceso da basso per chiudere l'oblò del signor Burns nel caso venisse a piovere non sapeva che ero nella cabina soggiunse che aria c'è là fuori? chiesi per la verità molto buio signore di sicuro c'è qualcosa nell'aria da che parte? tutto intorno signore ripetei meccanicamente tutto intorno sicuro con un gomito puntato sul tavolo Ransom indugiava nella cabina come se avesse avuto da fare ma non riuscisse a decidersi un tratto chiesi pensate che dovrei essere sopra coperta? rispose subito senza alcuna speciale enfasi ad accentuazione delle parole penso di sì signore balzai all'impiedi di scatto ed egli si scansò per lasciarmi uscire mentre attraversavo il vestibolo udì la voce del signor Burns che diceva ehi cambusiere volete chiudere la mia porta per favore? e la risposta è quanto sorpresa di Ransom certamente signore credevo che tutti i miei sentimenti si fossero intorpiditi fino alla completa indifferenza ma stare sopra coperta mi parve più penoso che mai il buio impenetrabile avvolgeva la nave così da presso che si aveva l'impressione di poter toccare una qualche sostanza preternaturale solo allungando lateralmente una mano vera in tutto ciò un effetto di inconcepibile timore ed indicibile mistero le poche stelle sopra di noi dettavano una luce fioca solo sulla nave senza alcun barbaglio sull'acqua come un pozzo di luce a sé stante che perforava un'atmosfera tramutata in fuliggine era qualcosa che mai avevo visto prima non vi era segno alcuno della direzione da cui sarebbe giunto un possibile mutamento una minaccia ci stringeva sempre più a ogni lato nessuno era ancora al timone era una perfetta immobilità in tutte le cose se l'aria era diventata tutta nera il mare per quanto ne sapevo poteva essere divenuto una cosa solida a nulla serviva a scrutare in ogni direzione a fissare gli occhi su ogni segno speculare sull'imminenza del momento fatale quando fosse venuto le tenebre avrebbero silenziosamente inghiottito quel poco di luce che le stelle gettavano sulla nave e la fine di tutto sarebbe sopraggiunta senza neppure un sospiro un moto o un mormorio di sorta e tutti i nostri cuori avrebbero cessato di battere come orologi scarichi impossibile scrollarsi di dosso quel senso che fosse giunto all'ora estrema la calma che scese in me era come una premonizione di annientamento mi diede una specie di sollievo come se la mia anima si fosse improvvisamente riconciliata con una cieca immobilità perpetua soltanto l'istinto del navigatore sopravviveva intatto nella dissoluzione morale sopraggiunta in me scesi la scala del cassero si sarebbe detto che la luce delle stelle smorisse prima di giungere a destinazione eppure quando chiesi senza ansia siete là marinai i miei occhi scorsero sagome d'ombra che mi sorgevano d'intorno poche quanto indistinte mentre una voce rispondeva ci siamo tutti signore e un'altra si affrettò a rettificare tutti quelli buoni a qualcosa signore sia l'una che l'altra voce avevano un tono calmo e grave senza alcun tratto particolare indicante angustia o scolamento voci del tono pratico dobbiamo cercare di imbrogliare stretta la vela di maestra dissi le ombre scivolarono via barcollando senza dire parola quegli uomini erano divenuti gli spettri di sé medesimi e il loro peso su una cima non doveva gravare più di una torma di fantasmi in vero se una vela venne mai imbrogliata per pura e semplice forza d'animo dev'essere stata quella vela giacché alla lettera su tutta la nave non verono muscoli sufficienti a svolgere il compito e meno che mai quel nostro misero pugno di uomini sopra coperta naturalmente mi posi all'opera per primo essi vagavano dietro di me da una cima all'altra deboli inciampando e ansando fu loro uno sforzo da titani ci volle un'ora almeno durante la quale non udì un suono in tutto il nero universo quando infine l'ultima bolina fu tesa i miei occhi abituatisi al buio scorsero quelle sagome d'uomini esausti a casciarsi sulle ringhiere crollare sui boccaporti uno era aggrappato all'argano di poppa boccheggiante ed io rimasi dritto in piedi tra di loro come un baluardo impervio agli assalti del male e sentendomi solo malato nell'animo attesi per alcuni attimi sostenendo a fatica il peso dei miei peccati il sentimento della mia imperfettezza morale e infine dissi marinai ora andremo a poppa a imbrogliare il pennone di maestra è tutto quanto possiamo fare per la nostra nave dopodiché dovrà affidarsi alla sorte mentre salivamo tutti mi venne il pensiero che bisognava mettere qualcuno al timone alzai la voce in poco più di un sussurro e silenziosamente comparve nella luce di poppa uno spirito rassegnato dentro un corpo devastato dalla febbre occhi incavati nel capo incontroluce sullo sfondo d'oscurità che aveva inghiottito il nostro mondo e tutto l'universo il nudo avambraccio steso sopra l'impugnatura del timone pareva brillare di luce propria mormorai a quell'apparenza luminosa barra al mezzo rispose in tono di paziente afflizione al mezzo signore indi scesi sul cassero impossibile prevedere dove sarebbe giunto il colpo guardarsi intorno era come guardare in un nero pozzo senza fondo in quell'inconcepibile profondità l'occhio si perdeva volevo accertarmi che i cavi fossero stati tolti dal ponte era possibile farlo solo tastando con i piedi muovendomi con cautela mi imbatté in un uomo che riconobbi essere ransom la sua solidità fisica non era stata intaccata dalla malattia e me ne resi conto al contatto stava appoggiato all'argano del cassero in silenzio fu come una rivelazione era lui la sagoma che si era accasciata bocchezzando da me notata prima di salire a poppa avete aiutato a imbrogliare la vela di maestra esclamai a bassa voce sì signore risuonò la sua voce tranquilla Hanson cosa vi è saltato in testa non dovete fare cose del genere dopo una pausa egli convenne sì credo che non dovrei indi dopo un altro breve silenzio soggiunse adesso sto bene in fretta tra due eloquenti ansimi non riuscivo a vedere o udire nessun altro ma quando parlai un afflitto mormorio di risposta riempì il cassero con ombre che parevano vagolare qua e là ordinai che le drizze fossero messe in posizione pronte per la manovra me ne occupo io signore soffri Ransom col suo tono affabile pieno di naturalezza che mi confortava ma impietosiva anche in certo modo quell'uomo avrebbe dovuto riposarsi e chiaramente il mio dovere era di mandarlo a letto ma forse non avrebbe obbedito non avevo la forza d'animo per tentare di farlo dissi soltanto fate adagio Ransom tornato a poppa ma costai a gambril in suo volto dove la luce disegnava ombre incavate aveva un'aria terribile come ridotto a un definitivo silenzio mi chiesi come stava ma non ero certo che potesse rispondermi fui dunque sorpreso della sua relativa loquacità questi brividi mi mettono addosso una fiacca dell'altro mondo disse mantenendo quell'aria indifferente a tutto tranne al suo lavoro che un timoniere non dovrebbe mai perdere e non faccio in tempo a tirarmi su un pochino che arriva il febbrone e mi stende di nuovo sospirò non vera la mentela nel suo tono ma le parole nude e crude bastavano a farmi provare le fitte orribili del senso di colpa il che mi lasciò muto per un attimo quando quella tormentosa sensazione si fu placata dissi vi sentite abbastanza in forza per tenere la barra ferma se la nave abbrivi all'indietro ci mancherebbe che si rompesse qualcosa nell'ingranaggio del timone abbiamo già tanti guai a cui far fronte mi rispose con solo un'ombra di stanchezza che si sentiva abbastanza forte per tenere duro poteva assicurarmi che il timone non gli sarebbe sfuggito di mano e più di tanto non riuscì a dire in quel momento Ransom apparve accanto a me uscendo dalle tenebre nello spazio visibile come se venisse orora al mondo col suo viso tranquillo e la sua voce affabile tutti i cavi erano in posizione disse pronti per la manovra almeno per quanto aveva potuto accertare al tatto era impossibile vedere alcunché il francesino si era posto di fazione a prua diceva di avere ancora qualche cartuccia da sparare qui un fioco sorriso alterò per un attimo il limpido e fermo disegno delle labbra di Ransom e certamente con quel suo sguardo serio negli occhi griso chiaro e la sua indole serena era costui un'impagabile presenza un'anima solida quanto i suoi muscoli era l'unico a bordo a parte me ma io dovevo conservare la mia libertà di movimenti con sufficienti forze nei muscoli su cui poter fare affidamento per un attimo pensai che avrei fatto bene a chiedergli di prendere il timone ma esitai nella consapevolezza del tremendo nemico che portava in corpo ignorante com'ero di fisiologia umana mi venne alla mente che avrebbe potuto morire di un colpo nell'eccitazione di un momento critico mentre codesto tetro timore tratteneva le parole che avevo pronte sulla lingua ransom indietreggiò di due passi e svanì alla mia vista fui subito colto dal disagio quasi mi avessero tolto un sostegno anch'io mi feci innanzi fuori dal cerchio di luce in quell'ombra che mi sorgeva davanti al par d'un muro bastò una falcata il buio prima della creazione doveva essere così esso si chiuse alle mie spalle ed ebbi la cognizione d'essere invisibile all'uomo che stava al timone e del resto io potevo vedere alcunché egli era là solo ed io ero solo e ognuno era solo là dove si trovava eppure ogni forma era sparita alberature vele attrezzature battagliole tutto cancellato nella tremenda uniformità di quella notte assoluta il lampo d'un fulmine sarebbe stato un sollievo da un punto di vista fisico intendo mi sarei dato a pregare per averlo se non mi avesse trattenuto il pauroso timore d'un tuono nella tensione del silenzio in cui ero immerso avevo l'impressione che il primo schianto temporalesco sarei rimasto incenerito e quanto doveva ora accadere con tutta probabilità era proprio lo scoppio d'un tuono paralizzato dalla testa ai piedi e trattenendo il fiato rimasi in attesa con quella tremenda tensione non accadde nulla vero da impazzire ma a un tratto sentendo un dolore sordo e crescente nella parte inferiore del viso mi resi conto che avevo continuato ad arrotare i denti come un pazzo per chissà quanto tempo strano che non mi fosse accorto di farlo ma è così con uno sforzo che assorbi tutte le mie facoltà riuscì a tenere ferma la macella ciò gli chiedeva molta concentrazione e mentre mi impegnavo in questo ero distratto da strani suoni irregolari come un fiocco picchiettare sulla tolla riuscivo ad udire quei suoni uno ad uno o a coppie o a gruppi mentre mi chiedevo cosa fosse quel misterioso diavolerio ricevetti un leggero colpo sotto l'occhio sinistro e sentii un'enorme lacrima che colava sulla mia guancia gocce di pioggia enormi fuoriere di qualcosa picchiettavano tap 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 veci dietro front e volgendomi ansiosamente a gambril lo supplicai di tener duro il timone ma riusciva a malapena a parlare per l'emozione il momento fatale era giunto trattenni il fiato il picchiettare sarei interrotto in modo inatteso così come era cominciato e vi fu un altro momento insopportabile di tensione d'attesa qualcosa come il giro ulteriore di una vita e a mo' di tortura non credo che mi sarei mai dato a urlare ma ricordo la mia convinzione che non vi fosse altro da fare se non mettersi ad urlare d'improvviso ma come potrei darne l'idea ebbene d'improvviso il buio si tramutò in acqua questa è l'unica immagine adeguata un pesante acquazzone un rovescio sopraggiunse con un certo flasfuono non si odia avvicinarsi sul mare e anche nell'aria sono sicuro ma codesto fu tutta altra cosa senza il preannuncio di un sussurro di un fruscio senza un minimo scroscio e anche senza l'ombra di un impatto che si approssima io divenne istantaneamente inzuppato fino alle ossa cosa del resto non difficile dal momento che indossavo solo il pigiama in un istante i miei capelli furono zuppi d'acqua e anche mi scorreva sulla pelle mi riempiva il naso le orecchie gli occhi nella frazione di un secondo ne ingoiai una quantità inverosimile quanto a Gambril ne era rimasto soffocato stava tossendo pietosamente la tosse rotta di un uomo malato e io lo osservai così come si guarda in un acquario un pesce alla luce di una lampada elettrica sagoma elusiva e fosforescente soltanto che a differenza di un pesce Gambril non scivolò via ma accade qualcos'altro si smorzarono entrambe le lampade della chiesuola immagino che l'acqua fosse penetrata anche in loro sebbene non avrei pensato fosse possibile dal momento che entravano a puntino nella nicchia della chiesuola l'ultimo bagliore di luce nell'universo era spento seguito da un'esclamazione di smarrimento che sfuggì a Gambril attentoni andai verso di lui e gli afferrai il braccio magro da non credere non importa gli dissi non avete bisogno della luce tutto quello che dovete fare è tenere il vento dietro di voi quando arriva capite? signor sì signore ma mi piacerebbe avere un po' di luce aggiunse nervosamente nel frattempo la nave rimaneva piantata come una roccia il rumore dell'acqua non scrosciava da vele e alberature scorrendo sul boccaporto di Poppas era di colpo interrotto gli ombrinali del casseretto gorgogliarono e si ingozzarono per un altro poco indi un perfetto silenzio insieme a una perfetta immobilità lasciò intendere che ancora non si era rotto l'incanto di impotenza in cui ci trovavamo in bilico sull'abisso di qualche catastrofe annidata nel buio bazzai in avanti febbrilmente non avevo bisogno di vedere per farmi strada senza incertezza sulla poppa della prima malaugurata nave al mio comando ogni centimetro quadrato della sua tolda era indelebilmente impresso nel mio cervello pure di colpo caddi a pie pari sopra qualcosa atterrando disteso sulle mani e sulla faccia era alcunché di grande e vivo non un cane piuttosto qualcosa come una pecora ma a bordo non v'erano animali come faceva dunque un animale fu un'ulteriore fantastica sensazione d'orrore la cui non potei resistere mi si rizzarono i capelli in testa quando mi rialzai tremendamente spaventato non come chi rimanga spaventato allorché il suo giudizio la sua ragione tenta di fare ancora resistenza bensì tutt'affatto è infinitamente spaventato e diciamo così in perfetta innocenza come un bambino la vedevo quella cosa l'oscurità trasformatasi perlomeno in acqua sarà attenuata un poco era lì ma non mi venna in mente potesse essere il signor Burns che a quattro zampe stavo scendo dal boccaporto fin quando egli non tentò di drizzarsi eppure allora l'idea di un orso fu la prima a venirmi al pensiero grugni proprio come un orso quando la ferrai alla vita c'era tutto imbaccuccato dentro a un enorme pastrano invernale fatto di qualche materia lanosa che pesava troppo per la modesta condizione delle sue forze il suo corpo magro come un chiodo e perso in quello spesso indumento riusciva a percepirlo appena da dove invece il suo grugnito era profondo e sostanzioso malediva la nave senza voci con una massa di cacasotto che andavano in giro come ladri perché non pestavano i piedi mentre bracciavano i pennoni ma è possibile che non vi fosse un solo stramaledetto marinaio in tutta la nave abbastanza in forze per mettersi a gridare tirando un cavo non va bene tirarsi indietro mi attaccò a viso aperto non ci riuscirete a farla in barba quel vecchio farabutto assassino non si fa così bisogna affrontarlo senza tante cerimonie come ho fatto io ci vuole grinta mostrategli che non vi fa paura con i suoi maledetti trucchi conciatelo per le feste santo dio signor Burns disse infuriato cosa diavolo andate cercando cosa vi prende di venire quassù nel vostro stato quello che ho detto grinta l'unico modo per dargli addosso a quel vecchio mascalzone gradasso mentre ancora grugniva lo spinsi contro la battagliola tenetevi qui gli disse bruscamente non sapevo cosa fare con lui lo lasciai in fretta per andare da gambril il quale mi aveva fiocamente avvertito che vera un poco di vento in coffa secondo lui in vero anche le mie orecchie avevano percepito un debole sbattere d'umidi velazzi su in alto ai pennoni il tintinnare d'una scotta alla scata erano quelli suoni lugubri allarmanti e conturbanti nell'immota atmosfera di morte che avevo attorno subito mi tornarono in mente tutti i casi di cui avevo udito parlare i navi disalberate da una raffica mentre sulla tolda non vera abbastanza vento per spegnere uno zolfanello non riesco a vedere le vele di coffa signore di caro gambril scosso dai brividi tenete fermo il timone andrà tutto bene disse con tono fiducioso il poveretto si era completamente perso d'animo io non ero in condizioni migliori era il momento cruciale e io provai un sollievo alla brusca sensazione che la nave si spostasse in avanti come per conto suo sotto i miei piedi udì distintamente il mormorio del vento in cima ai pennoni il sordo cigolare degli alberi più alti sottoposti allo sforzo e tutto ciò prima ancora di percepire la minima corrente d'aria sul viso rivolto a poppa nello stato di muta sospensione d'un cieco all'improvviso una nota più acuta invase le nostre orecchie l'oscurità prese a riversarsi a fiotti sui nostri corpi razzelandoli all'estremo entrambi io e gambril fummo scossi da violenti tremiti col cotone sottile dei nostri panni che aderiva alla pelle gli dissi ora va bene marinaio dovete solo tenervi il vento alle spalle sono sicuro che ce la farete anche un bambino sarebbe capace di guidare questa nave in acque calme rispose burbottando un bambino in salute e io provai vergogna per essere stato risparmiato dalla febbre che aveva stremato le forze di tutti ma non le mie perché più amari fossero i miei rimorsi più pungente il sentimento di non essere all'altezza del comando e più pesante il senso di responsabilità da sopportare la nave aveva preso un notevole slancio quasi all'istante sull'acqua tranquilla la sentivo scivolare senza alcun rumore tranne per un misterioso fruscio sui fianchi a parte ciò non vera in lei movimento né rollio né beccheggio era la stessa disperante immobilità che durava ormai da diciotto giorni da che mai mai avevamo avuto vento da sollevare la benché minima onda d'un tratto la brezza divenne fresca ritenni fosse giunto il momento di rimandare il signor Bans sotto coperta quell'uomo mi infastidiva mi dava l'idea di un lunatico che avrebbe potuto mettersi a vagar per la nave e rompersi un braccio o una gamba o cadere fuori bordo davvero mi rallegrò scoprire che era rimasto fermo ove l'avevo lasciato con sufficiente buon senso tuttavia egli era là che brontolava da solo in modo sinistro era da scoraggiarsi dissi con tono molto pratico non abbiamo mai avuto tanto vento da quando siamo usciti dalla rada ha della spinta questo vento grugnì con alia giudiziosa era un'osservazione da navigante con la testa a posto ma subito soggiunse era ora che venissi sopra coperta ho risparmiato le forze per questo appunto per questo mi capite signore dissi che capivo accennando subito al fatto che sarebbe stato meglio per lui tornare di sotto a riposarsi un poco rispose indignato tornare di sotto no di certo signore che allegria quell'uomo era una bella seccatura e a un tratto divenne litigioso nell'oscurità sentivo la sua eccitazione da pazzo voi non sapete come affrontare la cosa signore non c'è da stupirsi tutto questo per lottare e camminare in punta di piedi non va bene non potete sperare di farla in barba una bestia cattiva furba sempre sveglia come era quello là voi non l'avete mai sentito parlare c'era da farsi rizzare i capelli in testa no no non era matto non era più matto di me era malvaggio dalla testa ai piedi tanto malvagio da spaventare quasi tutti ve lo dico io com'era nell'animo non era altro che un ladro e un assassino e cosa credete che adesso sia diverso perché è morto lui no di certo la sua carcassa è in fondo al mare duecento metri la sotto ma lui è sempre lo stesso latitudine otto gradi venti primi nord sbuffò in segno di sfida con stanca rassegnazione notai che la brezza era diventata più leggera mentre Barnes delirava e ricominciò avrei dovuto buttare quel pezzente fuori dalla nave giù dal parapetto come un cane non l'ho fatto solo per l'equipaggio immaginate fare il servizio funebre per una bestia così il nostro fratello scomparso mi sarei messo a ridere questa era la cosa che lui non sopportava credo di essere stato l'unico che gli risò in faccia quando si è ammalato lo spaventava il nostro fratello fratello scomparso come chiamare fratello uno squalo la brezza era caduta così di colpo che l'abbrivio della nave fece sbattere pesantemente le vele inzuppate contro gli alberi l'incanto dell'immobilità di morta era di nuovo su di noi pareva non esservi via d'uscita accidenti esclamò il signor Barnes con voce sorpresa di nuovo bonaccia gli parlai come se non fosse fuori di sé questa cosa va avanti da diciassette giorni il signor Barnes disse con intensa amarezza un refolo poi bonaccia e tra un attimo la vedrete dondolare con la prua fuori rotta voltata dove vuole il diavolo colse la parola al volo il diavolo è sempre allerta gridò con voce stridula scoppiando poi in una risata stentoria come non avevo mai udito era una risata di derisione di provocazione con uno stridente falsetto di sfida fece un passo all'indietro completamente confuso subito dopo vi fu un sommovimento sul cassero mormorì di costernazione una voce angosciata gridò dalle tenebre sotto di noi chi è che è impazzito adesso? forse pensavano fosse il loro capitano precipitarsi non è il termine adatto per il passo di quei poveri diavoli ma è certo che in un tempo relativamente breve ogni uomo a bordo capace di reggersi si era lanciato verso la poppa grittai loro è il secondo di bordo un paio di voi venite a tenerlo stretto aspettavo che lo spettacolo si concludesse con una specie di lotta tra fantasmi invece il signor Burns interruppe di colpo il suo derisorio falsetto e si rivolse agli uomini strillando furiosamente cani morti che siete avete trovato la lingua credevo che foste muti beh allora ridete ridete vi dico su andiamo tutti insieme uno due tre ridete seguì un momento di silenzio di silenzio così profondo che si sarebbe udita una mosca volare poi l'imperturbabile voce di Ransom pronunciò con tono affabile queste parole credo sia svenuto signore il gruppetto di uomini rimasto paralizzato ora si mosse con fiocchi mormorii di sollievo io lo tengo per le braccia qualcuno di voi lo prenda per i piedi sì fu un sollievo per il momento era zittito per il momento io non avrei potuto sopportare un'altra di quelle stridenti risate da pazzo di questo ero certo e proprio allora Gambril l'austero Gambril le adevita un altro spettacolo vocale lanciò una voce in cerca d'aiuto una voce pietosamente lamentosa nelle tenebre venite a poppa qualcuno di voi non ci resisto la nave sta per andare fuori rotta e io non mi lanciò io stesso a poppa investito da una forte raffica di vento che l'olecchio di Gambril aveva udito sopraggiungere e che ora riempiva le vele dell'albero maestro con una serie di attutiti bisbiglii misti al sordo lamento dei pennoni fece appena in tempo ad afferrare la barra mentre il francesino che mi aveva seguito prendeva tra le brazza l'accasciato Gambril lo spinse di lato gli raccomandò di starsene lì disteso dov'era quindi accorse a darmi il cambio chiedendomi in tutta calma che rotta signore tutta dritta per ora vi porto subito un po' di luce ma tornato indietro incontrai Ransom che recava la lampada di riserva per la chiesuola quel uomo notava ogni cosa badava a tutto portava conforto attorno a sé dovunque andasse mentre mi sorpassava osservò con tono rassicurante che stavano spuntando le stelle era vero la brezza spazzava via la fuligine del cielo irrompendo nell'indolente silenzio del mare si era rotta quella barriera di tremenda calma che ci aveva avvolto per tanti giorni come se un sortilegio gravasse su di noi lo sentivo mi lasciai crollare a sedere sulla panchina dell'ostelizzo sul fianco della nave sorse un bianco esile crinale di spuma sottile molto sottile il primo da secoli e secoli avrei fatto i salti di contentezza non fosse stato per quel senso di colpa che dentro di me inficiava ogni pensiero mi spunta dinanzi Ransom come sta il secondo chiesi ansiosamente è ancora svenuto beh signore è strano Ransom era evidentemente perplesso non ha aperto bocca e ha gli occhi chiusi ma più che altro a me pare che se la stia dormendo alla grossa accolsi questa opinione come la meno preoccupante e comunque la meno fastidiosa fosse svenuto profondamente addormentato il signor Buns per il momento doveva starsene in disparte d'un tratto Ransom osservò credo abbiate bisogno d'un pastrano signore credo di sì sospirai ma non mi mossi sentivo che ciò di cui avevo bisogno erano gambe e braccia nuove perché le mie sembravano affatto inutilizzabili del tutto consunte non mi dolevano neanche più eppure rimasi là in piedi a infilarmi il pastrano quando Ransom lo portò e quando suggerì che sarebbe stato meglio a portare Gambril a prua dissi bene vi aiuto a portarlo sotto coperta ma corsi che ero perfettamente in grado di dargli una mano sollevammo insieme Gambril e gli tentò di aiutarsi trascinandosi con dignità virile ma informandosi pateticamente per tutto il tempo non è che mi lasciate andare quando siamo alla scaletta eh non mi lasciate andare quando siamo alla scaletta vero la brezza continuò a soffiare sempre più fresca e a tutto spiano fresca e sincera allo spuntare dell'alba manovrando il timone con cautela riuscimmo a mettere all'opera i pennoni di prua l'acqua era sempre liscia come l'olio indi ci demmo da fare per tesare i cavi dei quattro uomini che mi erano stati accanto durante la notte riuscivo a vederne solo due non chiesi degli altri dovevano aver ceduto solo per il momento speravo i vari lavori da compiere a prua ci tennero impegnati per ore da che i due uomini che mi davano una mano si muovevano con lentezza e dovevano riposarsi spesso uno di loro osservò che su questa disgraziata nave tutto all'aria di pesare dieci volte più del suo peso fu l'unica lamentela che udì non so poi come avremmo fatto senza Ransom lavorò con noi anche egli in silenzio con un impercettibile sorriso incollato alle labbra di quando in quando gli sussurravo andate piano prendetevela calma Ransom e riceveva una breve occhiata di risposta solo quando si ebbe fatto tutto il possibile per la sicurezza della nave egli sparì nella sua dispensa poco tempo dopo dirisendomi verso prua per un controllo lo scorsi attraverso la porta aperta sedeva retto sul cassone innanzi ai fornelli col capo reclinato all'indietro contro la paratia aveva gli occhi chiusi con le larghe mani si teneva aperta la camicia di cotone sottile scoprendo la possente cassa toracica e si gonfiava indolenti e faticosi ansimi non si accorse di me mi ritrassi senza far rumore avviandomi subito verso poppa per dare il cambio al francesino che a questo punto cominciava a sembrare alquanto malato mi diede le coordinate della rotta in tutta formalità e tentò di avviarsi con andatura briosa ma per due volte barcollò visibilmente prima di sparire ai miei occhi e allora rimasi là tutto solo a guidare la mia nave che scivolava col vento in poppa e beccheggiando di quando in quando persino con lieve rollio poco dopo si presentò a me Ransom con un vassoio la vista del cibo mi mise in corpo una fame da lupo Ransom prese il timone mentre io sedevo a consumare la colazione sulla panchina accanto al boccaporto di poppa sembra che questa brezza abbia fatto effetto sugli uomini sussurrò le ha stesi tutti tutto l'equipaggio sì dissi credo che noi due siamo gli unici ancora in gamba sulla nave il francesino dice che lui ha ancora qualche cartuccia da sparare io non lo so ma non devono essere molte continuò Ransom col suo sorriso assorto è un bravo ometto quello ma poniamo signore che questo vento soffi dappertutto quando ci avviciniamo a terra cosa facciamo con la nave se il vento gira e soffia forte quando siamo sotto costa la nave andrà ad arenarsi oppure resterà disalberata o tutte e due le cose insieme non ve nulla che si possa fare ormai è la nave ad avere il comando possiamo soltanto manovrare la barra è una nave senza equipaggio sì tutti stesi ripete Ransom tranquillamente ogni tanto vado giù a dargli un'occhiata ma non posso fare granché per loro la nave io e tutti gli uomini vi dobbiamo molto Ransom dissi con calore come se non avesse udito continuò a manovrare la barra in silenzio fino a quando fui pronto a dargli il cambio mi cedette il timone prese il vassoio e come colpo finale mi fece sapere che il signor Burns era sveglio e sembrava intenzionato a salire sul ponte non so cosa fare per impedirglielo signore non posso mica restare sempre da basso chiaramente ciò era impossibile infatti il signor Burns non tardò a presentarsi sul ponte trascinandosi faticosamente a poppa dentro il suo enorme pastrano lo guardai con istintivo terrore averlo d'attorno che delirava sulle malie di un morto mentre io dovevo manovrare una nave piena di moribondi che correva allo sbaraglio era una prospettiva tutt'altro che piacevole tuttavia le sue prime osservazioni furono piuttosto sensate sia nel significato che nel tono pareva non rammentare nulla della scena notturna o quantomeno non lasciò più trapelare nulla al riguardo né del resto parlò molto rimase seduto sull'osteriggio dapprima con l'aria ad essere molto malconcio ma poi quella forte brezza che aveva fatto crollare gli ultimi avanzi del mio equipaggio parve infondergli con ogni raffica una nuova riserva di vigore si poteva quasi notarlo a occhio nudo a modi prova del suo equilibrio mentale all'usi di proposito al defunto capitano della nave fui molto contento di scoprire che il signor Burns non mostrava eccessivo interesse per l'argomento ripassò la vecchia storia delle iniquità di quel brutale farabutto con un certo gusto vendicativo indi conclusi inaspettatamente io credo proprio signore che gli fosse svanito il cervello già un anno o due prima di andarsene straordinario segno di guarigione questo a cui non potei offrire l'ammirazione che meritava dal momento che dovevo concentrarmi tutto nella manovra del timone a confronto con la disperata uggiosità dei giorni precedenti quello attuale era un moto vertiginoso due ali di spuma scorrevano sui fianchi della nave il vento fischiava con una nota sostenuta che in altre circostanze mi avrebbe dato il senso della gioia di vivere ogni volta che la vela di maestra tesata com'era si dava a sbattere con violenza tale da schiantarsi contro l'agghiaccio il signor Burns mi guardava con apprensione cosa ritenete che dovrei fare signor Burns non possiamo serrarla né fissarla quasi quasi vorrei che si schiantasse e la facesse finita questo bestiale fracasso mi dà la confusione il signor Burns si torse le mani e all'improvviso gridò ma come farà la nave a entrare in porto signore se non ci sono uomini a far manovra e io non seppi cosa rispondergli beh 48 ore dopo ci riuscì grazie alle virtù esorcistiche di quella tremenda risata del signor Burns avevamo battuto lo spettro maligno rotto il malvagio incanto rimosso il sortilegio ora eravamo nelle mani di una buona ed energica provvidenza essa ci portava a tutta velocità non nasconderò mai l'ultima notte buia ventosa e piena di stelle io ero al timone dopo aver avuto da me la solenne promessa che lo avrai avvertito in caso di bisogno il signor Burns se ne andò a dormire sul ponte accanto alla chiesuola i convalescenti hanno bisogno di dormire Ransom non si mosse per tutta la notte la schiena contro l'albero di mezzana e una coperta sulle gambe sebbene credo che non abbia chiuso occhio per un solo momento la vivacità fatta persona il francesino intrattenendo sempre l'illusione di avere ancora qualche cartuccia da sparare aveva insistito per unirsi a noi tuttavia in ossequio alla disciplina si distese più lontano che poteva sul cassero di poppa accanto alla rastrelliera dei secchi e io ero al timone troppo stanco per essere ansioso troppo stremato per avere pensieri coerenti avevo momenti di cuba esaltazione e subito dopo mi perdevo d'animo in modo orribile all'idea che il castello di prua sull'altro capo di quella buia tolla fosse pieno di marinai febbricitanti alcuni moribondi per colpa mia non importa non era il momento adatto per i rimorsi adesso dovevo guidare la nave nelle ore piccole la brezza si affievolì poi svanì del tutto verso le cinque si rifece viva leggera alquanto permettendoci di puntare verso la rada l'aurora trovò il signor Burns tutto imbiettato con spire di corda alla grata di poppa che dalle profondità del suo pastrano manovrava il timone con mani ossute e bianchissime mentre io a Ransom correvamo avanti e indietro sulla tolda mollando tutte le scotte e le drizze al passaggio indi ci precipitammo verso la punta del castello di prua il sudore per la fatica e il nervosismo scendevano più nemmeno che affiotti dalle nostre teste mentre ci affannavamo per mettere le ancori a pennello non osavo guardare Ransom mentre lavoravamo fianco a fianco gli scambiavamo frasi secche lo sentivo ansimare vicino a me ma evitavo di volgere gli occhi per timore di vederlo crollare e espirare nell'atto stesso di dare tutte le sue forze e per cosa? in vero per un certo preciso ideale era risorto in lui l'esperto navigante non aveva bisogno di ordini sapeva cosa fare ciascuno sforzo ogni movimento era un atto di coerente eroismo non era cosa per me tenere gli occhi su un uomo tanto ispirato finalmente tutto fu in ordine e l'udì dire non è meglio che adesso vada giù ad aprire i compressori signore? si Ransom dissi e neanche allora gli gettai uno sguardo poco dopo mi giunse la sua voce dal ponte di coperta quando siete pronto signore tutto a posto qua con l'argano feci segno al signor Bones di mettere la barra sotto vento e indi lasciai calare le due ancore una dietro l'altra permettendo alla nave di prendere quanta catena ci voleva la prese quasi tutta prima di fermarsi le vele sciolte che sbattevano all'indietro cessarono quel loro esasperante fracasso sopra il mio capo una calma perfetta regnava ora sulla nave e mentre mi piegavo in avanti con un lieve capogiro per l'improvvisa quiete colsi una o due voci lamentose e qualche incoerente sussurro dei malati che fievolmente giungevano dal castello di prua avendo issato sull'albero di mezzana il segnale per l'assistenza medica la nave non fece in tempo a fermarsi del tutto che tre lance a vapore di varie navi da guerra arrivarono sotto bordo e almeno cinque chirurghi della marina si arrampicarono sulla nave rimasero là in capannello scrutando a destra e a manca il ponte di coperta deserto indi guardarono in alto e ne manco lassù si vedeva un sol uomo andai a raggiungerli solitaria figura in pigiama strisce grigie e azzurre con un bianco copricapo di sughero sul capo furono sommamente delusi si aspettavano di dover compiere degli interventi chirurgici tutti si erano portati dietro gli strumenti per operare però si ripresero in fretta dalla delusione meno di cinque minuti dopo una delle lance a vapore si affrettava verso terra con l'ordine di inviare una grossa scialuppa e personale dell'ospedale per il ricovero dell'equipaggio la lancia tornò alla propria nave per caricare alcuni marinai che serrassero le mie vele una di quei chirurghi era rimasta a bordo spuntò dal castello di prua con aria impenetrabile e notò il mio sguardo interrogativo nessun morto sai questo che volete sapere disse in tono assai posato indi soggiunse con meraviglia l'intero equipaggio molto mal ridotto molto mal ridotto ripetè i suoi occhi vagarono su tutta la nave santo cielo chi è quello quello dissi con un'occhiata poppa è il signor bones il mio primo ufficiale il signor bones mentre scrollava il cranio da morimondo in cima al magrissimo collo era uno spettacolo che avrebbe sbalordito chiunque il chirurgo chiese va anche lui all'ospedale oh no risposi scherzosamente il signor bones andrebbe a terra solo se l'albero di maestra crollasse sono assai fiero di lui è l'unico convalescente mi sembra che voi prese a dire il dottore guardandomi fisso ma l'interruppi bruscamente io non sono malato no avete un'aria strana beh capirete sono sopra coperta da diciassette giorni diciassette ma dovete pure aver dormito penso di sì non lo so ma sono certo di non aver chiuso occhio nelle ultime quaranta ore accepicchia andrete a terra subito immagino appena potrò e ho un'infinità di faccende di cui debbo occuparmi allo sbarco il dottore lasciò la mia mano che aveva appreso mentre parlavamo estrasse un tacuino gli scrisse rapidamente qualcosa e strappando la pagina me la porse gli esorto caldamente a farvi preparare questa ricetta a terra potrei sbagliarmi ma credo che questa sera ne avrete bisogno di che si tratta chiesi sospettoso gocce per dormire rispose il dottore seccamente poi direttosi con aria interessata verso il signor Burns entrò con lui in conversazione quando scesi a vestirmi per lo sbarco Renson mi seguì si scusò anche egli voleva sbarcare e avere la sua liquidazione stupito lo guardai egli attendeva la mia risposta con aria ansiosa non penserete di lasciare la nave esclamai in realtà sì signore voglio andare a starmene tranquillo da qualche parte dovunque anche all'ospedale ma Renson dissi non sopporto l'idea di separarmi da voi devo andare mi interruppe ne ho il diritto ansimo e un'ombra di risolutezza quasi selvaggia passò sul suo volto per un attimo fu un essere diverso ed io vidi sotto il valore e la bellezza della persona l'umile realtà delle cose la vita per lui era una grazia questa vita dura precaria ed egli era spaventatissimo della propria condizione naturalmente vi darò la liquidazione se lo desiderate ma frattai a dire soltanto debbo pregarvi di rimanere a bordo sino a questo pomeriggio non posso lasciare il signor Burns completamente solo sulla nave per molte ore si raddolci subito assicurandomi con un sorriso e con la voce naturalmente affabile che comprendeva molto bene quando tornai a bordo tutto era pronto per il trasporto dell'equipaggio era l'ultima dura prova di quell'episodio che nel frattempo aveva maturato e temprato il mio carattere sebbene non lo sapessi fu tremendo essi passavano l'uno dopo l'altro sotto i miei occhi ognuno incarnava il tuo amaro rimprovero fino al punto che insorse in me un senso di rivolta il povero francesino aveva improvvisamente ceduto doviti passarmi innanzi in uno stato di incoscienza col comico volto orribilmente paonazzo e gonfio che respirava con sforzi stentorei più che mai sembrava pulcinella un pulcinella scandalosamente fuori di sé invece l'austero gambril era migliorato per il momento insistette per andare sulle proprie gambe verso la battagliola ovviamente sorretto da entrambi i lati ma quando si trattò di farlo scivolare sulla fiancata fu colto da un improvviso panico e prese a lamentarsi in modo compassionevole che non mi buttino mica giù eh signore dite che non mi buttino giù mentre io continuavo a gridargli nel tono più rassicurante va bene gambril non vi butteranno non vi butteranno la cosa era senza dubbio ridicola i marinai sul nostro ponte ghignavano di sottecchi e persino Ransom in prima fila nel portere aiuto dovette allargare il suo assorto sorriso per un brevissimo istante andai a terra sulla scialuppa a vapore e volgendomi scorsi il signor Burns ora dritto presso la battagliola di Poppa ancora dentro il suo enorme pastrano lanoso la chiara luce del giorno dava un sorprendente risalto alla sua aria da personaggio misterioso e fatidico pareva un orribile spaventapasseri posto a Poppa ad una nave saccheggiata dalla morte a tenere lontani gli uccelli dai cadaveri la nostra storia si era già divulgata in città e a terra furono tutti assai gentili l'ufficio di navigazione mi esentò dal pagamento dei diritti portuali e poiché l'equipaggio di una nave naufragata era alloggiato presso la casa dell'ufficiale non ebbe difficoltà a trovare tutti gli uomini di cui abbisognavo ma quando chiesi di poter vedere il capitano Ellis per un attimo mi fu risposto con tono di compassione per la mia ignoranza che il nostro vice Nettuno se n'era andato in pensione e tornato in patria circa tre settimane dopo la mia partenza ritengo dunque che la mia investitura a capitano sia stata l'ultimo suo atto ufficiale a parte le quotidiane pratiche da sbrigare strano a dirsi ma giunto a terra fui molto colpito dal passo agile dallo sguardo vivace dalla forte vitalità di tutti quelli che incontrai la cosa mi colpì enormemente e tra quelli che incontravo ben si intende vera il capitano Gills sarebbe stato un fatto fuori dall'ordinario se non l'avessi incontrato egli aveva l'abitudine di fare una lunga camminata tutte le mattine che era a terra nella zona commerciale della città scorsi il bagliore della catena d'oro del suo orologio che gli pendeva sul petto fin da lontanissimo e gli irradiava benevolenza cos'è questa storia mi interrogò con sorriso da zio buono dopo una stretta di mano ventun giorni da Bangkok è tutto quello che sapete dissi dovete venire a colazione con me voglio che sappiate esattamente in quale pasticcio mi avete messo esitò per quasi un minuto alla fine si decise con condiscendenza beh va bene dirigemmo i nostri passi verso l'albergo dove con sorpresa mi accorsi che era capace di mangiare moltissimo poi quando la tovaglia venne sgomberata narrai al capitano Gills tutta la storia fin dal momento in cui avevo assunto il comando con tutti i suoi aspetti professionali ed emotivi mentre gli pazientemente fumava un grosso sigaro che gli avevo offerto quindi osservò con pacata saggezza dovete avere addosso una stanchezza considerevole no risposi non stanchezza vi dirò invece come mi sento capitano Gills mi sento vecchio e credo di esserlo tutti voi qua a terra mi sembrate un mucchio di giovincelli bizzosi che non hanno mai avuto preoccupazioni in vita loro non sorrise il suo contenio era insopportabilmente esemplare dichiarò passerà ma sembrate più vecchio questo è vero ah ah dissi no no la verità è che nella vita non bisogna dare troppo peso a niente né al bene né al male la vita ha media andatura dissi con cattiveria non tutti ne sono capaci tra poco sarete contento di riuscire ad andare avanti anche solo a quella andatura replicò con la sua aria di consapevole virtù poi c'è un'altra cosa un uomo dovrebbe far fronte alla sua cattiva sorte ai suoi errori alla sua coscienza e a questo genere di cose perbacco con cos'altro c'è da combattere rimasi in silenzio non so cosa egli vedesse nel mio volto ma bruscamente chiese perbacco siete un pusillanime lo sai dio capitano gills fu la mia sincera risposta questo è giusto disse con calma tra poco imparerete a non essere un pusillanime un uomo deve imparare tutto ed è questo che tanti di quei giovincelli non capiscono beh io non sono più un giovincello no convenne partirete presto torno a bordo subito dissi salperò una delle ancore e il resto della catena dell'altra lo tirerò su quando il nuovo equipaggio sarà a bordo e domattina all'alba sarò già partito ah sì chiese il capitano gills con grugnito di approvazione così si fa ve la caverete cosa credevate che volessi prendermi una settimana a terra per riposarmi dissi irritato dal suo tono non avrò tempo per riposarmi fino a quando non saremo nell'oceano indiano e anche allora ne avrò poco tirò una boccata dal suo sigaro con aria rimuginante come trasformato sì questo è tutto disse con tono meditativo era come se un pesante sipario si fosse alzato rivelando un inatteso capitano gills ma fu questione di un momento soltanto il tempo di soggiungere di riposo ce n'è ben poco nella vita per tutti meglio non pensarci ci alzammo uscimmo dall'albergo e ci lasciamo nella strada con una calorosa stretta di mano proprio quando cominciavo a trovarlo interessante per la prima volta da che l'avevo incontrato appena sulla nave per prima cosa notai ransom sul cassero che sedeva tranquillamente sulla sua cassa da marinaio legata con cura gli feci senno di seguirmi nella cabina di comando dove gli iscrissi una lettera di raccomandazione per qualcuno che conoscevo a terra quando ebbe finito la spinsi attraverso la tavola può esservi utile quando lascerete l'ospedale egli la prese e la mise in tasca teneva gli occhi indirizzati da un'altra parte in un punto qualsiasi il suo viso aveva un'angustiata fissità come vi sentite adesso chiesi adesso non va male signore rispose con rigidezza ma ho paura che venga per un attimo rispuntò sulle sue labbra quell'assorto sorriso io ho una paura matta con questo cuore mi avvicinai tendendogli la mano i suoi occhi che guardavano altrove avevano un'espressione tesa era come uno che stesse ad ascoltare un grido d'avvertimento non volete stringermi la mano Ransom dissi con dolcezza uscì in un'esclamazione arrossì fino a diventare paonazzo quasi mi slogò la mano nella sua stretta e subito dopo rimasto io solo nella cabina lo udì salire la scaletta del boccaporto con cautela gradino per gradino nel timor panico di risvegliare improvvisamente l'ira del nostro comune nemico che era il suo destino di dover consapevolmente portare nel petto fedele